Merli Sabrina, Micozzi Gino, Muzzi Stefano, Novelli Domenico, Pasquali Umberto, Piunti Elena, Piunti Pasqualino, Spazzafumo Antonio, Traini Andrea, è raggiunto il numero regale, Presidente, il Consiglio può iniziare. Sì, nel frattempo è entrata la consigliera Carboni, Merli Sabrina deve inserire la scheda, inserita? Perfetto, allora iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta precedente del 5 di marzo 2022, mettiamo ai voti. Ripetiamo la votazione, questo è un problema tecnico. Traini e Pasquali devono votare. Il sindaco ha votato o no? No, mi ha fatto il sindaco adesso. Non si ha fatto votare, votare. No, c'è un giallo. Ecco, ecco. Ecco, ecco, ecco. Ok, ok. Grazie. Ok, ecco. Allora, 24 sì, perché il voto del signo momentaneamente tecnicamente non lo prende, un astenuto, il Consiglio approva. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo Europa Verde Rinasci San Benedetto, Annalisa Marcheggiani e Paolo Canducci, a oggetto riqualificazione Piazza Mondebello. Prego, consigliera Marcheggiani. All'interrogazione, premesso che il Consiglio comunale si riunisce in data 26 marzo per discutere l'approvazione del bilancio di previsione, che questo passaggio costituisce una precondizione necessaria affinché si possa valutare qualsivoglia progetto o intervento di riqualificazione di aree specifiche della città, che la valutazione delle somme a disposizione costituisce parimenti condizione necessaria per valutare la percorribilità e fattibilità di eventuali progetti di riqualificazione, posto che questa non è l'unica condizione da valutare, che per conoscere l'entità delle somme a disposizione per si fatti interventi, se non vuole essere un mero esercizio di stile, bisogna attendere l'approvazione del bilancio di previsione, che la riqualificazione di Piazza Mondebello è inserita nel vigente piano trennale delle opere pubbliche, originariamente programmata dalla precedente amministrazione per il 2020 e poi slittata a causa Covid dal 2022, con un importo previsto di 400 mila euro. Considerato che nel mese di marzo a mezzo stampa sono state diffuse notizie apparentemente confliggenti in merito alla riqualificazione di Piazza Mondebello, laddove una testata giornalistica ha riportato la notizia data per certo che l'architetto Sfirro starebbe già lavorando al progetto di riqualificazione di tale piazza, anzi, cito testualmente, che il progetto sarebbe già bello e pronto nel cassetto dell'architetto Domenico Sfirro, che sempre secondo quanto riporta la stampa, tale progetto, già ribattezzato il mercato delle erbe del futuro, è frutto della volontà dell'amministrazione Spazzafumo di riproporre la soluzione del mercato coperto, come quello smantellato qualche anno fa a causa delle coperture in amianto, che addirittura in queste settimane diversi consiglieri avrebbero già visionato la bozza del progetto dell'architetto Sfirro, come pure pochi fortunati commercianti della zona, che sull'argomento alla stampa raccolta e pubblicato anche le dichiarazioni del capogruppo di Libera, Stefano Gaetani, dichiarazioni che confermerebbero il progetto in itinere, confermando l'idea di un mercato coperto ispirato alla boccheria di Barcellona o al mercato centrale di Firenze, dove, oltre alla vendita al dettaglio, sarebbero previste anche delle aree per il consumo dei prodotti, che invece, con altro articolo pubblicato sulla Nuova Riviera, si riportano le dichiarazioni del consigliere Fabrizio Cabriotti che vanno in direzione opposta, e cioè che la maggioranza si sarebbe confrontata su Piazza Montebello, come su altri argomenti, ma che la priorità resta la provvizione del bilancio di previsione, che prima di questo non è possibile valutare fondi a disposizione e che gli interventi su Piazza Montebello sono ancora da discutere. Insomma, che nulla è stato deciso, stante una generica volontà di riqualificare la piazza. Oltretutto sulla questione peserebbero, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, i dubbi manifestati da una parte della stessa coalizione di maggioranza. Rilevato che il Comune è anorganico presso i propri uffici dei tecnici qualificati, la cui mansione prevede anche la progettazione di opere pubbliche, come quella riguardante la riqualificazione di Piazza Montebello. Che negli articoli pubblicati sia Gaetani sia Capriotti fanno riferimento alla necessità di incercettare e accedere a fondi del PNRR, non meglio identificati in relazione al progetto di riqualificazione di Piazza Montebello. Progetto che sembrerebbe essere già in pozza, secondo le dichiarazioni di Gaetani, e di là da venire secondo quelle di Capriotti. Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco, chiedendogli di far luce sulla reale situazione relativa al citato progetto di riqualificazione di Piazza Montebello. Nello specifico, se ad oggi la riqualificazione è da annoverare semplicemente tra i desiderati di questa amministrazione, in attesa di chiarire le entità delle somme da destinare a tale opera per le casse comunali, o se più concretamente esiste già un progetto definito in fieri e con quali finalità. Se è vero, nel caso vi fosse un progetto, che, come riportato dalla stampa, l'architetto Domenico Sfirro sarebbe il tecnico esterno incaricato per l'elaborazione di tale progetto, o se sono coinvolti altri progettisti o sterni agli uffici comunali. In tal caso si chiede al Sindaco di chiarire a che titolo l'architetto Sfirro o altri progettisti esterni sarebbero prestando la loro opera di ingegno, posto che un tale incarico esterno deve essere portato in Consiglio e votato dai consiglieri. Si chiede se ad oggi esiste un affidamento diretto o un accordo di qualsiasi natura tra questa amministrazione e l'architetto Sfirro o altri progettisti esterni e se questa amministrazione intende farlo in futuro. In ogni caso di chiarire quali sono i termini di questo accordo, chi li ha promossi ed eventualmente sottoscritti ed in particolare trattandosi di accordi a titolo oneroso, di chiarire l'entità del compenso economico eventualmente pattuito per tali prestazioni, stante l'eccezionalità dell'eventuale incarico, visto che questa amministrazione è dotata di uffici tecniche preposti alle stesse funzioni, senza ulteriori spese. Si chiede anche di chiarire, sempre qualora esiste tale tipo di accordo tra l'amministrazione e progettisti esterni agli uffici comunali o l'intenzione di procedere in tal senso. Quali sarebbero i motivi che portano ad escludere qualsivoglia forma di bando o procedura concorsuale, nello specifico un concorso di idee, ma ancor meglio un bando di progettazione o un appalto concorso. Inoltre, vista la più volte richiamata necessità di intercettare i fondi del PNRR per realizzare la riqualificazione di Piazza Montebello, come pure altre opere, vede il Ballari, si chiede al Sindato di chiarire se questo è un modo edulcorato per far capire che le casse comunali non hanno la disponibilità, quantomeno complessiva, per finanziare tale opera, oppure se si conosce l'esistenza di bandi già pubblicati o in procinto di esserlo, con caratteristiche tali per cui uno specifico progetto di riqualificazione di Piazza Montebello potrebbe godere dei relativi finanziamenti. In tal caso, chiediamo al Sindaco di condividere con il Consiglio tali informazioni, anche per comprendere meglio, ove mai venisse confermato un incarico diretto a terzi, quali sono le necessità che avrebbero portato questa amministrazione a bypassare il coinvolgimento degli uffici comunali ed anche tutte le procedure concorsuali possibili per procedere invece attraverso un incarico esterno per affinamento diretto. Infine, visto che la riqualificazione di Piazza Montebello è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, dunque afferente all'attività dell'assessorato ai lavori pubblici, come mai i più informati segnalano che interlocutore unico di tutta questa vicenda risulta essere sempre e solo l'assessore all'urbanistica Gabrielli? Grazie consigliera Marcheggiani, la parola al sindaco per la risposta, grazie. Praticamente cinque minuti di lettura per due articoli sul giornale, mi sembra una cosa esagerata secondo me per quello che ho ascoltato. C'è un dato certo, che nel 2008-2009 il mercato coperto è stato abbattuto e all'epoca l'assessore era la persona che sta seduta di fianco a lei e la cosa certa è che da quel momento in poi c'è stato il vuoto assoluto. Sono passati praticamente 15 anni, più o meno, sono 15 anni che quella piazza non ha page e praticamente oggi lei mi viene a fare un'interrogazione su quelle che sono le intenzioni che comunque non abbiamo. Lei ha degli informatori che molto probabilmente hanno già fatto i progetti, magari se li chiama e li fa venire in comune, li visiono e ne posso anche discutere con lei. Piazza Montebello è uno dei vuoti che l'amministrazione Gaspari ci ha lasciato, l'amministrazione Piunti ci ha lasciato. Piazza Montebello è la piazza che la città di San Benedetto vuole sicuramente rivalutata a tutti i costi. È un punto vuoto della città e ha bisogno che sia rivalorizzata. È chiaro che nel momento in cui questa amministrazione decidesse di rivalorizzare quella piazza lo farà prima con gli abitanti di quel quartiere e poi con la città. non abbiamo, non facciamo come hanno fatto altri che presentano progetti e vanno poi per la strada propria. Noi faremo tutto in trasparenza. È lontano da noi il pensiero di fare cose fuori dalla legalità. Questo mettetevelo in testa. Questa amministrazione lavora in trasparenza. Lo sta facendo già da quattro mesi, da cinque mesi e lo sta dimostrando. La progettualità che abbiamo per Piazza Montebello sicuramente in futuro sarà un progetto che dovrà coinvolgere tutta la città perché dovrà essere rivalorizzata non solo la piazza ma anche tutto il quartiere che comunque è stato abbandonato da tantissimi anni. Fatemi un giro e capirete insomma che tra asfalti, fogne, non si può andare a fare un lavoro perché comunque c'è la paura che possano danneggiarsi le fogne sotto gli asfalti. Nessuno ci ha voluto mettere mano. È un po' come Piazza Colbe, un po' come Piazza San Pio. È tutte quelle cose incompiute che noi ci siamo trovati da vent'anni a questa parte e che forse con un po' di buona volontà riusciremo a risolvere. Stiamo cercando appunto di mettere a posto quello che gli altri hanno danneggiato. Questo è il mio compito ed è il compito di questa amministrazione. È chiaro che io non mi faccio bacchettare da chi scrive sul giornale che ci può stare insomma, che la giornalista possa fare informazione per notizie ricevute, per informazioni ricevute. Ma in Consiglio Comunale che mi si faccia un'interrogazione di questo genere onestamente mi aspettavo d'altro, mi aspettavo. Io so che gli uffici comunali hanno personale qualificato per poter fare progettualità. Lo so, tant'è che stiamo lavorando con loro. Poi il coinvolgimento dell'assessore Gabrielli. Cioè, casomai devo parlare con Tonino Capriotti, che è l'assessore di riferimento. Sono tutte informazioni che comunque non hanno una base, non hanno un senso. Addirittura coinvolgere Stefano Gaetani o Fabrizio Capriotti. Io lavoro per atti concreti, non certo per sentito dire. Questa è la cosa principale. Poi dopo ragazzi, se voi volete lavorare con il sentito dire, accomodatevi. Non è arte mia, questo è chiaro. Concludo dicendo che comunque per Piazza Montebello, quando sarà il momento, cominceremo a fare delle valutazioni cercando di andare ad ultimare i lavori che qualcuno ha cominciato, ovvero con la demolizione ma non con la ricostruzione. Solitamente quando si demolisce un palazzo è perché dietro c'è un progetto per ricostruirlo. In questo caso è stato demolito un mercato che comunque poteva essere risistemato, ma è stato demolito ma non è stato ricostruito niente. Perché dietro a una demolizione non c'era un progetto. All'epoca l'assessore Ganducci era presente in quelle sale quando succedeva questo. E oggi mi viene a dire che l'intenzione mia è di fare accordi con professionisti sotto banco per andare a fare progetti diretti bypassando quello che è il normale ITER. Vi sbagliate. Non funziona così con me. Questo è tutto. Grazie Sindaco, la replica del Consigliere Marchigiani. Io ringrazio il Sindaco per questa risposta e per questi chiarimenti. Certo, anch'io mi meraviglio. Mi meraviglia il fatto che questa interrogazione possa sembrare strana. Questa interrogazione non è assolutamente strana perché è, diciamo, portare, questo significa portare in consiglio quelle che sono le informazioni che sono uscite sui giornali. Quindi lei giustamente dice che io do gli informatori. Io leggo i quotidiani esattamente come li legge lei, Sindaco, come li legge tutta la cittadinanza di San Benedetto. Per cui un'interrogazione su Piazza Montebello, visto gli articoli che sono usciti, e io non ho modo di ritenere che la stampa non sia ben informata, anche perché mi sembra che di recente sia uscita, dopo questa interrogazione, anche un ulteriore articolo dove addirittura si dà per certo. Io oggi, questo mi aspettavo di sentire, che si sarebbe optato per il progetto di riqualificazione di Piazza Montebello dell'architetto Farnus del 2018 e perché anche questa notizia l'ho letta sui giornali. Per cui lei oggi non me lo conferma, mi dice che se ne riparlerà in futuro, i lavori erano previsti al 2020, poi slittati al 2022, si faranno nel 2023, per cui quantomeno oggi mi aspettavo la conferma su che genere di opera si andrà a realizzare, visto che la stampa ha già detto che si metterà in atto il progetto di Farnus del 2018. Per cui questa non è un'interrogazione strana, è un'interrogazione che dà la possibilità al sindaco che gentilmente mi ha risposto di chiarire quelle che sono le notizie che sono uscite a mezzo stampa e che sicuramente hanno acceso i riflettori sulla riqualificazione di questa piazza che costituisce evidentemente un punto di discordia nella maggioranza, perché questo nasconde il botta e risposta che abbiamo assistito sui giornali tra chi sponsorizzava e dava per certo un'opzione e chi invece la negava. Lei mi dice che non è così, io ne prendo atto, però ripeto, queste sono notizie che escono dalla stampa che quindi tutta la città di San Benedetto ha letto e quindi l'interrogazione è importante perché le ha dato modo, proprio perché lei è il sindaco, di replicare a suo dire all'infondatezza di queste notizie e del resto la riqualificazione di Piazza Montebello è prevista per 2023, nel 2023 noi saremo ancora qui e vedremo l'happy end di questa vicenda, per cui io la ringrazio per la sua risposta, ma ripeto, l'interrogazione è quantomeno chiarificatrice e chiarimenti li ha dati lei personalmente di quelle che sono le notizie pubblicate sulla stampa e io personalmente non ho motivo di ritenere che l'opzione di riproporre il mercato coperto con l'architetto Sfirro fosse una butade, non ne ho proprio motivo, comunque la ringrazio per la risposta. Grazie consigliera Marcheggiani, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, interpellanza a iniziativa del consigliere comunale Lorenzo Marinangeli a oggetto richiesta, motivazione, presenza non continuativa vigile e guardie giurate presso mercato ittico. Prego consigliere Marinangeli. Marcheggiani deve impegnare il microfono per l'opera. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Oggi torno a parlare ancora del vigile urbano al mercato ittico. Ritornando indietro al 18 dicembre nel primo consiglio comunale dove presentai una mozione dove c'erano diversi punti tra cui l'importanza della presenza del vigile urbano che a volte in alcuni giorni della settimana non era presente. Fu approvata da voi, da questa amministrazione, da tutto il consiglio, fu approvata l'ananimità e capisco bene che per ciò che riguarda i lavori occorre del tempo, bisogna trovare le risorse. Pensavo però che per ciò che riguardasse il vigile urbano fosse una cosa immediata, urgente. Anche se a conoscenza che l'organico è al di sotto della nostra città, però per punti nevralgici importanti come il mercato ittico si deve trovare per forza la necessità di fare una presenza costante in quelle quattro mattine che abbiamo. Perché è inutile che ritorno sul discorso dell'importanza del mercato ittico che riveste come persone che ci lavorano durante la notte, l'altra volta fece riferimento al cuore che batte mentre la nostra città dorme e che nonostante ad oggi possiamo dire che siamo tra i porti più importanti d'Italia a tutt'ora d'oggi e quindi per quelle persone che ci lavorano occorre dargli quel rispetto e quelle giuste misure di soprattutto di disobbligo perché ricordiamo che i nostri commercianti pagano un fitto di 1200 euro al mese come struttura, la quale sappiamo che purtroppo è fatiscente e in molti locali ci piove, pur avendo questa pazienza di aspettare logicamente il tempo che occorre per apportare i vari segnali che avevo proposto, occorre perlomeno andare avanti per quello che è la legge perché la legge non si può non rispettare, la prima cosa da rispettare è la legge e chi impersonifica la legge la deve far rispettare subito, immediatamente, questo è importante ma poi è importante anche come figura, come situazione, quindi oltre a questo poi abbiamo anche il discorso delle guardie giurate che ultimamente non l'ho vista più in presenza, il nostro direttore, persona altamente in gamba negli ultimi tempi abbiamo messo i cartellini che entrano nel mercato ittico solo gli addetti ai lavori e quindi la figura della guardia giurata aveva proprio questa valenza qui far entrare le persone solo con i cartellini, le persone dove avevano obbligatoriamente la mascherina e tutto il resto ultimamente non l'ho vista più, poi penso che il contratto sia scaduto, vada rinnovato e quando prima vengono rimesse al lavoro e poi ritornando sempre a questo concetto che io prima magari lo facevo presente un po' da commerciante e non venivo ascoltato ora sono un consigliere che mi trovo lì al mercato ittico come operatore e vorrei portare un concetto alla nostra amministrazione che noi il mercato ittico deve essere uno di quei punti come tutta la città deve avere la sua importanza bisogna ridargli quella dignità, la stessa dignità che ha un commerciante che si trova su via Montebello così la deve avere lo stesso commerciante che opera al mercato ittico non deve essere un commerciante meno considerato o un pescatore meno considerato rispetto a un commerciante che sta in via Montebello o su viale De Gasperi quindi secondo me bisognerebbe cercare di rivalutarlo, migliorarlo, renderlo più importante ancora di quello che è e la figura del vigile è importante e fondamentale perché penso che quando il nostro lungomare sarà ultimato penso che sia uno dei più belli d'Italia perché il nostro mercato ittico deve essere uno dei più brutti d'Italia deve essere sempre e comunque trascurato e non considerato questo ve lo chiedo e vi chiedo un'attenzione in futuro sempre più particolareggiata e sempre più attenta dato l'importanza che il luogo riveste grazie grazie consigliere Marinangeli risposta del sindaco Lorenzo esci un po' fuori dal mercato ittico c'è un mondo fuori c'è un mondo che comunque deve essere seguito deve essere ammirato io capisco che la tua giornata inizia e finisce lì però insomma deve essere martellante allora proprio perché ti voglio bene Lorenzo e tu lo sai perché ci lega un'amicizia di vecchia data è vero tu nei primi consigli comunali mi hai sollevato delle obiezioni sul mercato ittico io sono venuto personalmente ritorno a dire le stesse cose sono venuto personalmente a visitare il mercato ittico alle tre e mezza constatando delle brutture che all'interno del mercato ittico c'erano mi fa piacere che tu evidenzi tutto quello che non funziona che non ha funzionato perché parli di un'amministrazione che era precedente alla nostra quindi stai parlando di tutto quello che non funzionava negli ultimi cinque anni forse dieci anni mi fa piacere che lo evidenzi perché almeno dai risalto un pochettino alle cose che facciamo noi allora le cose che facciamo noi caro Lorenzo le puoi iniziare ad osservare nelle foto che io sto proiettando perché sai quando devo rispondere mi devo anche documentare e dalla mia visita al mercato ittico fatto alle tre e mezza di notte ho fotografato dei punti che erano critici nell'immediato erano cose che andavano fatte nell'immediato e le puoi constatare perché poi conoscendo, vivendo il mercato ittico puoi vedere insomma le migliorie che sono state fatte e quindi questo è già un primo passo è un primo passo considera che fino a cinque anni fa di passi non ce n'era nemmeno uno anzi c'erano tutti i passi indietro in questo momento stiamo andando avanti vedi che c'è stato il rifacimento anche di attrezzature sono state fatte scale di emergenza cioè sono state fatte cose immediate, importanti, necessarie ok? poi te mi parli del vigile allora io qua ti devo smentire però perdonami, perdonami mi sono documentato anche con il comandante e io ho detto comandante ma fa fare la brutta figura con Lorenzo insomma se no questo ogni volta in consiglio comunale mi dice i vigili, i vigili e io non ho fatto altro che scrivere al comandante e dirgli comandante mi dai due informazioni, due notizie e giustamente il comandante mi ha detto sindaco riprendo un po' i dati abbi pazienza un attimo e il comandante mi dice dall'ultimo consiglio dove lamentavi la presenza di vigili al mercato ittico il vigile è mancato due giorni solamente due giovedì mentre tutti gli altri giorni erano presenti allora va bene che la critica ci sta va bene che ci solleciti a fare meglio noi stiamo facendo meglio perché lo sto proiettando insomma parliamo di di materiale costoso che viene che è stato sostituito che è stato aggiornato i vigili li abbiamo mandati sono mancati due giorni molto probabilmente ci sono state delle priorità chiamiamole forse un po' più importanti e quindi l'assenza è stata giustificata per questa motivazione però i passaggi al mercato ittico li stiamo facendo c'è l'assessore c'è l'assessore c'è l'assessore camaioni che 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 in maniera proprio pressante cioè mi mi sollecita anche nella nel portare avanti quelle opere che che sono necessarie ma io sto cercando di portare avanti altro altre cose che tu non mi non mi stai non mi stai non mi stai enunciando ma che io ho visto che ho fotografato io sto portando avanti delle ristrutturazioni per il mercato ittico che tu non mi solleciti ma che io ho visto quindi Lorenzo abbi fede sui vigili ci sistemiamo una volta che faremo il concorso che metteremo dentro altre altre persone che purtroppo da parecchi anni mancano nel corpo dei vigili magari riusciremo a dirti definitivamente guarda stai tranquillo dormi sereno fai la tua attività e il mercato ittico sarà sotto controllo del comando dei vigili gli abbiamo dovuto trovare una casa al comando dei vigili non è stato facile piano piano li troveremo li sistemeremo pure poi sistemeremo il corpo dei vigili aumentando le persone il personale perché giustamente il comandante me l'ha anche sollecitato poi dopo di che verrai accontentato ma nel frattempo non è che ti abbiamo lasciato a piedi quindi Lorenzo stai tranquillo stai sereno che le cose come le stiamo migliorando lì e le puoi vedere perché sono tangibili sono pratiche miglioreremo anche le altre attività che tu giustamente mi solleciti però ti chiedo da qui ai prossimi cinque anni vedi magari di andare a a sollecitarmi altre attività che sono ancora più importanti per la città ripeto essere sollecitato a me fa piacere perché poi quando trovo l'argomento giusto che mi viene presentato sono il primo ad andare ad incidere sugli assessori sui consiglieri andiamo oltre se vogliamo crescere andiamo oltre il porto ha bisogno il porto ha bisogno di altre prospettive ha bisogno di altri io stamattina prima del consiglio comunale stavo parlando di porto con delle persone ho dato appuntamento qui alle otto e in quarto a delle persone per parlare del porto per trovare ulteriori sviluppi sul porto quindi ci sto lavorando quindi stai tranquillo Renzo grazie grazie sindaco la replica al consigliere Marinangeli prego allora caro sindaco apprezzo che prima di essere sindaco sei un imprenditore e si vede perché sai vendere benissimo sai vendere benissimo però ti scontri con uno che sa vendere pure ti scontri con uno che è un consigliere un imprenditore anch'io quindi riprendendo l'interrogazione io sono tornato e rimango ancora fossilizzato lì io la città l'ambo per intero ma lì ci vivo quindi se il vigile ci sarebbe stato io non avrei portato un'ulteriore interrogazione il 12 di febbraio e non avrei portato un'interpellanza ad oggi è vero che dall'ultimo consiglio che è stato quello del 5 marzo sono passati tre giovedì l'ultimo giovedì avanti ieri c'era la guardia il vigile palestini ma perché già veniva dal sollecito dell'interpellanza di Lorenzo cioè io mi sveglio le due di notte dico sempre che chi si sveglia molto presto non per dire chi si sveglia più tardi che non è stupido cioè certe cose le percepisce e le capisce riguardo invece al 12 febbraio direi al nostro comandante che di giovedì ne sono più di uno e c'è stato anche in precedenza anche due giorni alla settimana su quattro comunque secondo me non dovrebbe mancare nemmeno un giorno siccome sono giorni programmati perché questo ragazzo studia fa un corso quindi nel programma si programma questo dicendo tutti quei lavoretti lì io li ho visti mentre li fa addirittura non è che non ne sono a conoscenza e ho fatto già un elogio al nostro direttore attuale che è un ragazzo attento che si vede che gli piace logicamente io amando San Benedetto che possa amare devo amare per forza la Samba il Porto la Pesca i nostri cittadini ma l'amo tutta ma se cominciamo partiamo da dove vivo da dove lavoro poi man mano ci allarghiamo su tutte su tutte le varie situazioni che ci comprendono questo me l'ha fatto mia suocera me l'ha fatto dove me lo metto ho detto suocera se me lo fai me lo metto nel mio banco questo capito chi mi conosce lo sa che l'amo San Benettese che l'amo San Benetto del Trondo come lo stesso faccio il consigliere lo faccio per passione non certo per altri scopi dove mio padre mi ha lasciato un bel cognome e dove io voglio cercare di lasciarlo ai miei figli col massimo rispetto dei San Benettesi della città che abbiamo una città bellissima sforziamoci per farla più bella possibile e io ti romperò l'anima nell'applicarti per questo grazie 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 consigliere marinangeli quarto punto all'ordine del giorno interrogazione a iniziativa dei consiglieri del gruppo consigliare Europa Verde rinasce San Benedetto Paolo Canducci e Annalisa Marcheggiani in merito ai lavori di realizzazione Infopoint didattico presso la torre sul porto nella riserva naturale regionale della Sentina prego consigliere Canducci Buongiorno Presidente buongiorno a tutti faccio una premessa chiaramente come si vince dalle date si tratta di un'eredità lasciata dalla precedente amministrazione ma questo cambia poco caro sindaco perché oggi noi parliamo con voi che amministrate non possiamo parlare con nessun altro e quando ci siamo candidati conoscevamo qual era la situazione perché io lo ripeto fino allo sfinimento se fossero stati bravi oggi ci restavano loro lì al posto vostro fatta questa premessa leggo l'interrogazione premesso che la riserva Sentina non dispone all'interno dell'area protetta di un luogo nel quale svolgere attività di educazione ambientale e da utilizzare anche come punto informativo rivolto all'accoglienza dei visitatori e turisti che il comitato di indirizzo della riserva Sentina nel 2012 individuava come possibile sede dell'aula didattica e dell'info point il manufatto annesso alla torre sul porto che nel 2015 l'amministrazione Gaspari reperiva le risorse necessarie per finanziare la realizzazione di questo progetto per un totale di circa 214 mila euro che sempre nel 2015 viene affidato l'incarico di coprogettazione a professionisti esterni che nel 2016 veniva approvato il progetto definitivo che nel 2017 si avviava la procedura di gara per l'affidamento dei lavori con aggiudicazione definitiva all'impresa manutenzione SRL di Molfetta che presentava un'offerta con un ribasso del 42,71% che nei primi mesi del 2018 veniva sottoscritto il contratto e versato un anticipo all'impresa di 20 mila euro che l'impresa incassato l'anticipo iniziava i lavori con oltre sei mesi di ritardo interrompendoli poco dopo e abbandonando il cantiere rilevato che ad oggi dopo tre anni dall'inizio dei lavori il cantiere è fermo e non sono noti i motivi che impediscono all'impresa giudicataria di completare l'opera rispettando il contratto o a comune di risolvere il contratto e sostituire l'impresa considerato che la riserva naturale sentina dalla sua istituzione ospita ogni anno migliaia di studenti ed è frequentata da migliaia di visitatori e turisti e rappresenta sempre più un'area naturale di rilevanza nazionale e internazionale che per questi motivi è in dubbio la necessità di dotare questo spazio di un servizio essenziale come quello rappresentato da un punto informativo e da un'ala didattica che altrettanto in dubbio non limitare l'intervento alla sola realizzazione dell'aula didattica e polio informativo ma estenderlo a completamento della ristrutturazione della torre sul porto avviata dall'amministrazione Gaspari con il recupero delle facciate e del tetto ma non dei locali interni che potrebbero essere destinati in futuro a sede del comitato di indirizzo della riserva naturale sentina tutto ciò premesso si chiede al sindaco di conoscere quali sono le cause che da oltre tre anni imprediscono il completamento dei lavori di realizzazione dell'aula didattica e del punto informativo della riserva sentina di conoscere quali azioni intende intraprendere per garantire entro l'anno 2022 il completamento dei lavori di realizzazione dell'aula didattica e del punto informativo della riserva sentina di conoscere se a volontà della sua amministrazione stanziare i fondi necessari per la ristrutturazione dei locali interni della torre sul porto grazie grazie consigliere Canducci la risposta al vice sindaco Capriotti grazie Paolo per la ricostruzione ti faccio merito della ricostruzione dettagliata e anche corretta a parte qualche esaltazione bisogna tu hai descritto diciamo bene quello che è successo e si evidenziano alcune cose riguardo alla sentina che sono un pochino complesse tant'è vero che il comitato di gestione è composto dalla regione dal comune di Ascoli dal comune di San Benedetto e dalle associazioni insomma allora a suo tempo la regione destinò dei fondi alla riserva sentina era il periodo in cui tu amministravi giustamente da allora avete fatto quello che dovevate fare il progetto eccetera dopodiché si è arrivato lamentava l'andamento rallentato nell'esecuzione dei lavori legandola all'emergenza pandemica connessa alla diffusione del virus siamo tuttavia appunto evidenzia che la stessa è stata dichiarata nel mese di gennaio 2020 ben oltre il termine tra l'altro previsto di ultimazione dei lavori che era il 12 febbraio 2019 di fatto l'impresa aveva abbandonato il cantiere nella complessità di gestione ti faccio notare che la direzione dei lavori spetta al comune di San Benedetto il responsabile unico del procedimento è l'architetto Galanti del comune di Ascoli quindi diciamo non stanno tutti a capo a San Benedetto queste situazioni tal elemento fu evidenziato appunto dal direttore dei lavori cioè che la ditta avesse abbandonato i lavori al RUP questa è stata mandata una nota il 3.11.2020 siamo ancora nella fase della precedente amministrazione il responsabile unico del procedimento ha avviato le procedure di risoluzione contrattuale che chiaramente la ditta per lavorare non c'era però gli avvocati ce li metteva tutti per cui hanno ovviamente avuto fatto resistenza da parte è stata una resistenza da parte dell'impresa appaltatrice parliamo sempre fine 2020 quindi entriamo nel 2021 nel frattempo l'impresa appaltatrice ha chiesto di poter accedere unilateralmente al cantiere senza prima concordare con l'amministrazione le date per la redazione dello stato di consistenza finale delle opere ed attrezzature presenti richiesta ed è al momento negata la tua seconda domanda arriviamo ai giorni nostri giustamente chiedi a noi non è che fosse una novità io me l'aspettavo questa domanda l'avevi già annunciata per cui diciamo che ci siamo dati da fare nei confronti dell'ufficio per accelerare queste cose per evitare queste derogazioni ma siamo arrivati tardi quindi grazie per l'ulteriore accelerazione quindi la volontà di questa amministrazione è intanto procedere alla rescissione del contratto di appalto che abbiamo detto senza ulteriore danno per l'amministrazione procedendo appunto al recupero delle somme dell'anticipazione erogate ed eccedenti le lavorazioni eseguite mediante attivazione della polizza a garanzia dell'anticipazione fatta di 20.000 euro che tu hai citato con tutta probabilità e quindi parliamo di probabilità Paolo lo sai meglio di me io gli sto dietro grazie anche alle tue sollecitazioni quindi ti garantisco che gli sto dietro con tutta probabilità entro la fine del mese di aprile sarà possibile riappropriarsi del cantiere ed avviare le procedure di verifica del progetto con adeguamento dei costi procedere alla successiva programmazione dell'intervento che rientra tra le priorità di questa amministrazione anche perché so soldi che giustamente a suo tempo furono concessi dalla Regione e che sono rimasti quindi non vorremmo perderli poi tu arrivi guardi al futuro giustamente perché come giustamente fa un consiglio deve progettare il futuro e guardi a quello che è più importante che è la torre supporto alla ristrutturazione è il tuo terzo quesito mi sembra l'attuale protocollo di intesa tra il comune di San Veneretto del Tronto e il comune di Ascoli Piceno prevede la disponibilità a realizzare l'opera dell'aula didattica e rimanda ad un ulteriore accordo la gestione da parte della riserva negli spazi strutturati te lo dico perché sempre in questo accordo non si fa alcun accenno alla struttura torre supporto di certo molto utile alle attività della sentina ma è difficile immaginare il suo restauro te lo dico purtroppo poi l'amministrazione la maggioranza lo valuterà nella serie opportuna un progetto di oltre dieci anni fa ne quantificava i costi a quasi un milione di euro tra l'altro un milione di euro che dovrebbe darci la regione perché il grosso del finanziamento sulla sentina avviene dalla regione che è una riserva regionale tra l'altro sulla sentina si sta già spingendo affinché si si faccia le scogliere sommersi per proteggere la torre del porto perché quando arrivano le mareggiate la torre del porto è totalmente sommersa dall'acqua ti do anche un altro dato che mi hanno dato l'ufficio che mi ha dato l'ufficio anche per completare la tua domanda iniziale la situazione contabile con la vecchia ditta risulta contabilmente uno sbilancio tra le somme maturate nelle lavorazioni e quanto già anticipato all'impresa pari a 13 milioni e 300 euro più IVA per un totale di circa 14 mila euro circa insomma spero di averti un po' risposto non so se soddisfatto però tieni presente che sulla sentina siamo dalla stessa parte grazie sì grazie assessore la parola al consigliere Ganducci scusa ok grazie assessore il problema non è da che parte da che parte stiamo perché non è difficile stare dalla parte della riserva naturale il problema è quello che si fa o che si vuole o che si vuole fare l'interrogazione è duplice da una parte lei ha provato a spiegare questo ritardo e va bene sicuramente c'è stato un ritardo ma questo è un campanello d'allarme deve essere un campanello d'allarme per voi perché è una ditta che nel 2019 non va più a lavorare e noi abbiamo il direttore dei lavori e gli scriviamo nel 2020 dieci solleciti e loro prendono la scusa della pandemia un campanellino d'allarme con i PNRR io me lo farei lo accenderei un campanello d'allarme se ci vuole un anno per capire che una ditta ha abbandonato un cantiere un cantierello non so se ci siete andati un cantierello io una preoccupazione l'avrei in vista di un piano delle opere pubbliche l'assessore ha detto investiamo tutto sul PNRR e poi sicuramente ne parleremo poi la seconda parte è quella del futuro io l'ho fatto l'assessore all'ambiente per dieci anni la sentina esisteva solo sulla carta e abbiamo provato con calma a farla diventare quella che è abbiamo cercato i fondi che arrivavano non sempre dalla regione regione comunità europea ma abbiamo messo anche i fondi nostri per la rinaturalizzazione del fosso collettore per la rialberatura dei viali e la sistemazione dei sentieri ogni anno anche grazie all'impegno e alla testardaggine del consigliere Marinucci che era del luogo ogni anno c'erano i fondi sul bilancio per la sentina per la sentina poi i lavori più grandi li abbiamo ottenuti sempre cercando i fondi non è che ci arrivavano stavamo seduti e ci arrivavano dalla regione o ci arrivavano dalla comunità europea presentavamo progetti andavamo tutti i giorni ad Ascoli perché Ascoli faceva resistenza non ci firmava questo era il lavoro che facevamo ma mettevamo i soldi ogni volta lei ha visto quanti soldi le hanno messo per la sentina 2022 Assessore no perché io prima del bilancio quello facevo io come gli altri assessori dove c'era si andava dall'assessore di riferimento perché siamo tutti dalla stessa parte poi però c'è l'opposizione e c'è l'amministrazione l'amministrazione oltre a stare dalla stessa parte mia su alcune questioni però ha una cosa in più di me può fare anzi ha il dovere di fare esiste solo uno strumento di previsione e di programmazione che è il bilancio io sinceramente se poi ce lo spiegherete io non ho visto un centesimo sulla riserva della sentina grazie grazie consigliere Canducci quinto punto all'ordine del giorno interpellanza consigliare a iniziativa del consigliere comunale Stefano Muzzi a oggetto aumenti indennità di funzioni per sindaco giunta il presidente del consiglio comunale articolo 1 comi 583 583 legge bilancio 2022 prego consigliere Muzzi grazie presidente buongiorno a tutti io do subito lettura anche per poi cercare di evadere anche l'altra interrogazione del collega successiva sperando di farcela nei tempi allora premesso che la legge di bilancio 2022 numero 234 del 2021 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre scorso prevede i commici da 583 a 587 un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario tra le quali vi è inclusa anche la regione Marche riscontrato che il comma 585 adegua le indennità di carica da corrispondere al vice sindaco agli assessori e al presidente del consiglio comunale alle indennità di funzioni del corrispondente sindaco il cui incremento sarà proporzionato alla popolazione del singolo comune prendendo come riferimento unico il trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni i quali attualmente percepiscono 13.800 euro mensili lordi evidenziato che tali indennità di funzioni potranno essere incrementate in misura graduale per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 fino ad arrivare all'incremento complessivo permanente a decorrere dall'anno 2024 riscontrato che l'indenità di funzione per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 abitanti a 50.000 abitanti tra le quali rientra anche il nostro comune sarà pari al 35% del trattamento economico mensile del presidente di regione per un ammontare lordo di 4.830 euro rispetto ai 3.114 euro lordi mensili che si percepivano fino allo scorso dicembre si interpellano il sindaco e l'aggiunta comunale tutta al fine di conoscere se così già come deliberato avvenute in altre realtà amministrative italiane e marchigiane i succitati aumenti o parte di essi saranno utilizzati per chiaro un fondo di solidarietà comunale da devolvere alle associazioni solidaristiche e o di promozione sociale del territorio considerato anche il precario e critico frangente situazionale che stiamo vivendo grazie la domanda che mi faccio carissimo Muzzi lei mi ha fatto beneficenza questo è un argomento onestamente talmente personale che io faccio anche fatica in questo momento a parlarne anche perché onestamente chi mi conosce parlo per me stesso chiaramente sa quello che io faccio sa cosa ho fatto sotto pandemia non mi sono dovuto collegare a delle associazioni per fare riversamenti mensili magari di qualche spicciolo fare beneficenza significa essere toccati da un qualcosa che ti entra dentro e ti fa rendere partecipe al gesto che stai per compiere prendere un cellulare collegarsi con la banca online e fare un bonifico a una persona che tu non conosci è una cosa importante che ti fa star bene perché sai che risolvi i problemi di qualche famiglia vai a risolvere i problemi di qualche famiglia di qualcuno che ha bisogno di quel gesto io non posso obbligare gli altri a versare dei soldi su dei fondi per me la beneficenza è stato un punto di riferimento un punto fisso basta solamente dire che quando aprì la mia partita IVA dissi se avrò successo una parte dei miei guadagni andranno in beneficenza e costantemente ho fatto questo chi mi conosce a San Benedetto sa cosa faccio ma io non lo voglio non voglio stare a ostentare quello che quello che che io ho fatto negli anni non mi piace ho fatto sempre beneficenza in maniera nascosta non ho mai voluto far percepire il mio nome là dove arrivavano dei soldi o delle cose o degli oggetti ho sempre fatto le cose in completo anonimato siccome è una cosa che mi tocca perché è una cosa che io mi sento dentro e lo faccio lo faccio l'ho fatto all'associazione l'ho fatto anche all'associazione animalistiche l'ho fatto ma lo faccio costantemente quindi sentirmi obbligato a allegarmi a un fondo o a qualsiasi altra cosa onestamente è riduttivo perché magari può capitare di lasciare 100 euro come magari può capitare di lasciarmi 10.000 la differenza sta tutta lì su quantitativo e allora voglio essere libero di poter accedere alla mia banca e poter dare dei soldi a chi ne ha bisogno nel momento opportuno e non in concadenza mensile su questo ne vado fiero perché è una cosa che sento dentro e ripeto a San Benedetto le persone che mi conoscono sanno quello che io ho fatto anche sotto pandemia nonostante avessi avuto l'azienda chiusa al 95% tutto il 2020 ho continuato a fare il mio dovere senza nascondermi questa è la mia risposta grazie sindaco replica consigliere Mucci grazie presidente ma assolutamente io non metto in discussione e non voglio personalizzare io non ho chiesto come consigliere comunale se x y z facciano meno beneficenza e poi ognuno quello lo vede nel privato a seconda delle proprie possibilità io chiedevo se c'era l'intenzione che non è peregrina come il comune per esempio di Civitanova Marche l'amministrazione di Civitanova Marche ha deliberato di destinare tutti gli aumenti alla Caritas quindi io chiedevo l'istituzionalizzazione di un fondo la volontà di farlo in maniera chiara ma non a livello personale a livello di amministrazione comunale comunque posso portare anche gli esempi del comune di Acquasanta come quello di Force e ho visto che anche qualche input è arrivato non dal populista demagogo Muzzi ma anche da qualcuno che in campagna elettorale vi ha sostenuto e stava coordinando anche una lista sulla stampa sempre che poi si debba prendere per buona quella dichiarazione quindi io accetto la replica però ecco rimango disarcionato dalla risposta perché ho visto che probabilmente non ha avuto la forza per unire la giunta in un gesto che sarebbe stato sicuramente importante ma istituzionalizzarlo poi quello che facciamo nel privato è un'altra sfera qui stiamo nel pubblico io ammiro l'imprenditore Antonio Spazzafumo però sono consigliere comunale e ho un dovere che mi hanno dato i cittadini ed è quello di far essere una persona di indirizzo e di controllo all'interno dell'ente non vado a sindacare poi nel privato di ognuno quello sarebbe veramente una cosa sbagliata e anche di cattivo gusto io parlavo sempre di come l'ente prendendo spunto da altre realtà amministrative si sarebbe voluto comportare in questo tipo di situazione non è successo ne prendo atto buon lavoro a tutti grazie consigliere Muzzi siamo al limite dei 60 minuti facciamo una deroga quindi consigliere Bagalini aspetta un attimo che la introduco la sua interrogazione però ecco di norma come da regolamento un'ora interrogazione interpellanza siamo al limite la facciamo però serve per le prossime sedute consigliari allora interrogazione iniziativa del consigliere comunale Nicolò Bagalini oggetto installazioni nuove installazioni nuovi impianti di illuminazione pubblica presso la pineta Bozzi situata in centro prego consigliere la gentile concessione vado a lettura premesso che sono state riscontrate problematicità riguardanti la sicurezza e il decoro urbano nella zona centro di San Benedetto del Tronto e più specificatamente presso le pinete Bozzi che nonostante i forti disagi presenti in quella zona l'intera area risulta scarsamente illuminata e pertanto sede ideale per favorire il perpetrarsi di atti vandalici e illegali che nel nostro territorio come se vince dalla nutrita cronaca giornalistica e dai rapporti delle forze dell'ordine risulta rilevante il fenomeno della presenza di baby gang specializzati in spaccio di droga aggressioni risse e rapine considerato che a livello statistico e è ampiamente dimostrata la diminuzione di tali fenomeni in aree adeguatamente illuminate poiché capaci di dissuadere i soggetti malintenzionati a commettere atti ostili e incivili tutto ciò permesso e considerato interroga la signoria vostra per conoscere se ella è a conoscenza di quanto riportato nelle premesse della presente interrogazione consigliare ha verificato l'esistenza della mappatura dei luoghi pericolosi ritiene necessaria l'installazione di impianti di illuminazione pubblica che possano consentire una sicura frequentazione delle persone scoraggiando fenomeni di vandalismo e di inciviltà grazie grazie consigliere bagalini la risposta all'assessore capriotti donino grazie consigliere bagalini grazie grazie partiamo partiamo dalla situazione diciamo che quella zona ha avuto diversi rimaneggiamenti nel corso degli anni anche grazie alla precedente amministrazione che ha messo furono diciamo installate dei lampioni sia lungo via Lebozzi ma anche sulla casa del giardiniere ad esempio furono messi dei fari a led e sui bagni per cui diciamo c'è questa situazione siamo al corrente delle richieste avanzate dagli organi polizia per un'ulteriore schiarita anche perché le serve per le videocamere che sono state installate affinché possano essere riprese le immagini quindi diciamo che è un problema a conoscenza ci sono già delle proposte sul tavolo che sono al vaglio degli uffici aspettiamo anche il bilancio per poterle mettere in pratica perché chiaramente ci devono essere gli impegni di spesa e queste proposte consistono in una parziale rimodulazione della disposizione delle lampade e contemporaneamente la sostituzione delle prafoniere e tecnologia led lì via Lebozzi tu giustamente parli di via Lebozzi ma lì è via Orindo Pasqualetti e il Bambinopoli è tutta un po' l'area che va rivista insomma e queste proposte riguardano tutta l'area addirittura in alcuni luoghi è possibile diminuire i punti luce perché ce ne sono talmente tanti e poco illuminanti che minori punti luce potrebbero fare più luce e questo genererà un risparmio energetico e una maggiore illuminamento dell'area per cui è tutta da riprogettare da un punto di vista illuminotecnico partendo da quello che già avete fatto ad esempio i lampioni su via Lebozzi proseguendo quindi nel solco della sicurezza e della percezione di sicurezza proprio in questi giorni sono in fase di verifica ulteriori punti in zona centrale di videosorveglianza urbana che andranno a integrare l'impianto già esistente dunque maggiore illuminazione maggiore controllo in quelle zone centrali sono gli impegni che noi come amministrazione stiamo concretizzando grazie comunque dell'attenzione Sì grazie Assessore la replica al consigliere Bagalini Ringrazio la cortese risposta del vice sindaco però sinceramente non mi trovo del tutto soddisfatto e do le motivazioni in quanto è una situazione appunto urgente già nota già da diverso tempo e soprattutto vista anche la strategicità della zona avere nel centro cittadino una delle zone rinominate tossicopoli di certo non è un bel biglietto da visita detto questo visto che come ha detto lei più tardi andremo a toccare anche il bilancio faccio un'anticipazione credo che sarebbe stato più opportuno che invece sanziare soldi per un secondo addetto alla comunicazione che andrà a costare in totale 150 mila euro presi dalle tasche dei cittadini credo che sarebbe stato più opportuno di lottare questi fondi per appunto sistemare questi tipi di problematiche ringrazio grazie consigliere anche per la celerità della risposta abbiamo sforato solo di sette minuti per cui va bene allora chiedo settimo comunicazione in merito a variazione nome di gruppo consigliare conferma del capogruppo la comunico io in sostanza c'è una variazione del gruppo consigliare il gruppo bottiglieri che a partire dalla data odierna sarà modificata in gruppo partito democratico articolo 1 nuovi orizzonti san bianetti si sembra del capogruppo la consigliera Aurora Bottiglieri passiamo al sia adesso qui l'ottavo e il nono punto l'assessore per legge illustra contemporaneamente perché nella riunione dei capigruppo abbiamo deciso solo di che tu li potesse illustrare e la discussione si facesse solo in queste due due punti all'ordine del giorno dopodiché però la votazione verrà in maniera come dire separata separata grazie assessore la parola a Pellei grazie presidente buongiorno a tutti e con queste due deliberazioni portiamo al voto del consiglio l'approvazione aliquote nuova imu anno 2022 e le entrate comunali aliquote per l'anno 2022 conferma addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF riguardo alla prima deliberazione con l'istituzione dico questo con l'istituzione della nuova imu disciplinata dall'articolo 1,738 e seguenti della legge 160 del 2019 il prelievo sugli immobili diretta a riunire il prelievo sugli immobili il legislatore ha introdotto novità relativamente alle modalità di determinazione e approvazione delle aliquote dell'imu la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'approvazione del consiglio prevede la conferma per l'anno 2022 delle tariffe imu l'unica variazione prevista nella deliberazione riguarda i cosiddetti beni merce cioè fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati che per espressa previsione normativa mentre lo scorso anno erano assoggettati ad un'imposta con l'aliquota dell'1 per mille per l'anno 2022 diventano esenti dal tributo rimangono invariate anche le detrazioni i termini di pagamento e le modalità di pagamento si segnalano di seguito le uniche variazioni appunto derivanti da aggiornamenti normativi di cui l'ente prende atto la modifica della riduzione imu estero e appunto l'esenzione imu per i beni merce per quanto riguarda la seconda deliberazione con legge di bilancio 2022 numero 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è intervenuto in materia di IRPEF prevedendo la riduzione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni in particolare ha disposto l'obbligo per i comuni di provvedere entro il 31 marzo 2022 o in caso di scadenza successiva entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ma noi lo approviamo oggi a modificare gli scaglioni e le aliquote d'addizionale comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5 l'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta dovuta ai soggetti tenuti al versamento dell'imposta appunto si applica in conseguenza al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale al netto degli oneri deducibili e non è dovuta se per lo stesso anno non risulta dovuta quest'ultima l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa i comuni hanno la facoltà di istituirla stabilendone un proprio regolamento con proprio regolamento l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzioni nei limiti fissati dalla legge statale come forse sapete con legge di bilancio appunto 2022 inizialmente ricordata sono state trasformate da 5 a 4 le aliquote IRPEF e oltre a essere trasformate diciamo scusate gli scaglioni è stata ridotta anche la percentuale in alcuni casi il comune che cosa fa la proposta deliberativa che viene presentata in approvazione al consiglio prende atto della riforma dell'IRPEF e conferma per l'annualità 2022 ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale dell'IRPEF quanto segue la liquota unica è confermata allo 0,80% e la soglia di esenzione è diciamo presente per i nuclei familiari con almeno 4 figli minori e con un reddito i 6 familiari annuale complessivo non superiori a 10.632 euro faccio un'osservazione rispetto a questa seconda delibera che confermando la liquota IRPEF ma con una rimodulazione dell'IRPEF era opportuno e necessario fare una previsione una valutazione previsionale relativa all'effettivo stanziamento di entrata in bilancio proprio perché cambiando gli scaglioni e cambiando le percentuali poteva essere previsto una variazione di gettito il ministero ha messo a disposizione degli enti locali un supporto online sul portale dove era possibile fare queste valutazioni previsionali e gli uffici hanno verificato che lasciando invariata l'aliquota IRPEF non non si ha una variazione del gettito di previsione per cui l'iscrizione in bilancio nel bilancio che verificheremo più tardi nell'iscrizione in bilancio è la stessa o in porto dell'anno precedente dello scorso anno credo di essere stato chiaro sono a disposizione per qualsiasi chiarimento grazie grazie assessore per lei possiamo aprire la discussione se ci sono degli interventi non ci sono interventi passiamo al voto allora approvazione aliquote nuova IMU anno 2022 votiamo non ci sono Grazie. Capriotti. Capriotti. Allora, 15 favorevoli, un no e 8 astenuti. Il Consiglio approva. Allora, l'astenzione, la Consigliera Bottiglieri, l'astenzione, quindi 9 astenuti. Non voto De Vecchis. Allora, 15 favorevoli. 15 favorevoli, 9 astenuti. Allora, votiamo invece le entrate comunali, aliquote per l'anno 2022, conferma addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche. Grazie. 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 Presidente. Grazie a tutti. 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 del 20 febbraio 2021. Nel corso del primo anno di applicazione sono emerse delle criticità applicative e si è ravvisata la necessità di apportare delle correzioni al testo regolamentare. Quelle che portiamo in delibera di maggior rilievo prevedono all'articolo 53 e articolo 78 regolamentazione delle vele, veicoli omologati ad uso pubblicitario. Non potranno parcheggiare per più di 30 minuti. La sosta che superi i 30 minuti, anche se in luoghi diversi, è consentita solo previa autorizzazione in quanto assimilati agli impianti di pubblicità ai sensi dell'articolo 47,8 del DPR 495 del 92. In assenza della predetta autorizzazione il messaggio pubblicitario in vista dovrà essere oscurato. Diversamente scatterà la sanzione prevista dal Codice della Strada per la pubblicità abusiva su area pubblica. Si rammenta che il soggetto passivo tenuto in via principale al pagamento dell'imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso nel comune in cui ha sede l'azienda o residenza il titolare. Altra modifica del regolamento all'articolo 75 bis, riduzione delle superfici per eventi realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale. Per le iniziative inserite nel cartellone degli eventi realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale, in deroga al principio generale, le superfici sono considerate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, 25% per la parte eccedente 100 metri quadri fino a 1000 metri quadri. Le superfici così calcolate sono ulteriormente ridotte del 50% a decorrere dall'undicesimo giorno di occupazione. Altra integrazione del regolamento all'articolo 82 dove sono state inserite riduzioni per eventi senza finalità economica, riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari e sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari anche mediante affissioni del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali di categoria religiose, turistiche, culturali e sportive. Qualora l'iniziativa sia effettuata per fini non economici e non abbia alcuna rilevanza economica e il messaggio non contenga riferimenti commerciali. Riduzioni del 50% per la pubblicità istituzionale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, queste già c'erano, 50% per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e il 50% per gli annunci mortuari. Infine, ulteriore modifica all'articolo 83 inserite nuove esenzioni per particolari contribuenti, le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, OLLUS, costituite ai sensi del decreto legislativo 460 nel 1997 e successive modificazioni. Le occupazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 381-1991, iscritte nella sezione cooperazione sociale del registo prefettizio, le occupazioni fino a 20 metri quadri effettuate da associazioni, comitate e fondazioni per iniziative prime di rilevanza economica, le occupazioni effettuate dalla protezione civile. Ecco, queste sono le modifiche principali al regolamento, modifiche che si sono riconosciute necessarie per sistemare, per migliorare il regolamento, considerato che l'anno 2021 è anche stato un anno di applicazione particolarmente complesso, perché c'era la pandemia, alcune situazioni sono state sospese e quindi la verifica dell'equilibrio delle misure adottate ha portato a focalizzare diciamo queste criticità e a migliorarle nel regolamento. Una fra tutte quelle che abbiamo evidenziato in primis all'articolo 53 e 78, la regolazione delle vele che vede particolarmente nel nostro comune una situazione ad oggi direi fuori controllo e quindi insomma era necessario cercare di intervenire e di regolamentare questo aspetto. Grazie per l'attenzione, non so se è necessario ora la presentazione dell'emendamento. Io ho concluso, grazie. Grazie Assessore per lei. Ci sono all'interno di questa delibera due emendamenti, una firma del Consigliere Capriotti Fabrizio e l'altra firma del Sindaco. Adesso svolgiamo i lavori in questo modo. Prima il Consigliere Fabrizio, trappoglio la parola, legge l'emendamento, poi il Sindaco e poi li votiamo anche questi in maniera separata. Allora Consigliere Capriotti, l'emendamento da te proposto. Presidente, per capire l'emendamento del Sindaco... Scusa, lo sta distribuendo la nostra indicata, un attimo sta facendo le fotocopie e nel frattempo il Consigliere Capriotti legge l'emendamento. Sì, grazie Presidente. L'emendamento, diciamo così, l'amministrazione, sentite le associazioni di categorie agli operatori, ha deciso di prevedere una possibilità di poter ratizzare il pagamento del canone unico, che sapete che entrerà in vigore adesso per la prima volta e il pagamento era previsto in maniera anticipata. Comunque, in sostanza, leggo il testo. Quindi chiedo che venga sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 84, titolato modalità e termini per il versamento con il seguente. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità. A. In un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. B. Per importi superiori a Euro 500 è ammesso il versamento in due rate anticipate. La prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno del primo periodo di occupazione. C. Per importi superiori a Euro 2000, la cui occupazione supera 90 giorni, è ammesso il versamento in tre rate anticipate, di cui la prima non oltre il rilascio. Le successive entro il primo e secondo periodo di occupazione corrispondenti a un terzo e due terzi dei giorni complessivi. Il punto D. Per importi invece superiori ad Euro 5000, la cui occupazione supera i sempre 90 giorni, è ammesso il versamento in quattro rate anticipate, di cui la prima non oltre il rilascio, le successive entro il primo, secondo e terzo periodo di occupazione, corrispondenti a un quarto, due quarti e tre quarti dei giorni complessivi. Poi ci sono anche gli esempi in modo da essere più chiari possibili. Per chiarezza, l'articolo in precedenza prevedeva che per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione. È solo per importi superiori ad Euro 500, è ammesso il versamento in due rate anticipate. Quindi la modifica insomma dà la possibilità all'operatore di poter pagare anche in maniera rateale. Grazie. Grazie Capriotti, facciamo così, votiamo intanto questo emendamento in modo tale che siccome l'altro vi è stato dato in questo preciso istante avete modo pure di visionarlo. Allora votiamo per l'emendamento a firma del... Ma non si apre la discussione del Presidente. C'è ragione, sì, perché in base al regolamento... No, perché io mi attenevo al suggerimento del Consigliere Piundi. È di 10 e mezza, ce la facciamo. No, mi attenevo al suggerimento del Consigliere Piundi dove era stata fallata anche la condizionale dei vecchi se diceva facciamo anche gli emendamenti, in deroga al regolamento e poi discutiamo di tutto. Se siete d'accordo mi sembra che possiamo procedere in questione, ma se invece vogliamo fare la discussione sull'emendamento come dice il regolamento, lo facciamo. Tutto insieme? Ecco, allora, facciamo tutti insieme. Se siete d'accordo tutti? Alziamo la mano tutti quanti, se siete d'accordo. Eh, a posto. Sì, però il regolamento, noi ci siamo attenuti al regolamento perché noi andiamo al regolamento come frassica, no? Non è che... Allora, votiamo l'emendamento. L'emendamento a firma di Capriotti. No, io l'ho capito... No, scusa, scusa, io l'ho capito che il Consigliere Piundi... Ecco, Presidente, no, tanto per chiarire perché l'altra volta lei giustamente dice io prendo il regolamento, sento il Segretario Generale e mi attengo a quello che dice il regolamento. La prassi, che poi insomma non è legge, però insomma è per far sì che i lavori del Consiglio Comunale possano andare avanti in modo più spedito e più completo, secondo me, e oggi insomma lei mi riconosce questa, diciamo, quella richiesta che ho fatto, dice sì, sì, come ha fatto il Consigliere Capriotti, si illustrano gli emendamenti, si fa una discussione generale che comprenda anche gli emendamenti, poi chiaramente alla fine la votazione va separata, emendamento per emendamento e il testo emendato, così tanto per chiarire con tutti quanti i miei colleghi. Grazie. Grazie, allora a questo punto, leggiamo l'altro emendamento e poi apriamo la discussione. Bene? Allora Sindaco, prego, ci leggo l'emendamento a sua firma. Modifica dell'articolo 83,1 lettera A, titolate esenzioni, al fine di specificare ulteriormente a tutela del pubblico interesse i soggetti che rientrano tra le fattispecie di esenzione prevista nell'articolo 83,1 lettera A del regolamento al suddetto 83,1 lettera A, dopo la parola consorsi si inserisce ERAP, ente regionale per l'abitazione pubblica. Bene. Dai, che cavolo, è un refuso. Allora, scusate, un attimo di pazienza, dai, che rientrano, adesso lo correggiamo, ognuno corregga il suo, dai, non è che possiamo rifare un altro emendamento. Allora, sì, 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 certo, certo, certo. Va bene, bene, adesso apriamo la discussione. Consigliere Ganducci, prego. Rapidamente, Presidente. Noi comunichiamo la volontà di votare sia i due emendamenti che questa delibera, perché riteniamo che sia stato fatto un buon lavoro, sia stata riordinata una materia comunque complessa e suggeriamo all'amministrazione di fare, lo abbiamo detto già in altre occasioni, l'assessore lo sa, di provare, tentare di chiudere il piano delle pubbliche affissioni e nel frattempo, come è indicato nel vostro programma di mandato, immediatamente rimuovere gli impianti abusivi, che ce ne sono tanti, non previsti dall'attuale regolamento delle pubbliche affissioni, ce ne sono tanti, molti anche importanti in zone visibili, perché proprio con tecnologie e con mezzi che non sono attualmente previsti e quindi quelli si possono già rimuovere, anche se sia in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento delle pubbliche affissioni. Quindi come gruppo noi votiamo positivamente per questa delibera, così anche come è stata emendata. Grazie. Grazie consigliere Canducci, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Allora, votazione dell'emendamento a firma del consigliere Capriotti Fabrizio. Dove andare a finire Pagliarini, per cortesia, se può venire... Grazie a tutti. 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 Allora, 25 voti favorevoli, il Consiglio approva. Adesso votiamo l'emendamento, il secondo emendamento a firma del Sindaco. Grazie. Grazie a tutti. La rifacciamo. La rifacciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 25 voti favorevoli, il Consiglio approva. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 25 voti favorevoli, il Consiglio approva. Allora, scusateci un attimo, oggi non sto dando in forma probabilmente. Noi nel punti numero 8 e 9 dovevamo dare l'immediata eseguibilità. quindi lo facciamo adesso. Non mi ha marcato stretto il segretario generale, per cui la palla è andata avanti, il segretario. Troppo veloce. Troppo veloce. Allora, votiamo. Allora, facciamo l'immediata eseguibilità della delibera approvazione aliquote nuova EMU. Anche le votazioni separate per l'immediata eseguibilità. grazie a tutti. Consigliere Piun dimanga il voto. 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 Sarebbe pertanto da irresponsabili mettere mano a un bilancio non tenendo conto di questo dato di realtà. Veniamo quindi al nostro schema di bilancio. Il bilancio 2022 ammonta circa 68 milioni di euro al netto delle anticipazioni di Cassa e delle partite di giro. È un bilancio, come abbiamo detto in Commissione, un bilancio impegnato per circa il 95% tra contratti di servizi, spese per il personale, mutui eccetera. Pertanto il margine di incidenza politica risulta molto esiguo. Ma questo non vuol dire che non ci sia politica in questo bilancio, tutt'altro, e lo vedremo. Nel corso del lavoro di relazione del bilancio ci siamo trovati di fronte alla necessità di mettere in equilibrio le stime in entrata necessariamente connotate da un carattere prudenziale, perché correlate ad uno scenario sociale non ancora tornato alla normalità dopo la pandemia, e le previsioni di spesa lievitate per gli aumenti personale, energia, beni e per le legittime aspettative di un'amministrazione che, al suo primo anno di governo della città, desidera dare una marcata connotazione al governo della città stessa. La messa in equilibrio tra le stime di entrata e le previsioni di spesa è stato un lavoro impegnativo improntato al principio dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese. In merito alle entrate, le entrate, come sapete, arrivano da voci differenti. Per brevità si può dire che si possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in conto capitale, e derivano principalmente da titolo 1, entrate tributari e tributi locali, titolo 2, trasferimenti di altri enti, Stato, Regione e Provincia, titolo 3, entrate extratibutari, canoni, come il canone unico patrimoniale, il cui regolamento abbiamo poc'anzi approvato, affitti dei propri immobili, incassi legati ai servizi che fornisce l'ente e sanzioni che emette, progetti presentati da enti finanziatori e bandi. Questo, in merito al titolo 1, questo bilancio non prevede l'aumento dei tributi. Come approvato poco fa, viene confermata per l'annualità 2022 l'addizionale comunale IRPEF. Restano invariate le tariffe IMU e la Tari resta invariata con iscrizione in bilancio del PEF, Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione della Raccolta e Smaltimento di Rifiuti e della Polizia Urbana, del Valore 2021, in accordo con il gestore Piceno Ambiente. In merito ai trasferimenti, titolo 2, rileviamo una diminuzione in capo al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che era il fondo Covid, per 280 mila euro, mentre si registrano maggiori entrate legate al fondo di seredalità comunale per 638 mila euro. In merito alle entrate extratibutarie, si prevedono minori entrate legate alla gestione della piscina comunale, perché, come sapete, la piscina è in fase di ristrutturazione, e minori entrate in merito alle sanzioni di violazione del Codice della Strada, per 135 mila euro. Mentre sono previste maggiori entrate dai parcheggi a pagamento, questo non abbiamo ampiamente discusso, ormai da qualche mese, per 130 mila euro, e da diritti di segreteria urbanistica, e dal servizio a menze scolastiche, per 260 mila euro. Anche di questo ne abbiamo parlato. Sul titolo 6, prevediamo ad oggi l'accensione di un prestito nel 2024, di un milione e mezzo, per la ristrutturazione della vasca esterna della piscina comunale, qualora non vi sia l'opportunità di attingere a fondi pubblici. Riguardo alle spese, innanzitutto va evidenziato che il bilancio deve coprire un disavanzo tecnico per 433 mila e 821 euro per l'anno 2022, ed ancora così per nove o dieci esercizi. Giova ricordare che il disavanzo tecnico è conseguente al passaggio nel 2019 al nuovo metodo di calcolo ordinario del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. E tra gli aumenti delle spese segnaliamo come primo fattore penalizzante l'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per maggiori spese di 362 mila euro, fino ad arrivare a un accantonamento di 5 milioni e 100 mila euro. L'adeguamento del Fondo Rinnovi Contrattuali per 305 mila euro per una quota di 405 mila euro. L'adeguamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali per 51 mila euro per uno stanziamento totale di 309 mila euro. Il Fondo Spese per Indennità di Fino Mandato per 15 mila euro per un totale di maggiori spese di 634 mila euro. Fra le spese per i fondi si stanziano 100 mila euro sul Fondo Rischi da Contenzioso. Gli aumenti si integrano sulle spese di natura corrente che impegnano il titolo 1 delle spese di bilancio per 58,863 milioni di euro. In queste spese rientrano tra le altre il personale. Noi abbiamo 14 milioni e 270 mila euro compresi tra 13 milioni e mezzo di compensi e 770 mila euro di imposte. La previsione di spesa per il personale è comunque improntata alla riduzione nel triennio 2022-2024. L'acquisto di beni per 862 mila euro l'acquisto di servizi il Comune offre servizi per 39 milioni di euro scusate, per 29 milioni di euro dei quali servizi sociali centro primavera, anziani non sufficienti cedise e arcobaleno, ludoteche comunali centro silenziale, centro di urno per disabili biancazzurro, assistenza domiciliare sostegno ai minori in stato di disagio per 5 milioni 143 mila euro gestiti direttamente dal servizio sociale e per 1 milione e 200 mila euro gestiti attraverso l'ambito 21. L'acquisto di servizi per il diritto allo studio si parla del trasporto scolastico per 486 mila euro con un incremento di 63 mila euro i servizi cimiteriali manutenzione e servizio di cremazione per 950 mila euro le utenze contratto calore, contratto pubblico illuminazione, altri contratti di energia per 3 milioni 660 mila euro con un incremento di spesa di circa mezzo milione di euro la gestione delle aree verdi gestione di rifiuti per 11 milioni 323 mila euro di cui 10 milioni 750 mila euro per la gestione del servizio svolto dalla Picena Ambiente e in più come maggiore spesa 90 mila euro per il servizio di tesoreria Ancora tra le spese abbiamo i trasferimenti di parte corrente per un importo di circa 6 milioni e 300 mila euro rileviamo su questa voce l'aumento degli stanziamenti iniziali di sport e cultura in particolare sulla cultura iscriviamo 60 mila euro destinate di nuove spese destinate alle feste cittadine 20 mila euro la festa della Marina 20 mila euro la festa del Patrone 5 mila euro la festa del primo maggio a servizi, iniziative museali e gemellaggi per i restanti 15 mila euro sul servizio sport e giovani segnaliamo a livello di previsione iniziale la differenza di stanziamento per la Tirreno Adriatica per la Tirreno Adriatica che è di 30 mila euro l'aumento di stanziamento i contributi per le associazioni sportive che aumentano di 20 mila euro per uno stanziamento totale di 40 mila euro di cui 30 mila euro sono stati vincolati dalla presente amministrazione e li confermiamo destinati al ristoro per le società operanti nella piscina comunale che quest'anno non hanno potuto usufruire dell'impianto natatorio poi altri 15 mila euro per l'appalto del servizio informa giovani e 10 mila euro per l'appalto del servizio centro giovani segnalo inoltre gli interessi tra le spese 716 mila euro di interessi passivi di cui 448 mila per interessi sui mutui tra le spese al titolo 2 sappiamo che ci sono le spese in conto capitale e riguardano gli investimenti per le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e per le nuove infrastrutture avete potuto vedere nelle documenti allegati al bilancio depositato il programma triennale delle opere pubbliche che brevemente per motivi di tempo cerco di riassumere per macro voci ma comunque significative per la mole di investimenti che si propone di mettere sul campo nella nostra città manutenzione del patrimonio per 100 mila euro messa in sicurezza del ponte Albul al ponte di Viale Trieste per 1 milione 360 mila euro manutenzione dei marciapiedi per 300 mila euro sostituzione dei pali della pubblica illuminazione per 200 mila euro completamento del lungomare per 2 milioni di euro rigenerazione urbana all'ex ballarin per 2 milioni 440 mila euro interventi su impianti sportivi di manutenzione potenziamento e messa a norma per 277 mila euro interventi sulle scogliere emerse per 300 mila euro nell'anno 2023 nell'anno 2022 e altri 650 mila euro nell'anno 2023 opere di urbanizzazione primaria per 630 mila euro divise tra 150 nell'aeroporto e 480 nella via Ugo Lamalfa la ristrutturazione del polo scolastico di via Ferri per 770 mila euro l'adeguamento sismico della scuola Caselli per 1 milione e 200 mila euro fin qui le opere da realizzare nel 2022 per il 2023 abbiamo iscritte nel piano triennale delle opere pubbliche tutte quelle opere che abbiamo inserito nei progetti e cui stiamo rispondendo di volta in volta relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza e abbiamo in merito alla missione scuola e tempo pieno l'ampliamento della scuola di infanzia Marcheggiani per 385 mila euro la mensa della scuola Caselli per 620 mila euro la mensa della scuola Ex Cursi per 1 milione e 100 mila euro scuola Ex Cursi significa l'idea di creare un polo scolastico nell'area dove dovevano sorgere le cursi che è comunque a disposizione e a destinazione scolastica l'asilo Nido ad Alvorville 1 milione e 56 mila euro l'asilo Nido Ex Cursi sempre ecco in questo nuovo polo per 1 milione e 584 mila euro la palestra all'aperto per la scuola Cursi per 165 mila euro poi abbiamo a valere sul PNRR veicolato dalla regione Marche interventi per circa 3 milioni di euro rispettivamente per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della scuola Miscia della ristrutturazione e l'efficientamento energetico della scuola Spalvieri e la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della scuola Cappella forse su questi abbiamo minori aspettative perché effettivamente gli interventi richiesti sono importanti ma comunque abbiamo risposto a tutti finora a tutti i bandi che ci consentivano di partecipare poi c'è la riqualificazione di piazza Montebello sempre pianificata nell'anno 2023 per 677 mila euro la rigenerazione urbana dell'ex scuola Leopardi case parcheggio e casa del giardiniere 2 milioni 560 mila euro questo è un bando a cui stiamo rispondendo era in scadenza il 31 marzo è stato prorogato al 30 aprile risponderemo presente nella legge di bilancio e a valere sui fondi PNRR e poi l'intervento sulla vasca della piscina programmato per il 2024 sulla vasca esterna della piscina per un milione e mezzo di euro non sono presenti sul piano triennale delle opere pubbliche ma comunque progetti già presentati ci tengo a sottolinearlo sul sembra a valere sul PNRR la riqualificazione del parco di Villa Rambelli per 2 milioni di euro e l'efficientamento energetico del cinema Concordia per 65 mila euro sul PNRR va senz'altro detto che tramite l'ambito sociale andiamo proprio in questi giorni al 31 marzo a presentare progetti per circa 3 milioni e mezzo di euro riguardanti la gestione di percorsi di vita indipendente e il dopo di noi misure e servizi di sostegno all'autonomia dei disabili la gestione di percorsi di vita indipendente degli anziani l'accoglienza abitativa di persone con disagio sociale al titolo 4 troviamo il rimborso di prestiti e così ci avviamo verso la conclusione su questa voce è scritto il nuovo mutuo contratto per il completamento del lungomare che va in ammortamento da questo anno da questo esercizio 2022 che comporta maggiori spese per 100 mila euro in quota conto capitale l'insieme l'insieme di mutuo in quota capitale comporta l'iscrizione di una spesa pari a 1 milione 231 mila euro di cui 263 mila sempre in quota capitale relativa ai tre mutui del lungomare annui ovviamente il limite di indebitamento è comunque inferiore all'1% ampiamente al di sotto del tetto del 10% e quindi mi avvio alla conclusione il bilancio 2022 2024 dà quindi continuità amministrativa e dei servizi erogati dall'ente senza riduzione o taglio degli stessi segnalo il parere favorevole dell'organo di revisione sul bilancio di previsione e sulla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022 2024 gli stessi revisori ci raccomandano l'attuazione di politiche prudenziali nella gestione delle attività sino al recupero di condizioni di ordinaria operatività ringrazio infine gli uffici ed il dirigente per il lavoro svolto con professionalità e deduzione un lavoro tanto più meritevole quanto più critici sono i tempi in cui ci è chiesto di agire la predisposizione del bilancio è sempre un'occasione di confronto con tutta la struttura organizzativa dell'ente ringrazio il sindaco ringrazio la giunta che ne rappresentano il vertice e comunque tutti i servizi per la collaborazione per il dialogo l'avuto sempre e comunque costruttivo che ha portato alla predisposizione di questo documento di programmazione economica finanziaria del nostro comune il nostro ruolo ci impone di agire in maniera rigorosa come quella di chi fa gli interessi pubblici chi rappresenta la cosa pubblica non rappresenta se stesso e non dispone di un potere per gli interessi personali o di parte ma per il bene pubblico per il bene comune con questa considerazione invito pertanto il consiglio comunale ad approvare il bilancio di previsione 2022-2024 grazie grazie assessore per lei prima di passare alla discussione voglio comunicare che c'è stato un emendamento da parte del consigliere canducci allo schema di programma triennale delenco annuale dell'opera pubblica 2022-2023 dove c'è stato un parere negativo tecnico e contabile dalla dirigente dottoressa Talamondi e dai revisori dei conti per cui non possiamo mettere a votazione l'emendamento qui apriamo la discussione sull'approvazione Presidente se può leggere il parere si si come questo qua no allora lo leggo tutto il dirigente del settore gestione risorse economiche e finanziarie visto l'emendamento allo schema di programma triennale dell'enco annuale delle opere pubbliche 2022-2023 presentato dei consiglieri Paolo Canducci e Marcheggiano Alisa agli atti protocollo numero 19.729 del 23 marzo 2022 visti altresì farei favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espressa senza l'articolo 4.9 dell'articolo 147 bis decreto legge legislativo numero 267 2000 il dirigente del settore lavori pubblici manutenzione gestione del patrimonio agli atti protocollati numero 20.365 del 25 marzo 2022 preso atto delle osservazioni contenute nel suddetto parere in merito al punto B dell'emendamento che preannunciano nel caso di accorpamento delle somme per la realizzazione di un più ampio progetto la perdita del finanziamento ministeriale una tandem di euro 125 mila iscritta la risorsa della proposta di bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 considerato che la suddetta osservazione di fatto dichiara uno squilibrio di bilancio pari ad euro 125 mila senza indicare i mezzi di copertura impedendo allo scrivendo di esprimere in relazione all'emendamento presentato un parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legge legislativo numero 267 barra 2000 richiamato l'articolo 13 del vigente regolamento di contabilità comunale esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile senza dell'articolo 49 del decreto legge legislativo numero 267 2000 il dirigente dottoressa Gadi Atalamonti c'è anche il parere negativo del revisore dei conti se vuole leggo pure questo allora il collegio dei revisori dei conti del comune San Metto del Trondo nelle persone di Lucchetti Sandro Presidente Testa Marcello Componente Dio Talevi Gianfranco Componente visto l'emendamento allo schema di programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2022-2023 presentato dai consiglieri Canducci Paolo e Andalisa Marcheggiani del gruppo consigliere Europa Verde Rinasci San Benedetto e gli atti protocollo numero 9729 del 23-322 verificato il contenuto del sopra citato emendamento alla luce della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024 approvata con delibera di giunta comunale numero 27 del 28 febbraio 2022 per la sua successiva presentazione al consiglio comunale e trasmessa a questo collegio con email del 1 marzo 2022 con richiesta di parere ex articolo 239 comma 1 lettera b punto 1 decreto legislativo numero 207 del 2000 e sul quale il collegio ha già espresso il proprio parere favorevole in data 15 marzo 2022 verbale numero 167 visti il parere favorevole di regolarità tecnica ma non osservazioni relativamente dal punto B dell'emendamento ed il parere non favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 decreto legislativo 267 2000 dei dirigenti competenti esprime parere non favorevole all'approvazione dell'emendamento allo schema di programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2022 2023 sopra citati il collegio televisore presidente Lucchetti Sandro adesso apriamo la discussione abbiamo la discussione l'interno la discussione nei 20 minuti ci fa rendere l'osservazione quindi prende la parola consigliere Marcheggiani bene io ringrazio innanzitutto l'assessore per la presentazione del bilancio e anche per la disamina lo ringrazio anche per la premessa per aver ricordato che il bilancio è il documento che racconta meglio di qualunque altro documento amministrativo come l'istituzione comunale che è incaricata in primo luogo di offrire la cittadinanza e servizi essenziali di prossimità intenda poi impiegare le risorse pubbliche sul territorio questo è il primo bilancio dell'amministrazione spazzafumo dunque io mi aspettavo un indirizzo un bilancio di indirizzo in realtà secondo me questo è un bilancio senza anima un bilancio senza idee e un bilancio senza soldi soprattutto un bilancio senza soldi un bilancio che qualunque commissario straordinario avrebbe saputo fare bene non nego di trovarmi in difficoltà perché con un bilancio di provvisione che è già stato approvato dalla giunta e con un programma di mandato già approvato alla seduta del consiglio del 12 febbraio è chiaro che oggi è difficile cercare di spiegare bene la situazione ma va detto che già in sede di consiglio del 12 febbraio io avevo votato contro il programma di mandato perché contro quelle che ritenevo essere 16 paginette di programma ben lungi dall'essere in linea con quanto previsto e disposto dal legislatore all'articolo 46 del Tuel avrei sperato però che quelle linee programmatiche viste anche le osservazioni critiche già formulate in quella sede venissero poi suffragate da cose concrete quindi mi aspettavo di trovare concretezza in questo bilancio perché è una questione di metodo a pagina 3 del programma di mandato si parla di costruzione di bilancio partecipato quando perché a quanto mi costa questo bilancio non l'ha visto nessuno si parla di attivare l'urban center ma nel bilancio non ho trovato nulla si parla di aprire un nuovo asilo ma nel bilancio leggo 0 centesimo e dunque io mi chiedo allora erano solo desiderata come già sollevato e criticato avete in più occasioni dedotto di aver trovato la città in pessime condizioni di manutenzione una piccola Beirut e poi vado a vedere in bilancio che per la manutenzione dell'intero anno delle strade avete stanziato 120 mila euro cioè io quando ho letto questa somma mi sono detta non è possibile allora io chiedo oggi come pensate di pagare per abbattere che ne so una barriera architettonica per rifare un marciapiede per coprire le buche insidiose 120 mila euro di manutenzione annuale per le strade con i costi delle materie prime ormai alle stelle a seguito dei ovviamente degli aumenti delle materie prime per effetto dei vari bonus sono praticamente bruscolini però poi si stanziano i 200 mila euro per gli spogliatoi del torrione calcio e quello è oggetto di emendamento è un'altra storia che avete appena ci avete appena spiegato come ho detto è un bilancio senza anima perché il sindaco spazzafumo nel suo primo atto cioè disse nel suo insediamento che il suo primo atto concreto sarebbe stata la vicinanza ai cittadini una cosa che mi colpì che ho apprezzato moltissimo però qualcuno spieghi al nostro sindaco che in questo bilancio di questa avvicinanza al cittadino c'è poco molto poco e spiego anche perché perché direi che questo invece è un bilancio brutto è un bilancio dove la spesa consolidata si finanzia con le entrate straordinarie non correnti attraverso accertamenti e ipotetici recuperi dunque significa che i cittadini dopo un periodo lungo di pandemia e anche con i rincari che già sono in atto e per le conseguenze che già si prevedono purtroppo per questa brutta guerra si ritroveranno anche vessati dall'amministrazione inoltre non ci sono in bilancio ammortizzatori sociali non c'è supporto per le famiglie in difficoltà anche per le fasce di reddito insomma un bilancio sent'anima e veniamo all'aspetto che io reputo più preoccupante perché questo è un bilancio senza soldi ora non voglio tornare sulle solite questioni che sento sempre per qualunque argomento si va a trattare non abbiamo è un dato di fatto però va detto chiaramente che l'amministrazione non ha soldi questo è un bilancio senza soldi e qui c'è un grosso problema perché perché questo bilancio che non ha risorse è quello che i tecnici definirebbero un bilancio ingessato ed è un bilancio ingessato al 95% con un residuo libero che non arriva neanche a 500 mila euro e che per quanto la maggioranza per carità cerca di presentarlo e di farcelo percepire in maniera diversa io inviterei i dirigenti a procedere con molta oculatezza con molta oculatezza perché rammento a tutti che il comune di San Benedetto del Tronto è già stato messo in mora dal ministero degli interni per eccesso di crediti residui non riscossi nella ricognizione dei crediti relativa all'anno 2020 viene fuori una cifra esorbitante 35 milioni di euro per me neofita della politica e ammetto che poco si occupava 35 milioni di euro mi sono sembrati un'assurdità di crediti residui non riscossi abbiamo dunque poi ereditato dalla precedente amministrazione un'obbligazione di ben 6 milioni e 400 mila euro per adeguare il fondo crediti non esigibili che anche se rateizzata rateizzata in 15 anni e quindi dovremo rimettere una quota annuale di 430 mila euro però attenzione e lo voglio specificare perché sempre siccome la stampa riporta questo non è un tesoretto perché questi accantonamenti devono essere fatti con fondi propri dell'ente come se si dovesse pagare un mutuo in sostanza e dunque sono l'esatto opposto di un tesoretto e questo a dire che la riflessione e la considerazione anche su quelli che sono i crediti di dubbia esigibilità non è una mera pegnoleria non è che io sono pignola perché con un bilancio indubbiamente ingessato e la mancata capacità di riscuotere i crediti che ha lente produce delle conseguenze la prima conseguenza è chiaramente una carenza di liquidità e da cui deriva però cascata l'ulteriore conseguenza e cioè che il comune a sua volta non produce e con i pagamenti non procede con i pagamenti e quindi paga in ritardo i suoi fornitori ricorrendo anche in talunicasi alle anticipazioni bancarie che non sono gratis non sono gratis neanche per l'ente pubblico e a questo proposito ricordo anche la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020 che dice chiaramente due cose che bisogna evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguenti erogazioni di sanzioni pecuniare alle amministrazioni inadempienti e che il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR riforma 1.1 dunque se non si rispettano i tempi di pagamento si viene esclusi dai finanziamenti previsti del PNRR e l'assessore per lei ce ne ha elencati tanti appunto anche di bandi domande è chiaro che accedere ai fondi del PNRR è importante è una risorsa ma certo occorre procedere con attenzione perché come già detto il rispetto dei tempi di pagamento è una condizione abilitante per accedere ai fondi del PNRR quindi occorre procedere con oculatezza e questo non è che lo dico io lo dice l'IFEL che è la Cassazione in materia di bilancio in una nota di approfondimento all'articolo 9,2 concludo dicendo che le considerazioni che qui ho brevemente espresso anzi scusatemi prima di concludere volevo fare anche un ultimo appunto che quanto ho detto riguardava il pregresso perché poi a fine anno il Comune ha fatto partire anche una raffica di accertamenti per altri 3 milioni di euro e allora una domanda è d'obbligo che attesa di riscossione ha l'ente perché il bilancio di previsione si deve fondare su tutto e deve considerare anche l'attesa di previsione che ha nel momento in cui andrà a riscuotere questi crediti perché il volume di quello diciamo del credito di dubbia esigibilità magari andrà ad aumentare soltanto il fondo della Merlone come incentivo a quanti vi partecipano a quel progetto concludo comunque dicendo che tutte le consigliazioni che ho espresso richiamate anche già quelle svolte in sede di approvazione del programma di mandato quando votai contro mi confortano perché mi convincono ancora di più della correttezza del giudizio negativo che avevo espresso in sede di approvazione del programma di mandato con questo bilancio dimostrate non a me ma alla cittadinanza di San Benedetto ai cittadini sanbenedettesi che voi vi meritate il parere contrario e di ragione di ciò io esprimo il mio voto contrario grazie per avermi ascoltato grazie consigliera Michelangeli e altri interventi abbiamo passato i voti come? ah consigliera Barlocci non è una regola Paolo chi vuole parlare si possiamo fare buongiorno a tutti volevo ricordare come già illustrato molto chiaramente dall'assessore per lei volevo fare un appunto sulla questione del PNR perché ho letto degli articoli dove un po' diciamo si inficia il bilancio perché sembra che questa amministrazione si sia concentrata solo sui fondi come se fosse anche un peccato volevo dire che il PNR è entrato praticamente quest'anno però di fondi negli anni passati e di possibilità di intervento ce ne sono stati moltissimi e questa amministrazione diciamo si è resa colpevole di non aver mai partecipato in maniera molto attiva al reperimento dei fondi disponibili vi volevo ricordare l'ultimo quello di sport e periferie per esempio in cui l'amministrazione precedente non ha sicuramente brillato a parte questo volevo fare un'annotazione il trattato di Lisbona prevede che ogni paese della comunità abbia a disposizione almeno il 33% di strutture di asilinido per i bambini da 0 a 3 anni l'Italia è molto indietro a parte quattro regioni le marche si attestano attorno al 25% San Benedetto ancora sotto nel PNR noi abbiamo interventi di due nuove costruzioni e di una invece ampliata per 3 milioni di euro che non sono pochi perché gli asilinido rivestono sicuramente un'importanza sociale decisiva per la crescita del bambino e sicuramente delle agevolazioni per i genitori che lavorano ma anche quelli che non lavorano per le famiglie monoparentali in questo bilancio ce ne sono ben 3 due nuovi completamente e uno diciamo per per l'ampliamento io credo che questo sia un buon obiettivo perché non è detto che se ci siano ci sono i bandi a disposizione tutti i comuni partecipano così attivamente come stiamo facendo cioè un bando non è progettato cadendo dal cielo o redigendo due righe io ammiro la costanza dei tecnici di questo comune che si stanno dando molto da fare con delle scadenze estremamente impellenti noi siamo arrivati che già i bandi praticamente erano in scadenza per cui credo che ci sia da rendere merito a questa amministrazione degli enormi sforzi ripeto sia da un punto di vista tecnico che politico perché chiaramente c'è un concorso di lavoro da entrambi i casi questo mi rende personalmente credo che tutta l'amministrazione sia soddisfatta proprio di questo percorso poi chiaramente vedremo se riusciremo a portare a casa tutto sicuramente non ne lasciamo neanche uno indietro grazie grazie consigliere Barlocci prego consigliere Muzzi grazie presidente dunque diciamo che queste ultime considerazioni vanno a stimolare la voglia di fare qualche dichiarazione relativamente a questo primo bilancio dell'era spazzafumo che andiamo a votare sicuramente la politica è poco incisiva poiché con un bilancio bloccato vincolato al 95% la possibilità di incidere rimane minima quindi come potremmo dire è un bilancio ragionieristico ma come era il nostro lo è il vostro semplicemente perché già ci sono delle cifre ben delineate e ben vincolate però ecco su questo c'è da fare qualche appunto perché se è vero che dal punto di vista tributario c'è sostanzialmente una conferma dei tributi e quindi non si verifica non si intercetta nessun tipo di incremento a livello tariffario l'abbiamo detto ci sono comunque degli aumenti che vanno a comunque impensierirci poiché ecco si vanno a colpire abbiamo detto sia quelli più rilevanti sono quello sul capitolo menze e quello sul capitolo posteggi ora al netto che era necessario farli e al netto anche di tutte le discussioni che abbiamo già fatto in merito e non ci torno per diventare pedante sarebbe stato secondo me opportuno andare laddove fosse stato proprio necessario questo tipo di aumento andare a creare per esempio penso a il capitolo dell'aumento dei posteggi e sia dello stallo orario che del posteggio annuale per i residenti andare a creare un aumento di scopo ossia una voce nel bilancio che andasse a avere e dirottare e introitare questi aumenti per una determinata finalità ossia per esempio gli aumenti abbiamo detto i 130 mila euro che saranno un introito in più rispetto al passato potevano essere messi per andare a rifacimento a intervenire sul rifacimento delle strade o delle piazze quel tipo di impostazione avrebbe sicuramente dato al cittadino la consapevolezza e la tracciabilità di quella tariffa in più che anche con fatica andasse però a avere un riscontro tangibile sulla realtà questo sarebbe stato apprezzabile ed è può essere un mio umilissimo suggerimento anche per il futuro perché altrimenti per far quadrare la spesa corrente poi quegli introiti si perdono nei meandri delle tante voci del bilancio invece andare a fare una cosa specifica secondo me sarebbe stato importante altra considerazione sul piano triennale delle opere pubbliche la maggior parte andandola ad analizzare tranne quegli investimenti e quei fondi che siamo riusciti come vecchia amministrazione a recepire e che quindi vi preghiamo farne buon uso e farli fruttificare come i 2 milioni e 400 mila euro per la rigenerazione urbana del Ballarin gli altri 450 mila euro da parte della fondazione Cari Cassa di Risparmio sempre per il Ballarin altri 20 o 25 mila euro per il progetto che è già partito di riqualificazione al Ponte Rotto dell'area verde lì in via Sita ubicata in via Collameno al di là di questi progetti e di altri metodi di finanziamento tra oneri di urbanizzazione e monetizzazione c'è il mutuo che adesso abbiamo appreso proprio oggi sulla piscina purtroppo non potremo fare domanda per avere un finanziamento poiché il Ministero dello Sport ha dei criteri molto stringenti però tutte le altre voci sono legate a questo chiamiamolo Pozzo di San Patrizio a questo rimedio universale che è il PNRR quindi ormai molto inflazionato sulla bocca di tutti che però ecco non è che ci dà la garanzia che quei progetti laddove avessimo fatto domanda poi saranno finanziati quindi è un piano delle opere pubbliche ipotetico noi ci auguriamo assolutamente che che il Comune possa beneficiare di tutti i finanziamenti richiesti da adesso in poi il PNRR erroneamente da come è stato detto prima non è iniziato quest'anno ma è iniziato nel 2021 e avrà un orizzonte temporale fino al 2026 quindi giusto andare a calendarizzare i bandi e anche a implementare gli uffici per lavorarci in tal senso però qui ecco dobbiamo stare attenti perché non è che per ora l'unico bando a cui questa amministrazione ha risposto è stato quello provinciale ci ritorno dove i comuni terremotati avevano sì un punteggio superiore ma mentre i comuni di Grottamare a Tiguo ha preso 500 mila euro il nostro comune è arrivato ultimo con 0 euro quindi rimaniamo alla realtà dei fatti consolidiamo quello che abbiamo e che è stato fatto nel bene e nel male con degli errori dalla passata amministrazione però ecco poniamoci anche dei piani B ossia qualora la la pianificazione la progettazione di questi bandi non vada a buon fine come vengono finanziate queste opere pubbliche ecco non vorrei che poi questo schema risulti no rimanga appeso nell'ipotetico perché comunque ci dobbiamo porre questo grande punto interrogativo quindi è questo il primo atto dell'amministrazione noi come Forza Italia daremo un voto negativo per queste altre questioni che poi affronteranno anche i miei colleghi sicuramente non è a mio parere un buon inizio nel senso che abbiamo già constatato sia nella realtà che dalla stampa che ci sono state alcune frizioni addirittura anche con qualche dirigente dell'ente che sicuramente non aiutano a far funzionare meglio in maniera spedita la macchina amministrativa abbiamo appreso addirittura che non solo qualche dirigente ma abbiamo scoperto avete messo in discussione anche qualche santo o qualche santa e questo ecco mi sembra quantomeno inopportuno poi concedetemi una battuta finale fino adesso una cosa è stata fatta ossia avete desecretato nessun atto ma avete desecretato i vostri contrasti interni perché qui stiamo parlando di cinque mesi di mandato e già tre consiglieri cambiano appartenenza politica ed è un dato preoccupante non so se in nessun altro comune italiano si sia verificato una cosa del genere quindi noi da minoranza e lo vedremo dopo anche propositiva e coerente con il passato e non populista e demagogica anche se poi si sa il gioco dei ruoli che i cittadini ci hanno assegnato ci pone neanche un minimo di obiettività nel giudicare le situazioni e di conseguenza anche con un minimo di senso critico magari anche più diciamo forzato rispetto al normale però ecco noi come Forza Italia rileviamo queste criticità e esprimeremo un parere negativo grazie sì scusatemi devo rispondere al consigliere Muzzi guardi no 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 scusa scusa non posso non posso ok dopo ti dico ok stiamoci calmi il consigliere Muzzi ha finito la sua intervento a posto ecco ci sono altri interventi no no sono altri interventi aspetta te dico io non ci sono altri consiglieri a bottiglieri pensavo di parlare un pochino più tardi però allora grazie grazie presidente della parola signor sindaco e signori consiglieri non si sente no scusa è acceso forse è acceso qualcun altro ok allora il bilancio di previsione come tutti lo sappiamo ha la tradizionale funzione di riequilibrare le finanze in sostanza quello della copertura delle spese attraverso le entrate questa impostazione quella dell'approvazione del 31 dicembre dell'anno precedente consentono una valutazione più compiuta della gestione in quanto le scelte dell'amministrazione sono inserite in una programmazione annuale che vede il coinvolgimento di diversi settori e comunque ci sono stati anni in cui l'amministrazione comunale è riuscita a centrare questa buona pratica di approvarlo prima della fine dell'anno in tutta franchezza mi immaginavo che subito qualcosa di diverso da una giunta che ha creato così tante buone aspettative lo facesse non voglio indossare la responsabilità a nessuno e tantomeno agli uffici che di certo come sempre hanno lavorato lacramente per definire questo fondamentale documento di programmazione finanziaria ma auspico per il futuro una diversa e più efficace metodologia a vantaggio dei cittadini ma soprattutto della macchina comunale non costretta a soffrire con i dodicesimi di spesa il bilancio che oggi 26 marzo 2022 viene sottoposto alla nostra approvazione è un bilancio che nella verifica degli equilibri finanziari parla di entrate finali che finanziano interamente le spese correnti e in conto capitale gli interessi passivi il rimborso dei prestiti per chiudere con un avanzo di 446 mila e rotti euro nel piano pluriannale gli investimenti previsti sono a pari a euro 27 milioni e 750 mila euro così finanziati 22 milioni e mezzo per l'entrata di euro vincolate con le entrate per legge un milione e mezzo con accensioni di mutui e per i restanti 3 milioni e 700 mila euro con stanziamenti in bilancio ciò detto sapete sono una pediatra non un'esperta in maniera tributaria e fiscale e quindi evito di commentare un piano di investimenti su cui vi geleremo di anno in anno per comprendere se si tratta di un libro dei sogni o se ci sarà il riscontro puntuale di quanto oggi viene previsto e allo stesso modo rinuncio ad adentrarmi nell'analisi dei maggiori e minori entrate così come delle maggiori e minori spese correnti che lascio volentieri tecniche di materia per esprimere invece il mio personale giudizio politico quello sì e su alcuni aspetti a mio avviso di rimenti che ho rilevato all'interno di questo bilancio nel permettere che sono pienamente consapevole della criticità incontrata all'aggiunta comunale come già detto dall'assessore per lei nel redigere il bilancio odierno perché la crisi economica che ha investito tutto il nostro paese non ha di certo purtroppo risparmiato il territorio sanberedettese e perché l'ondata epidemia pandemica da covid 19 iniziata nel 2020 tuttora non esorita ha inciso in maniera consistente sui bilanci di tutti gli enti comunali e perché di conseguenza le entrate di dubbi e se azione sono cresciute in modo esponenziale ma tutto ciò promesso alla mia persona e questa città ci aspettavamo di trovare nel vostro primo bilancio provvedimenti diversi e migliorativi rispetto a quelli messi in campo dalla precedente amministrazione che anche per questa ragione non è stata probabilmente premiata le ultime amministrative in altre parole avete fatto la cosa più facile da fare cioè aumentare le tasse ormai mi conoscete sapete tutti che per carattere non riesco a essere più aggressiva di tanto perché il ruolo di consigliera di opposizione mi assegni questo compito certo cerco sempre di valutare il pro e contro di ogni proposta prima esprimere il mio giudizio e sapete anche che sono sempre indecisa fino all'ultimo momento prima del voto questa volta però non mi avete lasciato dubbi mi avete aiutato a decidere non condivido l'aumento delle tasse che è alla base di questo bilancio perché a mio modo è modo di vedere è totalmente sbagliata la misura e anche la tempistica in un momento di ansia di preoccupazione per tutti i cittadini sanbenettesi come quello che stiamo vivendo e non solo per il temore dell'estensione del conflitto dal cuore dell'Europa ma anche per le difficoltà del vivere quotidiano come riuscire a fronteggiare bollette spese familiari all'aumento indiscriminato dei prezzi sia fisiologico che speculativo per quanto riguarda come sapete gas energia elettrica e altre panterie prime l'unica cosa che forse secondo me non doveva essere fatta è complicare ancora di più la vita dei nostri concittadini è vero la situazione media dei comuni d'Italia è quella di un'obiettiva di difficoltà a fronteggiare le esigenze dei cittadini entrando contando soltanto sulle proprie risorse è altrettanto vero che le spese cosiddette ripetitive spesa corrente necessarie per il funzionamento della macchina comunale quindi personale utenze e così via in questo caso occupa quasi il 95% del nostro bilancio ed è vero che l'unica cosa che resta è quella di scegliere scegliere di fare o scegliere di non fare vi do atto che voi avete deciso di fare di dare risposte ma tutto ciò non poteva e non doveva essere in questo particolare momento passare attraverso l'aumento della pressione fiscale non si vede insomma in questo bilancio quella sensibilità che nel programma di mandato era stato un vostro cavallo di battaglia e mi spiego un'ottima politica del sociale è la cartina al tornasole di un'amministrazione che si occupa veramente e umanamente di tutti scusate questo gioco di parole ma non credo sia demagogico assiedire che l'umanità di una società di un governo si misura sulla capacità che esso di accogliere e aiutare bambini anziani e comunque le persone in difficoltà le persone che soffrono le persone disagiate le persone sole le persone malate in definitiva l'amministrazione ha fatto bene scegliere di garantire la regolare erogazione di tutti i servizi comunali mentre non posso dire altrettanto quando anziché di riservare un'attenzione mirata agli utenti più deboli ha confermato le liquide IMU e le dizionali comunali IRF senza prevedere agevolazioni e esenzioni per i meno ambienti ha aumentato le tariffe del servizio mensa scolastica ha aumentato le tariffe dei parcheggi ripristinato le tariffe dei diritti del mercato del pesce su sociale di fatti malgrado le risorse dell'ambito territoriale vediamo che nel rispetto al 2021 c'è una forte contrazione di risorse con un taglio di circa un milione e mezzo di euro a parte il contributo di morosità incolpevole da covid non esiste più consistente fondo di sostegno generalizzato per il pagamento degli affitti dell'anno precedente pari a 500 mila euro di cui 100 mila erano del comune e il resto della regione così come mi è sembrato di non vedere interventi mirati o importanti a favore dei pensionati meno ambienti considerando che la nostra città sta andando incontro come tutta Italia ha un indice di invecchiamento molto alto intorno alla nostra città intorno al 25% i centri estivi sono stati azzerati che dire della riduzione di 500 mila euro a favore dei minori stranieri da fidare in comunità visto e considerato che per l'amministrazione comunale detti impegni sono obbligatori viene da pensare che queste risorse verranno ricevute successivamente ricercate successivamente della serie intanto faccio quadrare il bilancio e poi vedrò altra posta a cui si fa fatica a credere è quella dei crediti di dopesazione che ha toccato la cifra di oltre 6 milioni di euro e gli altri ingenti scusatemi impegni di spesa per esempio l'indirizzo per le istituzioni universitarie pari a 550 mila euro che arriva all'emiciclo senza uno straccio di relazione su cosa si sta facendo e perché sia opportuno mantenerlo le scelte andrebbero ragionate condivise come così i numeri che devono essere suffragati da dati e da informazioni scusate ma un po' dal buio in questo caso non ci può essere per non parlare poi della gestione del verde pubblico dei patrimoni verdi della città e che voglio ricordarlo non sono soltanto una vocazione attrattiva la nostra città non ha soltanto una vocazione attrattiva e turistica dobbiamo guardare i bambini che saranno il nostro futuro e gli anziani che rappresentano le nostre radici in questa ottica non vedo ad esempio nel bilancio di anno la volontà di valorizzare i parchi cittadini che sfogano anche una indispensabile e importante funzione sociale e con il senno di poi ripenso anche agli attacchi che sono stati fatti a questa amministrazione alla fine dello scorso anno quando gli furono tridicate le spese di ammodernamento dell'ufficio del sindaco e le spese degli addobbi natalizi allora non avevo condiviso questi attacchi perché ho sempre ritenuto che un'amministrazione deve avere la possibilità di fare le libertà di essere sceglia di libera ma oggi conoscendo l'epilogo finale non le condivido più non le condivido più non condivido avrei condiviso il fatto di evitare spese in quel momento che potevano essere risultati supefe ma soprattutto che non vanno assolutamente fatte in un momento di strittezza economica peggio ancora laddove queste risorse non ci sono il documento di programmazione finanziaria che oggi sottoponete alla nostra approvazione mi trova invece stranamente concorde nel passaggio che richiama la necessità di fronteggiare la scherzità di risorse economiche attraverso l'adozione di tutti gli strumenti di lotta l'evasione fiscale che nella nostra città ha raggiunto la cifra di circa 3 milioni ritengo davvero che sia indispensabile monitorare con attenzione di diversi tributi perché non si tratta solo di ripesternare le casse comunali ma anche ad assumere un atteggiamento eco rispetto alla cittadinanza e faccio ad esempio IMU e passi carrabili l'amministrazione o per lei la guardia di finanza per conto dell'amministrazione deve assolutamente scovare i falsi comodati che sono la palissiani quando non c'è nemmeno la parentela ed evidenti quando non c'è la congruenza di utenze e di scherzioni anacrafe che peraltro devrebbero coincidere come la dimora approfitto dunque dell'occasione per rivolgere l'appello al sindaco e all'assessore di riferimento affinché si costituisca più presto una task force vogliamo chiamarla così per scovare queste sacche di evasione ad esempio mi dicono più voci che a Porto d'Ascoli c'è una grossa realtà di case vicine al mare dove molte di queste risulterebbero prima casa ma anche se nel periodo invendale non c'è nessuna traccia di residenti forse sono soltanto voci ma penso che valga la pena di sincerarsene e gli stessi identici controlli vanno esperiti sui bassi callabili perché non è possibile che un cittadino contempore regolarmente gli adempimenti comunali deve vedere il suo vicinato che non solo non paga ma si crea abusivamente il passaggio modificando il cordolo intravertino del marciapiede insomma va messo con coraggio un punto definitivo a questa malagessio per i diritti e i doveri che devono essere uguali per tutti i cittadini vado a concludere nell'esprimere il mio voto contrario a questo bilancio per tutte le ragioni sovraddette con l'invito rivolto al sindaco all'intero consiglio considerate che le disponibilità devono sempre più scarse e sono al limite della copertura degli obblighi di spesa auspico che questa amministrazione prosegua con un atteggiamento di necessità virtuoso e di rigore associandomi alle sostanziali raccomandazioni espresse dai revisori contabili nella loro organizzazione per quanto è perentorio e dure la prima verificare costantemente le previsioni di entrate e di spesa correnti perché come viene detto nella relazione l'incertezza e la leatorietà sull'andamento di incassi causata a ragioni diverse rendono che è già realistica la necessità di apportare successivamente tutte le modifiche necessarie in altre parole un bilancio che ha trovato pareggio ma che invasa a buona parte la soprannacazione sulla speranza di introidi futuri qualche procurazione la sollecita di perseguire la definizione di un modello di governanza esterna un ulteriore suggerimento che non mi pare esprime il massimo della serenità ovvero un'altra raccomandazione che fa trasferire l'esigenza di monitoraggio continuo un processo che è di certo sinonimo di umiltà ma anche di intelligenza politica ma che probabilmente ha bisogno di maggiori attenzioni e l'ultimo suggerimento che è quello di perseguire nel programma è avviato di valutazione del rischio aziendale di conseguenti risanamenti ciò detto esco da oggi con questa assise con una cresciuta preoccupazione per il futuro mio e dei miei concittadini grazie per l'attenzione grazie consigliera bottiglieri altri interventi sì consigliera mancaniello prego grazie presidente io vorrei ricordare a tutti che noi governiamo da cinque mesi in questi cinque mesi siamo proprio come siamo entrati abbiamo avuto il peggio della pandemia più ci sono stati gli aumenti delle bollette che non è che le pagano solo le case ma le paga anche il comune più gli aumenti delle materie prime e il caro benzina quindi abbiamo dovuto affrontare tutte queste cose e farle rientrare nel bilancio un bilancio sì dite incestato al 95% un bilancio che abbiamo ereditato la manovra del 5% secondo me ha un grande indirizzo politico potevamo alzare l'imo potevamo alzare l'atari invece siamo stati fermi il sindaco è stato fermo le tasse non si alzano a parte l'adeguamento dell'istat le tasse non si sono alzate e non verranno alzate oltre anima e cuore non senza cuore questo bilancio proprio anima e cuore c'è anche organizzazione come siamo entrati la prima cosa che è stata organizzata è stato il tavolo per intercettare i fondi del PNRR non è che ce li regalano sono tanti a chiedergli la prima cosa che è stata fatta è stata questa organizzazione abbiamo risposto a tutti i bandi e per rispondere al bando il programma deve essere cioè la risposta deve essere pronta già deve essere tutto organizzato i tempi sono strettissimi quindi non solo anima e cuore anche organizzazione certo speriamo l'anno prossimo di fare un bilancio dove possiamo intervenire di più magari durante l'anno cerchiamo di intervenire se possiamo intercettare altri fondi una desiderata nel bilancio non abbiamo messo desiderate se non l'assessore alla cultura avrebbe avuto tante cose da organizzare tante cose dove partecipare grazie grazie consigliera Mancaniello altri interventi consigliere Traili prego sì grazie presidente dopo aver sentito insomma un po' di opinioni chiaramente divergenti sulla presentazione di questo documento chiaro che ci siamo fatti un po' tutti l'idea di come affrontare questo bilancio ingessato al 95% insomma il motivo che è stato sempre ribadito sia in commissione e bilancio ne abbiamo fatte due a tal proposito che anche quest'oggi ma qui l'aspetto cioè dopo aver analizzato un po' i numeri sia della nota del giornamento al DUP che dello schema di bilancio ma anche dopo aver ascoltato la relazione dell'assessore è brutto dirlo però di fatto quello che oggi viene presentato è un mero adempimento burocratico non me ne vorrà l'assessore però di questo stiamo parlando anche perché come già detto da qualcuno questo rappresenta il primo bilancio presentato dalla nuova amministrazione ma è anche l'atto principale con il quale si dà un indirizzo chiaro è la volontà politica di concretizzare le promesse che poi sono state fatte durante la campagna elettorale legittimamente voglio essere chiaro io sono consapevole del fatto che comunque ci sono delle difficoltà difficoltà evidenti legate alle varie situazioni contingenti non direttamente del nostro territorio ma che inevitabilmente hanno delle rigadute ma le difficoltà ci sono sempre state non è che quando ci siamo inseriti noi nel 2016 erano tutte rose e fiori anche noi abbiamo dovuto affrontare le varie problematiche ma probabilmente anche chi ci ha preceduto il discorso e l'atteggiamento e il proposito che uno si pone noi nel 2016 appena insediati lo ricordiamo tutti perché molti di voi erano già in consiglio all'epoca dovremmo affrontare il problema del terremoto nel 2016 che non fu una cosa così leggera dover ripianificare anche col settore dei lavori pubblici tutti i vari interventi nelle scuole nelle varie situazioni oppure trovare delle soluzioni per alloggiare le persone che erano in difficoltà ma poi voglio ricordare anche l'inizio della pandemia del 2020 oggi ne parliamo a distanza di due anni con delle difficoltà che oggettivamente ci sono ma con molti accorgimenti che sono stati presi all'epoca era una novità assoluta tornare a fare delle variazioni su delle situazioni che non si conoscevano e non si sapevano nemmeno la durata era molto più complicato per non parlare poi dei numerosi contenziosi che ci siamo trovati a dover risolvere tanti tantissimi e qui si fa sempre riferimento all'amministrazione Piunti ma non si scorda che l'amministrazione Gaspari è quello che ci aveva lasciato qualcuno di voi se lo ricorda in commissione debiti addirittura non iscritti a bilancio che quindi poi sono dovuti essere riconosciuti come debito fuori bilancio che la precedente amministrazione aveva lasciato nei cassetti e che abbiamo voluto ripianare quindi le difficoltà ci sono e ci saranno sempre a tal proposito vi ricordo che uno dei primi atti che ho dovuto fare da assessore a bilancio nel luglio 2016 non so chi di voi se lo ricorda fu il riconoscimento del debito fuori bilancio di una causa causeria di ferri di oltre un milione di euro allora se il principio è ci sono difficoltà non possiamo far nulla non c'è bisogno della politica allora il discorso che io vorrei affrontare è che oltre a queste difficoltà legate quindi pandemia crisi energetica guerra in Ucraina quello che vogliamo dobbiamo però affrontare anche i dati positivi che ci stanno perché ci sono anche i dati positivi non ci sono solo quelli negativi perché molte situazioni del tempo sono migliorate faccio riferimento ad esempio all'anticipazione di cassa noi quando siamo insediati pagavamo tanto per essere la banca perché di fatto l'anticipazione di cassa sostanzialmente è il servizio di segreteria eh sì di segreteria servizio scusate tesoreria che anticipa dei soldi e tutto quanto da quando ci siamo insediati abbiamo sensibilmente ridotto sia i tempi di pagamenti che da 90 giorni sono arrivati anche per i debiti commerciali a 11-12 giorni come ricordava l'assessore in commissione ma anche e soprattutto non siamo più ricorsi o se non per pochissimi giorni all'anticipazione di cassa quindi gli interessi passi per il pagamento e le banche di fatto si sono azzerati quindi questo crea risorse all'amministrazione attuale per non parlare poi dell'entità come valore non come quantità dei contenziosi essendosi risolta positivamente una causa che durava anche qui da oltre 20 anni qualcuno la ricordava in commissione di oltre 6 milioni di euro quindi incitere in maniera sensibile sul fondo rischi contenziosi dei soldi da accantonare fortunatamente si è conclusa positivamente quindi questo permetterà a questa amministrazione non solo di stanziare meno soldi per il fondo contenzioso che noi invece eravamo obbligati a tenere ma anche di liberarli perché nel momento di cui si abbasserà l'entità dei valori chiaramente delle risorse potranno anche tornare utili almeno in parte per non parlare dell'ione di urbanizzazione che sono anche questi aumentati anche i servizi per quanto riguarda le entrate del servizio cimiteriale per le cremazioni sono aumentati da 800 stiamo intorno ai 900 a 950 mila euro quindi di aspetti positivi ce ne sono tanti per non parlare poi del PNRR di cui tutti si rimbrano la bocca perché va è così che riguarda però sostanzialmente la parte in conto capitale gli investimenti chiaramente non è che riguarda poi la spesa corrente chiaramente però queste opportunità vanno colte e per coglierle bisogna essere sul passo sembrerebbe da come vengono annunciati questi progetti queste situazioni che sul passo questa amministrazione ci voglia essere però è chiaro che gli aspetti positivi vanno analizzati vanno sfruttati e quindi non bisogna agire con scuse preventive o con pianistia risolta per utilizzare una parola che tempo fa insomma è stata anche oggetto di discussione sui vari social network e giornali anche perché molti molti di voi quando sedevano sui banchi dell'opposizione insomma erano anche vehementi le contestazioni facevano fin da non capire che c'erano delle difficoltà oggettive quindi adesso bisogna anche avere l'onestà intellettuale di dire che sostanzialmente non si è voluto approfondire o quantomeno percepire quali erano le reali esigenze della città e quali erano le reali difficoltà dell'amministrazione difficoltà attenzione che sono state poi affrontate e anche superate molte di queste e queste bisogna anche darne atto quindi nelle due commissioni bilancio sia quella fatta sulle entrate ma anche quella poi successiva fatta sulla spesa ma anche nella regione di quest'oggi quello che è mancata chiaramente è stata quella visione politica intesa come indirizzo programmatico di quello che si vuole concretamente fare perché poi a parte l'anno 2022 questo è un pluriannale anche per gli anni a seguire sì c'è un elenco probabilmente di desiderata però la visione di insieme questa effettivamente è sfuggente tra l'altro non si capisce dove siano finiti molti progetti che venivano proclamati in cabana elettorale nelle piazze ma anche sui social io mi ricordo i vari post fatti in campagna elettorale su questo o quella situazione il sottopasso di Via Mare francamente non è inserito nelle opere nemmeno sul pluriannale a meno che non si è deciso di farlo ancora dopo oppure non c'è nulla su Piazzetta Ancono o Piazza Dante o come ha ricordato qualcuno dell'Urban Center ma addirittura nemmeno quello che si era detto che sarebbe stato fatto nei 100 giorni ad esempio via Pasubio che sarebbero state ripiantumate le piante io non so se mi sfugge qualcosa qualcuno le è stirpate nel frattempo però io le piante non le ho viste quindi ci sono tante cose che non sono state realizzate per carità di me quindi vi siete soltanto limitati a dire che il bilancio è ingessato al 95% ma il bilancio ma non perché voglio fare adesso ma il bilancio soprattutto per la spesa corrente sono anni che è ingessata una misura al 90-95% sono anni che non è una novità assolutamente non è una novità e quindi dire che sostanzialmente la difficoltà o far rappresentare che la difficoltà sia emersa soltanto oggi non è corretto perché tutti hanno avuto questa difficoltà e noi in particolare anche perché ci siamo inseriti quando di fatto era in essere ed era piramide dirigente il bilancio armonizzato con tutti i fondi obbligatori che incidevano in maniera molto molto importante si è evidenziato poi che non si aumenterà l'Imu che non si aumenterà l'Irpef e la Tari ma anche qui una precisione va fatta l'Imu non l'avevamo aumentata nemmeno noi sono anni che l'Imu non viene aumentata anche perché diciamo la tutta i parametri sono già alti quindi anche lì il margine non è proprio per poi parlare dell'addizionale l'Irpef l'Irpef è dal 2007 che non viene aumentata anche qui nulla di nuovo sotto al solo della politica e in più c'è un impegno un impegno che si è preso l'assessore che ha detto che sostanzialmente in commissione se non ricordo male che la Tari non verrà aumentata però anche qui bisogna stare attenti perché quello che sta riscritto a bilancio è lo stesso gettito dello scorso anno cioè del 2021 perché questo? perché il piano economico e finanziario ancora dovrà essere redatto predisposto ed approvato quindi non sappiamo se anche la Tari rimarrà in maniera sostanzialmente uguale all'anno scorso quindi anche qui bisognerà poi fare i conti con quelli che sono i principi della Rera con quelli che sono i principi contabili e soprattutto quella che è la situazione anche con il gestore sulla base dei maggiori costi in realtà quello che emerge che è l'unica decisione chiamiamola politica però questo è perché è una decisione politica è stata quella che hanno ribadito tutti di aumentare i parcheggi e le mezze su questo è un dato c'è stata una delibera in cui c'è stata fatta questa scelta da parte dell'esecutivo soprattutto in un periodo insomma banale dirlo ma dove le famiglie sono tra l'altro in difficoltà e non poco e non poco per quanto riguarda i parcheggi la giustificante è stata data sulla base di una mera comparazione di città a noi vicini o comunque simili tipo Civitanova Senigallia ma anche Aspire e Pescara però senza adeguarsi a quelli che poi sono i servizi offerti o quantomeno una valutazione dei servizi offerti da queste città poi è stata fatta una valutazione insieme agli addetti ai lavori intesi come coloro che hanno attività commerciali quelli che hanno attività ricettive è stato fatto un passaggio a quello che mi risulta non è stato così quindi anche su questa situazione probabilmente si poteva fare meglio quanto meno in termini proprio meramente esecutivi e pratici poi per quanto riguarda la decisione di aumentare le mezze scolastiche praticamente questo ha contrariato me ma ha contrariato tantissime altre persone ma come tutte le cose quando c'è un aumento questo penso sia normale però l'aumento va ben oltre l'indice Istat soprattutto per le famiglie con i 6 sopra 20.000 euro l'assessore in commissione ha detto chi diamo di più a chi ha di più beh in senso assoluto questo potrebbe anche essere vero il problema è che una soglia di 6 a 20.000 euro non è una soglia tale per cui così alta da poter fare una semplicissima affermazione come questa perché in realtà una soglia a 20.000 euro significa che la grande maggioranza delle famiglie si ammette se si troveranno a pagare maggiore immo forse è stato un'isea a 50-100.000 euro ci stava il principio ma a 20.000 euro francamente no anche perché ripeto andiamo a colpire sempre le stesse persone fondamentalmente se proprio si doveva aumentare qualcosa allora un'analisi maggiore andava fatta su tutti quei tributi o meglio su tutti quei servizi a domanda individuale dove la copertura del servizio è veramente bassa e ce ne sono diversi ce ne sono qualcuno al 25% altri al 50% non quello che viene già coperto al 99-100% se proprio era necessario ritoccare qualcosa quindi tutte queste somme incidono chiaramente sulla spesa corrente che è il tallone della griglia di tutti gli enti pubblici in particolar modo di quelli di prossimità come i comuni ma nei momenti di crisi difficoltà è proprio sulla spesa corrente che bisogna intervenire non è che il cittadino viene qui a chiederti di intervenire sul conto capitale su un investimento viene a chiedere se ha difficoltà di intervenire sulla spesa corrente e come si interviene o si creano fondi e noi ne avevamo creati tanti diversi oppure si riducono gli importi che si chiedono quindi un'analisi più approfondita secondo me anche nelle varie commissioni andava fatta per quanto riguarda le politiche sociali c'è stato un elenco di azioni che verranno svolte ma in realtà è una riproposizione semplice di quello che era già in essere speriamo che il livello della qualità dei servizi rimanga tale come era in precedenza però per quello che è di estrema attualità e mi riferisco a quello che dicevamo prima cioè al costo delle utenze piuttosto caro gasolio e anche l'accoglimento dei profughi è chiaro che qui le idee sono un po' quantomeno non dico non sia stato fatto nulla ma non c'è una chiarezza e non è stato detto nulla in questo senso così come nulla è stato detto per le politiche ambientali per le politiche ambientali si ok si è fatto un elenco di singole somme messe lì però non si è capito qual è l'indirizzo che questa amministrazione vuole avere cioè se vorrà proseguire i progetti o magari anche ampliare i progetti Eco School ad esempio se verrà portata davanti la battaglia sullo stoccaggio del gas oppure questa amministrazione non vorrà farlo quando invece insomma ci siamo già impegnati in tante in maniere in tante occasioni su questo discorso se verrà confermata anche le certificazioni ambientali in particolar modo la registrazione EMAS che è stato un grado di certificazione molto molto impegnativo che c'è frutto di anni e anni di lavoro di audit fatti con le società di certificazione ma non si è detto nemmeno quanto sarà stanziato per la lotta al punto oro rosso presumo che insomma che questa amministrazione vorrà portarla avanti essendo noi la rivera delle panni o ci vogliamo semplicemente limitare a sostituire l'essenza albore se verranno ampliati ad esempio i progetti internazionali oltre al patto dei sindaci o all'Italia Crovasi anche qui politicamente parlando non è stato detto nulla così come anche il progetto a pesca di plastica che ha dato una risonanza non da poco alla nostra città e alla nostra malineria non si dice quindi quello che verrà fatto non si dice quanti e quali soldi ci verranno messi fondamentalmente nella relazione e poi c'è anche un altro aspetto sempre sul discorso ambientale noi nella precedente amministrazione e io in particolar modo stavo seguendo il regolamento sull'inquinamento acustico sia per le attività temporanee che permanenti è stato fatto anche un passaggio in commissione spero che questo documento venga ripreso e portato avanti perché è a un buon grado di completamento in senso mancano gli ultimi aspetti e potrebbe essere utile anche perché permetterebbe alla Polizia Municipale di poter fare accertamenti diretti senza ricorrere all'ARPAM e quindi magari anche di aumentare perché no il gettito per coloro che non rispettano le regole e quindi anche questo mi farebbe piacere sapere come la pensa questa amministrazione se lo porterà a terra quindi il documento presentato quest'oggi chiaramente non può essere votato in quanto è un mero documento contabile predisposto al sol fine di far riportare i conti questo è il dato in un anonimo equilibrio di bilancio che come ha detto qualcuno mi sembra la consigliera Marcheggiani è senza anima e senza visione e questo lo si evitiva da tanti piccoli aspetti ne faccio uno giusto per non tediarvi ulteriormente ad esempio per quanto riguarda il capitolo legato agli interventi di sommorgenza cioè quel capitolo di bilancio che serve in determinate situazioni di urgenza anche per l'economia pubblica di avere delle risorse a disposizione ci è stato messo zero nemmeno 500 euro nel senso se c'è un intervento necessario di sommorgenza da effettuare così di fatto è un problema non c'è stato messo nulla quindi questa la dice lunga sul fatto che questo documento è soltanto fatto per far riportare i conti e presentarlo entro la data utile per poterlo approvare anche se poi di fatto è stato anche prorogato spessissimo come dicevo prima si fa riferimento al PNRR ok io spero sinceramente che molti di quei progetti e quindi di cui si è parlato prima vengono effettivamente realizzati e presentati lo spero ovviamente per la nostra città anche perché visionando il DUP la nota di aggiornamento al DUP ma anche gli altri allegati al bilancio di fatto e non poteva essere altrimenti tutti i progetti che sono in base di esecuzione e collaudo chiaramente sono riferibili alla precedente amministrazione così come sono riferibili alla precedente amministrazione i 2,4 milioni di euro che tutti vanno decantando per quanto riguarda la riqualificazione dell'area ex Balani o i 450 mila euro della fondazione Caixa questo però evidenzia in maniera chiara che per ideare progettare e realizzare progetti la famosa messa a terra dei vari progetti ci vuole volontà indirizzo e soprattutto ci vuole tempo quel tempo che nel recente passato non è stato non è stato riconosciuto quantomeno non si è voluto concedere e che speriamo che per il futuro di non doverlo perdere questo tempo però insomma se le premesse sono queste qualche preoccupazione ci sta grazie grazie consigliere Traini consigliere Capriotti Fabrizio prego grazie presidente sicuramente colleghi quello che volevo dire è questo il bilancio così come funziona un bilancio previsionale di un'amministrazione ha diverse sfaccettature da un punto di vista contabile i principi contabili l'OIC che è un organismo italiano di contabilità emana quelli che sono i principi contabili il principio contabile 11 dice che un bilancio deve avere dei presupposti i presupposti fondamentalmente sono i principali perlomeno prudenza competenza e significatività a nostro avviso questo bilancio il bilancio redatto da questa amministrazione ha questi presupposti prudenza competenza e significatività è chiaro che il bilancio non si fa in un mese non si fa in un giorno non si fa in tre mesi o quattro mesi ma si fa in dodici mesi noi abbiamo dato mandato come maggioranza agli uffici e agli assessori di governare e di gestire il bilancio dodici mesi all'anno 365 giorni all'anno con delle revisioni periodiche almeno trimestrali che dovranno essere fatte perché il bilancio questo è un bilancio previsionale che poi andrà vissuto durante tutto l'anno e magari ci saranno anche delle possibilità che ci permetteranno di poterlo migliorare laddove possibile chiaro che viviamo tutti questa situazione un po' di incertezza legata ai tanti aspetti che già molti di voi hanno detto quindi qui non mi dilungo però i vari progetti sui quali stiamo lavorando e sui quali l'amministrazione si sta impegnando moltissimo che sono quelli che diceva anche Andrea Traini del PNRR potranno in un certo consenso sconvolgere la vita di tutta la città la vita dell'amministrazione che ci dovrà lavorare ma poi di tutta la città e speriamo ci auguriamo che questo possa avvenire perché è un grande valore aggiunto da questo punto di vista sicuramente siamo fortunati però insomma dire che il bilancio non ha che questo bilancio non ha prudenza competenza e significatività insomma a mio avviso al nostro avviso sicuramente non è così ho alcuni aspetti che mi preme evidenziare per esempio è un aspetto legato alla sicurezza come ha enunciato prima l'assessore per lei abbiamo messo in preventivo grazie sempre al PNRR ma anche a risorse interne all'amministrazione tutta una serie di interventi che dovranno essere fatti sulle scuole no questo mi pare evidente nessuno ancora l'ha fortemente evidenziato ma è un impegno che l'amministrazione ha sindaco noi le scuole non le vendiamo noi le scuole le ristrutturiamo le riqualifichiamo perché se non si investe sui giovani e sulla cultura e sullo studio insomma sta città non progredirà mai un altro aspetto sul quale stiamo lavorando molto è il discorso sicurezza è l'investimento che stiamo facendo e che si continuerà a fare ad esempio sul miglioramento delle condizioni di lavoro della Polizia Municipale mi pare che anche qui in questi pochissimi mesi questa amministrazione è riuscita a tirar fuori un piccolo successo magari come qualcuno ha detto sarà stato un colpo di fortuna però insomma questo eco mostro come qualcuno l'ha definito di Piazza Colpe alla fine vedrà una nuova luce la Polizia Municipale si trasferirà lì ed è un buon successo investiremo altri soldi sulla sicurezza perché gli uffici andranno rifatti quindi sarà modernizzati c'è tutto un progetto che si sta portando avanti sulla videosorveglianza che chiaramente con la nuova sede verrà strutturato in maniera in maniera adeguata sempre in materia di sicurezza sarà una cosa che mi sta a cuore perché poi ne sento tanto in questi giorni però vorrei ricordare che l'unica amministrazione l'unica amministrazione che è stata capace di fare un'ordinanza di chiusura per le attività per i pubblici esercizi del centro è stata l'amministrazione spazzafuoco perché né quelle precedenti di centrosinistra o di sinistra o di destra avevano fatto un'ordinanza che prevedeva una chiusura dei pubblici esercizi in mesi come in questo caso speriamo di farla per aprile o maggio adesso vedremo con i tempi tecnici e anche in base alle linee guida che usciranno fuori a breve sul discorso pandemia noi la faremo quindi noi ci siamo già confrontati con le associazioni di categoria e insomma i commercianti o anche qui permettetemi cioè questa amministrazione in quattro mesi ha incontrato quattro volte tutti i commercianti diciamo legati a un problema particolare che è quello della movita del centro io onestamente sarà un po' anche per di ontologia mia professionale non ricordo una così forte attenzione su questo tema un altro aspetto e quindi è chiaro che questa ordinanza di vago magari non andrà a risolvere il problema però dimostra che siamo determinati e lo vogliamo affrontare e portare avanti il problema insomma che è famoso discusso della movita molesta eccetera un altro aspetto importante su quale questo bilancio previsionale e nell'elenco delle opere pubbliche nel programma triennale punta molto è quello legato alla rigenerazione urbana mi pare determinante perché anche qui la riqualificazione del Ballarin piuttosto non so se l'avete letto no l'ex scuola Leopardi o il parco di Villa Rambelli potrebbe dare alla città un nuovo volto potrebbe dare quelle alternative che magari ai giovani oggi manca potrebbe dare una luce una ipotesi di sviluppo futura in alcune zone della città sono investimenti importanti l'amministrazione si impegnerà con gli uffici quindi ci saranno ulteriori investimenti che verranno fatti ma che al nostro punto sono di prospettiva per cui quando si dice ma l'amministrazione che tipo di vision ha su questa città che visione ha sulla città beh mi pare chiara investiamo sulle scuole investiamo sulla sicurezza investiamo sulla rigenerazione urbana investiamo sui giovani mi pare evidente come si fa a non dire che non c'è una visione sulla città poi un'ultima battuta e chiudo così sono anche sotto i dieci minuti come il buon nostro presidente ci ricorda di essere brevi e su Piazza Montebello va Piazza Montebello sicuramente è un tema che sta a cuore a tutta la città sta a cuore a questa amministrazione e di una cosa si può star certi faremo quello che la città vuole quindi non andremo incontro a chissà quale disegno ma faremo quello che la città vuole e ci chiede grazie grazie consigliere Gabrieotti Fabrizio consigliera Carbone Emanuela bene grazie presidente buongiorno a tutti e alcune considerazioni su questo importante documento che oggi viene presentato all'appropriazione di questo consesso ho ascoltato attentamente le relazioni che sono state fatte dall'assessore Pellei durante le commissioni dei giorni scorsi così come i documenti allegati che ci sono stati inviati sinceramente ah sì scusa sinceramente mi è apparso una mera elencazione di di voci di bilancio di spese di entrate di politico ho visto e ho ascoltato ben poco ovviamente ci sono stati tanti buoni propositi che l'assessore ha detto durante le commissioni però questi propositi questi obiettivi traslati nella realtà mi fanno sorgere dei dubbi sulla loro effettiva realizzazione il loro raggiungimento perché l'impegno dell'assessore di tutta l'amministrazione di non aumentare la Tari di ridurre l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali così come già fatto notevolmente dalla precedente amministrazione l'impegno a ridurre non è stato detto credo a nessuno dei colleghi ma detto dall'assessore preso di ridurre anche i 14 milioni di spese per il personale sono tutte buone intenzioni che tuttavia sono state confutate dalla realtà dei fatti e dalle azioni intraprese finora se pensiamo a quello che è già stato ricordato da diversi miei colleghi se si pensa all'aumento dei buoni per le menze scolastiche o delle tariffe degli stalli blu di tutta la città l'aumento dei buoni spesa per le menze è stato giustificato per l'incremento dell'approvvigionamento delle materie prime così come invece per l'aumento delle tariffe dei parcheggi a pagamento l'assessore ha detto che serviranno in parte a compensare i rincari delle utenze che questo comune ha subito e questi aumenti sono stati effettuati paragonando come diceva anche il collega Traini come ha detto l'assessore paragonando le tariffe che sono in essere in altre città simili a San Benedetto scelte che secondo l'assessore per lei non hanno generato problemi alle famiglie questo ha dichiarato l'assessore perché rivolti tra virgolette proprio uso le parole dell'assessore a chi se lo può permettere a questo punto mi chiedo quali siano i parametri di benessere dell'assessore se l'assessore gira per la città se è un punto di riferimento per i cittadini se li ascolta perché contrariamente a quando lei assessore sostiene personalmente a me e altri consiglieri sono giunte tante lamentele per questi provvedimenti ci sono stati genitori di intere classi che si sono lamentati per gli aumenti delle tariffe delle menze scolastiche che erano pronti a manifestare a venire a parlare con il sindaco con lei con altri amministratori a fare articoli sui giornali poi non so cosa è stato fatto sulla stampa non ho visto nulla però queste sono cioè ci sono è possibile testimoniarlo insomma che le lamentelle ci sono state e sono state tante poi per l'aumento delle menze delle tariffe delle menze si è cercato di camuffarlo o perlomeno attraverso l'istituzione di questa fascia intermedia di sei nella quale effettivamente rientrano ben poche persone quindi l'aumento lo hanno subito quasi tutti tutte le famiglie che hanno i bambini che frequentano le menze chi più e chi meno così come l'aumento delle tariffe dei parcheggi a pagamento lo subiscono tutti i residenti i nostri concittadini indipendentemente dalla loro situazione economica se abitano in zone dove ci sono questi stalli io adesso chiedo al sindaco a tutti gli assessori a tutti i consiglieri che dico che non vi trovate a dirigere un'azienda dove l'obiettivo è quello di pareggiare il bilancio o sperare di ottenere un utile qui l'obiettivo è quello di garantire il benessere di tutti i cittadini così come avevate evidenziato nel vostro mandato programma di mandato le soluzioni per coprire gli aumenti dovuti ai rincari all'approvvigionamento delle materie prime che sono dei comunque dei rincari degli incrementi che hanno già subito tutte le famiglie non solo il comune queste soluzioni per coprire queste spese le dovete trovare insieme ai tecnici e ai funzionari dei servizi non li dovete assolutamente far ricadere sui cittadini talvolta la percezione che ho è che manchi da parte di questa amministrazione l'empatia cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri quella sensibilità di comprendere le difficoltà il senso di comunità una caratteristica che dovrebbe distinguere invece qualsiasi amministratore a mio avviso a questo punto mi permetto di fare un breve riferimento anche alla questione dell'installazione della statua di Santa Madre Teresa di Calcutta che ha suscitato tante perplessità e critiche da parte dell'assessore Lazzari credo a nome di tutta l'amministrazione visto che non ci sono state prese di posizioni differenti chiedo a tutti presenti se sapete quanti sono i residenti a San Benedetto albanesi non so lo dico io sono 700 in tesi di origine albanese se conteggiamo anche coloro che abitano nei comuni di Mitrofi arriviamo a 1500 quindi una comunità molto nutrita ben inserita nel tessuto cittadino da diversi decenni un'installazione che sarebbe stata come sappiamo completamente a carico di spesa della comunità quindi questa presa di posizione mi è sembrata tutt'altro che una dimostrazione di integrazione nei confronti di questi di questi insomma nostri concittadini tra l'altro si parla di un personaggio che ha ricevuto il premio Nobel per la pace e che insomma ha dedicato la sua vita al servizio degli ultimi sì è stata approvata però non dopo tante critiche che ho letto sui giornali tante ecco adesso se mi smentisce vabbè vado avanti io sto parlando di quello che è successo in passato non di quello che poi dopo qual è stato l'epilogo io ho fatto un atteniamoci però appunto all'ordine del giorno che è il bilancio va bene infatti per ritornare al bilancio voglio dire che il settore servizi sociali dovrebbe il settore bilancio dovrebbero viaggiare su a braccetto invece mi sembra che da questo bilancio si vada proprio siano su binari paralleli che non si incrociano non vedo in bilancio trasferimenti per il sociale quando ce ne sarebbe una grande necessità se pensiamo anche alla passata amministrazione erano stati fatti trasferimenti anche per incrementare il fondo per i contributi sugli affitti qui non vedo oppure magari pensare di implementare le ore di assistenza domiciliare o scolastica perché come sa bene magari l'assessore Sanguini ce n'è tanta necessità e spesso si deve dire di no quindi vedo che c'è molto diciamo molto asettico mi è sembrato più che altro un un bilancio contabile e non politico mentre insomma il ruolo dell'assessore dovrebbe essere quello di esercitare l'indirizzo politico io ho visto ben poco ho visto poca attenzione in questo bilancio verso le persone in difficoltà perché aumentare le tariffe a San Benedetto paragonandole a quelle di città similari non mi sembra un buon metodo perché in altre città che vengono citate come punto di paragone ci sono uffici pubblici ci sono altri motivi per cui ci si reca qui a San Benedetto si deve scegliere di venire e non è giusto insomma che una questa scelta debba essere insomma limitata da delle tariffe di parcheggi elevate così come oppure farne ripagare a tutti i residenti indistintamente io a questo punto concludo perché avrei anche altre osservazioni da fare su insomma l'operato dell'amministrazione in questi cinque anni che ripeto secondo me non ha la massima attenzione per il sociale si pensa a tutto meno che a tanti nostri concittadini prego 5 mesi 6 mesi ecco 5-6 mesi ecco forse ho sbagliato ecco e mi sono sbagliata scusi e comunque quello è il discrimine 5 o 6 mesi 5-6 mesi non vedo questa attenzione cioè pur riconoscendo la buona volontà dell'assessore lo vedo isolato solo io quando ho ricoperto questo mi permetto di rifare questa osservazione perché sono stato assessore per oltre 5 anni avevo due consiglieri che dovremmo segretare il consiglio presidente dovrebbe segretare sì sì adesso darà dei consigli quando a breve quando si sa 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 allora va bene mi dispiace mi dispiace mi dispiace essere stata interrotta diverse volte comunque si poteva aspettare magari il termine per insomma fare le vostre considerazioni concludo con l'auspicio che comunque questa amministrazione volga più attenzione verso tutte le categorie nel in questo insomma in questo contesto in materia di bilancio perché ne vedo poco veramente poca attenzione avrei fatto avrei scelto se avessi potuto insomma avrei sollecitato che ci fossero maggiori insomma fondi per per chi ne ha bisogno e nella speranza anche poi che questo tutte le opere elencate nel piano triennale delle opere pubbliche vengano realizzate sapendo che sono molto dipendenti dal PNRR grazie e buon proseguimento grazie consigliera Carboni sì consigliere Benarchis Simone prego grazie presidente buongiorno a tutti faccio un attimo fatica a riannotare i fili del pensiero dopo l'intervento ultimo che ho ascoltato perché è stata messa tanta carne a fuoco consigliera ha dato tanti spunti io partirei da una cosa che ritengo doverosa lei ha amministrato ha fatto l'assessore nella passata amministrazione vedo che ogni consiglio comunale con nostalgia ricorda quei tempi e ci può stare sicuramente può essere diciamo orgogliosa dal suo punto di vista del lavoro che ha svolto non c'è problema quando poi va diciamo a giudicare gli interventi dell'assessore Sanguigni legittimamente da consigliere comunale la invito a essere un po' più obiettiva nelle sue affermazioni perché dire che l'assessore è solo quando non ha due consiglieri come stava accenando lei che gli stanno dietro ha tutta la maggioranza che lo sostiene e lo supporta nelle azioni e riteniamo che stia facendo un ottimo lavoro alcuni dati di cui parlava proprio lei che ha fatto l'assessore ai servizi sociali avrebbe dovuto approfondirli meglio perché a quanto mi risulta ad esempio il contributo sugli affitti è stato aumentato di 50.000 euro poi forse mi sbaglio io ma a me così risulta fatta questa parentesi sul discorso del bilancio appunto io non mi volevo avventurare con troppa con troppa foca perché è un tema molto delicato raccolgo quindi qualche intervento diciamo fatto dai precedenti consiglieri per fare alcune osservazioni allora sul primo intervento della consigliera Marina Angeli io ritengo sì Marina Angeli Marcheggiani chiedo scusa io ritengo che sia giusto porre l'accento sulla partecipazione sul discorso del bilancio partecipato e dell'urban center quindi da un punto di vista diciamo di merito posso essere d'accordo però e non voglio ritornarci credo che la partecipazione sia una cosa importante sia una cosa seria sia una cosa che va fatta in maniera consapevole e condivisa con i cittadini veramente quindi una vera partecipazione io mi chiedo e forse all'epoca chiedelo anche al suo collega Canducci che ha iniziato il percorso del bilancio partecipato con Gaspari se non ricordo male ormai una quindicina di anni fa che il bilancio partecipato consta di un numero di incontri molto elevato con tutti i comitati di quartiere con tutte le associazioni per cercare di definire appunto diciamo degli interventi sul bilancio che siano reali e concreti non quindi una partecipazione solo sulla carta ma reale questa cosa ci deve concedere che in così poco tempo da quando ci siamo insediati sarebbe stata veramente effettivamente difficile da organizzare quindi raccolgo sicuramente il suo invito ci sono dei consiglieri che sono proprio diciamo destinati al supporto con i comitati di quartiere all'interlocuzione sicuramente questa cosa la porteremo avanti però dobbiamo avere i tempi tecnici poi aggiungo un'ultima cosa appunto perché non voglio parlare del bilancio in maniera spregiudicata perché voglio prima padroneggiare meglio quello di cui parlo come qualcuno prima di me non ha evidentemente fatto si è presentato impreparato e arrogante alla discussione ma ci sta nel gioco delle parti e quindi quando prima qualcuno parlava di PNRR di investimenti tutti focalizzati nella speranza di avere dei soldi al PNRR voglio ricordare che c'è nel piano delle opere pubbliche qualcosa che non diciamo non dipende dal PNRR che è la vasca esterna della piscina che è stata chiusa precedentemente l'amministrazione precedente non ha saputo insomma operare per riaprire e noi l'abbiamo messa nel piano delle opere pubbliche PNRR o meno questo mi sembra un segnale uno dei tanti che vogliamo dare alla città sono fiducioso del lavoro che ha fatto l'assessore per lei così come sono fiducioso del lavoro che stanno facendo tutti gli altri assessori e credo che questa cosa poi diciamo alla prova della realtà me ne verrà data conferma grazie e buona giornata grazie consigliere signore Lex prego consigliere Punti grazie presidente sarò molto breve però ecco la invito colgo l'occasione ad avere un'attenzione particolare quando c'è un intervento a far sì insomma che non ci siano interruzioni perché non fai il bene della discussione poi dopo si perde il filo e diventa quasi una riunione tra amici o nemici invece che tra persone elette dalla città dicevo sarò breve perché voglio esprimere solo un paio di concetti e non fare l'elenco della spesa perché non offensivamente perché è stato un po' fatto nel senso che c'è una lista c'è un bilancio il bilancio è tutto questo è un bilancio di previsione il bilancio si fa nella vita nei rapporti umani in amore quindi il bilancio rappresenta un po' tutto quanto quello che non depone diciamo a favore di qualcosa che poi dopo potrebbe produrre dei benefici è la mancanza di criticità oppure di riassunzione di criticità c'è una a criticità che è emersa che da una parte dice e si trincera io dico anche giustamente dietro al fatto che il bilancio è ingessato al 95% che ci sono delle difficoltà legate al covid legate alla nuova situazione che noi stiamo vivendo però dall'altra parte insomma si continua come in campagna elettorale e nei primi cento giorni e nei mesi settimane successive a esibire dei muscoli amministrativi che non ci sono ma è normale è normale lo dico per esperienza quando ci si insedia intanto bisogna prendere atto della situazione e ci vuole il tempo bisogna rapportarsi con gli uffici in determinato modo bisogna fare le cose fatte per bene e bisogna poi dopo raffrontarsi e scontrarsi con la realtà dei fatti che non è quella di stare seduto dietro a una testiera oppure quella di andare in giro e raccontare delle cose che poi dopo non sono aderenti alla situazione reale quindi il mio più che altro è un invito un invito se c'è la volontà di che dire avvantaggiarsi di avvalersi delle esperienze altrui fate lavorare le commissioni su temi importanti soprattutto e quello sulla sanità sul sociale proprio in virtù del ragionamento che facevo prima delle nuove necessità non le voglio chiamarle nuove povertà perché la città ha bisogno intanto di sentire un'amministrazione vicina poi ha anche bisogno di avere chiarezza su tante cose prima è stato nominato l'urban center si fa non si fa a che punto passa il ballarin cosa vogliamo fare oggi sentiamo giustamente correttamente che c'è un progetto che è riuscito ad intercettare 2 milioni 440 mila euro altri 4,50 sono pronti scusate la voce per una questione di raffreddamento 450 mila euro promesse sicuramente promessa mantenuta da parte della fondazione Carisap per la curva sud quindi dovremmo parlare si è parlato tanto anche di ambiente ma l'ambiente è collegato anche alla viabilità allora poche settimane fa questa amministrazione ha definitivamente detto non si punta sulla bretella tanto giorno leggiamo io lo leggo con piacere che invece è una opzione da prendere in considerazione perché è quella più a breve però bisogna chiarirlo con la città che bisogna fare quindi è chiaro come diceva il collega Capriotti il bilancio deve essere caratterizzato dalla prudenza dalla competenza ci mancherebbe altro poi dopo sulla significatività bisogna che ci mettiamo d'accordo quindi per quanto mi riguarda e voglio mantenere la promessa di brevità dobbiamo essere un po' più presenti segnali come quelli che è stato accennato un po' anche in modo io dico sbagliato ridicolizzandolo quello della della Stato dobbiamo essere più presenti noi non abbiamo notizie di ieri non so se smentita o meno più un rappresentante all'AMAT San Benedetto del Trono l'unico San Benedettese è stato nominato da un'altra realtà quindi diciamo cerchiamo di essere più concreti e di fare meno diciamo annunci perché poi dopo la città si disorienta di questo sono certo quindi ribadisco cerchiamo di far lavorare di far lavorare le commissioni e che non siano solo degli organi funzionali a portare poi dopo all'ordine del giorno gli argomenti perché poi lo sappiamo benissimo che in commissione nessun ordine del giorno nessun argomento viene licenziato e quindi tutta la discussione che non c'è quasi mai che viene fatta in commissione poi dopo viene rifatta in consiglio comunale portiamo in commissione argomenti che non necessariamente devono andare poi dopo in consiglio comunale poi dopo se è nostra volontà ce li portiamo però ragioniamo e quindi la nostra è una disponibilità ancora reiterata a questa amministrazione e un invito a essere magari più concreti proprio su argomenti come dicevo prima come il sociale e come la sanità vi ringrazio sì grazie consigliere Pinti c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire consigliere Bagalini prego grazie presidente allora come prima cosa innanzitutto tengo a fare i complimenti agli uffici per il lavoro svolto e in particolare al settore bilancio politicamente invece ho alcune riflessioni da condividere ora mi dispiace che sarò anche ripetitivo per alcuni passi ma la prima riflessione mi riferisco all'aumento delle tariffe dove come già abbiamo sostenuto tempo fa calcolatrici alla mano questi aumenti sono per alcuni casi sono al di sopra degli aumenti di inflazione fino a toccare percentuali del 20% ora con questi aumenti hanno portato alle casse comunali circa 250 mila euro che sinceramente sicuramente potrebbero risultare un beneficio minimo per l'ente messo a paragone con i vari numerevoli sforzi fatti dai cittadini dalle imprese dalle attività quindi dalle famiglie sicuramente l'assessore Sanguigni sa di cosa parlo purtroppo noi viviamo in una situazione dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine del mese così come le attività navigano a vista e quindi detto questo mi domando e vi chiedo ne è valsa la pena? secondo i dati e i numeri e soprattutto le esigenze del popolo sono contrari dicono di no un'altra un'altra considerazione che voglio fare a riguardo è come sono contrario all'aumento delle tasse perché in tutti gli effetti si parla di aumento di tasse questi aumenti sono contrario anche reputo che l'aumento dei fondi per settori come precisazione tengo a precisare dato il periodo storico non confondiamoci l'aumento dei fondi per quanto riguarda feste eventi e manifestazioni credo che insomma potevano essere anche un po' risparmiati detto questo passo a un'altra considerazione invece che effettivamente abbiamo letto ma preceduto il consigliere Canducci per quanto riguarda lo stanziamento no sulla stampa perché è il bel vizio di anticipare se è furbo per quanto riguarda lo stanziamento sugli appalti che sono stati stanziati i 125 mila euro per il piano asfalti bene se pensiamo faccio un esempio che via Torino cioè la strada che porta all'inizio della salaria strada disastrata ha un costo per la rimessa a posto di circa 90 mila euro beh qui siamo di fronte a due cose o c'è un errore e lo chiedo all'assessore al bilancio oppure siamo di fronte a una presa in giro se poi aggiungiamo che a causa della cattiva manutenzione delle strade il comune è costretto a pagare come danni risarcimento danni svariati centinaia di mila euro oltre al danno capite c'è anche la beffa ed è per questo anche soprattutto per questo che mi associo alla raccomandazione insistente fatta dall'organo di revisione che per ben tre volte ha espresso nel suo parere al bilancio di verificare specificatamente una costante e un attento monitoraggio dell'andamento per quanto riguarda le spese e le entrate ritengo invece utile e interessante il programma avviato di valutazione per quanto riguarda la crisi le crisi aziendali e conseguenti i piani di risanamento del resto credo anche sia importante di coinvolgere le società e gli organismi partecipati che ancora non vi hanno dato appunto che ancora non vi hanno aderito concludo il tutto con argomenti che riguardano l'Imu e tali mi è giunta appunto mi è balzata all'occhio la importante somma che avete previsto di recuperare circa 2 milioni 890 mila euro una somma notevole e mi raccomando vivamente appunto che questa attività di recupero sia efficace sempre per quanto riguarda l'Imu vorrei evidenziare invece gli accertamenti del 2016 e successivi riguardanti la modifica della tassazione Imu per le abitazioni principali dei coniugi che hanno stabilito residenza in immobili diversi come scritto anche all'interno del DUP si tratta di una disciplina si tratta innanzitutto una disciplina che resta irrisolta e una disciplina di solito tributaria che resta irrisolta ed è che in quanto non è applicabile alle annualità pregresse in quanto si tratta non ha efficacia essendo una interpretazione non autentica non ha efficacia retroattiva e quindi per fare ancora di più chiarezza le persone che hanno effettuato questo tipo di decisioni l'hanno fatto in base a norme statali vigenti quindi sono totalmente scelte legittime e quindi concludo domandandovi perché avete iniziato a inviare questi tipi di accertamenti grazie grazie consigliere Bagalini sono altri interventi consigliere Canducci consigliera Elena Piunti prego sì grazie presidente e ho necessità di ringraziare invece l'assessore per lei e tutti gli uffici che insieme a lui hanno lavorato tutti i dipendenti che hanno lavorato con lui a questa redazione del bilancio sicuramente le premesse fatte dall'assessore che non dimentica la drammatica condizione mondiale beh questi ci fanno onore e sicuramente ci dimostrano il puntuale e cosciente lavoro che lui stesso ha svolto insieme agli uffici e che tiene conto della realtà e non dei desiderata come ci è stato detto dai consiglieri di opposizione sicuramente va rilevata ed è importante e va sottolineata anche se è già stato fatto la continuità amministrativa dei servizi comunali che non è proprio una cosa banale una cosa inutile perché appunto siamo in presenza di aumenti a livello nazionale imprevisti che sicuramente avrebbero fatto traballare questa continuità e invece il Comune di San Menedetto la sta garantendo non stiamo a fare la gara dei problemi chi ha avuto prima il terremoto adesso noi abbiamo la pandemia o abbiamo gli aumenti di luce e gas non stiamo facendo una gara stiamo dicendo che affatica ma stiamo garantendo la continuità dei servizi pubblici non so quale bilancio quindi avete letto perché questa cosa non mi sembra che è stata sottolineata non ci sono aumenti nei tributi e questo l'assessore per lei l'ha detto a chiare note ci sono solo adeguamenti istat ma questo credo che per chi minimamente capisce di bilancio sia un atto dovuto e gli aumenti che adesso chiaramente l'opposizione denuncia a viva voce sono aumenti più che giustificati dall'assessore per lei e comunque anche lì in parte dovuti per quanto riguarda due parole semplicemente sui lavori pubblici questa amministrazione ha dimostrato di svolgere una rivisitazione e ristrutturazione dei lavori pubblici in totale trasparenza con tutta la città e ho sentito parlare di mancanza di empatia inviterei i consiglieri a verificare invece quanti incontri questa amministrazione ha già svolto con i cittadini con le associazioni di categoria e con chiunque bussa la porta di questa amministrazione a differenza del passato un dialogo vivo un dialogo aperto con i quartieri con i comitati con i commercianti quindi possiamo dire che questa amministrazione vuole una riqualificazione dei luoghi pubblici che vuole riconsegnare alla città una rigenerazione urbana e non una vendita ai privati di ex scuole per farci appartamenti privati chiaramente questa rigenerazione urbana è necessita dell'aiuto del PNRR che non è una chimera attenzione ma è una grandissima opportunità che ogni buona amministrazione dovrebbe cogliere pena la sconfitta del bene comune e abbiamo sentito in questo abbiamo visto abbiamo sentito in questo programma triennale di opere pubbliche di parlare appunto di scuole di riqualificazione di scuole che come diceva l'assessore Capriotti e il consigliere Capriotti è alla base di una buona amministrazione e la sicurezza delle scuole è fondamentale abbiamo sentito parlare di riqualificazione della piscina rifacimento dei marciapiedi riqualificazione di piazze vorrei ricordare che questa città da anni non riqualifica piazze e per quanto riguarda piazza Montebello potete immaginare quanto mi sta a cuore essendo stata presidente di quel quartiere prima del consigliere Capriotti ricorderei che su questa piazza ha stato fatto un'opera di smantellamento in passato come diceva il sindaco e poi tutto è rimasto lì questa amministrazione invece ha più che l'intenzione proprio l'operatività sta mettendo in campo ogni operatività necessaria per la riqualificazione di questa piazza di questa piazza e anche di altri luoghi Ballarin e via dicendo entro brevemente solo sull'aspetto dei servizi sociali perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore ringraziando anche io pubblicamente l'assessore Sanguini che non è per niente solo ma in buonissima compagnia sia degli altri assessori che dei consiglieri di maggioranza l'ha detto l'assessore Pellei ha parlato proprio di un aumento della spesa nel sociale quindi i numeri vanno letti bene sia per quanto riguarda i servizi all'interno dell'ente che per quanto riguarda i servizi svolti dall'ambito vorrei semplicemente sottolineare un'opera che adesso stiamo mettendo in campo che è proprio l'assunzione che magari non è stata detta che tra i numeri non si legge però sul giornale è uscita e anche l'assessore Sanguini lo ha sottolineato l'assunzione di questa nuova figura di un assistente sociale che da anni questo conmune necessita proprio che si vada a occupare del disagio e della povertà adulta perché a oggi questa figura viene svolta in parte dall'ufficio casa ma sappiamo che l'ufficio casa ha anche altre priorità da seguire quindi questa figura che farà proprio da ascolto ma anche figura operativa per interfacciarsi con chiunque si presenti in comune e abbia questa necessità altrimenti il rischio diventa di un mero assistenzialismo che chiaramente dipende dalle risorse se ci sono o non ci sono ma che non rispetta in alcun modo la dignità dell'uomo che si avvicina già con timidezza e con vergogna a questi uffici e che si trova in uno stato di disagio economico importante finisco dicendo che non la penso come alcuni colleghi consiglieri sul fatto che questo bilancio non abbia un'anima invece questo bilancio ascolta proprio le esigenze della città non solo ha un'anima ma anche un cuore e vuole assolutamente il bene di questa città grazie grazie consigliere ne ha più spenga il microfono un attimo se spegni il microfono Canducci consigliere Canducci prego grazie presidente io cercherò di fare un intervento che non ha tanto l'intenzione e la voglia di entrare dentro ai singoli numeri ma un intervento di natura politica e poi di richiesta di alcuni chiarimenti rispetto alle affermazioni fatte dall'assessore in commissione è stato detto ripetuto più volte che questo bilancio è un'operazione di natura contabile cioè alla fine si cerca di far riportare i conti di fronte a delle difficoltà difficoltà che nella stessa delibera sono evidenziate in chiare lettere una cosa anche abbastanza anomala che mi ha colpito si dice che per fronteggiare la scarsità di risorse finanziarie si usa proprio questa espressione questa scarsità di risorse verrà affrontata principalmente attraverso tre punti il primo punto l'adozione di tutte le misure strumenti di lotta all'evasione tributaria di cui in troito viene stimato per l'anno 2022 in 3 milioni e 20 mila euro nell'anno 2023 e 2024 2 milioni 9,60 viene scritto nello su bianco sulla delibera sulla delibera viene scritto che non ci sono risorse per finanziare la spesa corrente e che la spesa corrente viene finanziata con un'entrata straordinaria non con un'entrata corrente l'entrata straordinaria rappresentata dagli accertamenti quindi un'entrata ipotetica quindi significa che noi sicuramente spendiamo ma non è detto che introitiamo quella somma che ci ha permesso di chiudere il bilancio insieme agli altri aumenti in particolare agli aumenti anche dei parcheggi quindi in definitiva per brutalizzare senza questa operazione contabile e senza l'aumento dei parcheggi il bilancio non si chiudeva questo ne dobbiamo essere consapevoli siamo tutti consapevoli delle criticità l'assessore ha ripetuto più volte in commissione il bilancio è incessato non voglio mettere il mano avanti il bilancio è incessato assessore ma lei ha le responsabilità doppia rispetto al sindaco spazzafumo perché lei per cinque anni è stata all'opposizione e non lo scopre oggi quali sono le condizioni del bilancio e le criticità lo sapeva ne era consapevole e ne era consapevole anche quando sia in campagna elettorale che nell'approvazione del programma di mandato ci avete elencato una serie di cose che volete fare che non trovano riscontro nel bilancio quindi che sono chiacchiere poi le elencherò una o una alcune ad esempi chiacchiere tante chiacchiere perché non c'è corrispondenza dentro al bilancio e lei assessore per lei lo sapeva come stava il bilancio e ha permesso al candidato sindaco spazzafumo di dire che avrebbe riqualificato tutti i giardini tutti i marciapiedi tutte le strade la città diventava un Eden verde sbocciava con che? con cosa? con 125 mila euro che adesso ci torniamo anche sul sul mio emendamento perché sono curioso di capire spero che mi potete dare una risposta perché qualche dubbio mi viene dico con che? con 125 mila euro? con cosa? e questo è gravissimo non è gravissimo che ci siano le criticità è gravissimo che non ve ne siete resi conto e avete fatto un programma di mandato che oggi è riportato nel DUP che non ha assolutamente nessuna corrispondenza nel bilancio facciamo qualche esempio i parcheggi nuovi parcheggi non c'è un euro per i nuovi parcheggi la struttura io leggo il DUP leggo il DUP non è che leggo la struttura indoor per lo sport non pervenuta poi diciamo l'ampliamento della biblioteca comunale non pervenuto potenziamento dell'infrastruttura verde urbana riqualificazione di pinette parchi e giardini esistenti riqualificazione del torrente albura non l'ho trovato salvaguardi e qualificazione ecologica della zona comunale della sentina non c'è e possiamo andare avanti all'inferito riqualificazione di via Ugo Bassi piazza Cristo Re possiamo andare avanti a largo pazienza ce ne sono a Iosa che non c'è c'è scritto nel DUP nella nota di aggiornamento ma non c'è corrispondenza nel bilancio non c'è assolutamente nessuna corrispondenza nel bilancio che significa assessore non lo sapete spiegare che non si faranno come si faranno perché non è che glielo devo dire io che per fare tutte le cose che si promettono occorre che ci sia una una copertura quindi è un bilancio è un bilancio che ha permesso attraverso questa previsione di entrate straordinarie per 3 milioni e rotti di chiudere il bilancio ma manca manca assolutamente una strategia politica manca la politica sindaco in questo bilancio e non è il bilancio 0 assessore è il bilancio 1 uno dei più importanti se non il più importante dell'amministrazione perché segue all'approvazione del programma di mandato e dà finalmente la spinta alle parole che sono state dette e approvate in consiglio comunale con il programma di mandato manca questa spinta manca questa strategia si evidenziano le criticità ma non si indicano le strategie per risolvere criticità degli incassi dei crediti non esigibili e qual è la strategia? manca il documento di programmazione del personale come ha rilevato il revisore obbligatorio e allora il potenziamento dei vigili il potenziamento dell'ufficio edilizia edilizia privata il potenziamento dei servizi sociali il potenziamento dell'ufficio riscossione dov'è? dov'è se manca il documento di programmazione del personale? dov'è la strategia per porre un freno alle criticità che correttamente lei assessora ha evidenziato? qual'è la strategia? manca questa strategia manca la visione dell'amministrazione per dire come voglio risolvere i problemi che ho trovato che il sindaco spazzafumo poteva non conoscere ma che lei conosceva benissimo e li doveva suggerire al suo candidato sindaco in campagna elettorale e allora dico andiamo andiamo a vedere appunto come avete pensato di trovare qualche risorsa e anche lì sinceramente manca una politica o comunque manca una coerenza con quello che lei sindaco ha detto il giorno dell'insediamento che ha detto come è stato detto da chi mi ha anticipato di essere vicino ai cittadini di voler decidere con loro di venirgli incontro e poi andiamo a vedere che aumentate le tariffe della mensa andiamo a vedere che sui servizi a domanda individuale l'indice di copertura della mensa è nel 2022 il 91% negli anni a seguire il 99% io non so se esistono comuni in Italia che hanno il 99% di indice di copertura della mensa e allora dici caspita il 99% dell'indice di copertura della mensa il resto l'avranno coperto e invece no l'utilizzo degli impianti sportivi 2022 25% di copertura poi diventa il 53% meno male ve ne siete accorti e rimane il 53% e riscende un po' e poi andiamo al mercato ittico indice di copertura 72 2022 72 2023 72 2024 allora mi viene una domanda sindaco era forse più complicato chiedere alle associazioni sportive di coprire maggiormente i costi rispetto che chiederle alle famiglie con i bambini era più complicato chiederle ai commercianti che poi lo riversano sul prezzo di ciò che vendono piuttosto che chiederle alle famiglie avrebbe avuto più problemi nella trattativa avrebbe avuto più scontri questa è la domanda che mi faccio un sindaco che dice al suo primo consiglio comunale voglio essere vicino ai cittadini va a incidere dove può incidere le associazioni sportive usano le nostre strutture e fanno i corsi a pagamento lo sappiamo tutti e lei lo conosce meglio di me il meccanismo perché è stato presidente dell'associazione sportiva il mercato ittico ci sono i commercianti ma di che parliamo perché non si è inciso lì perché non si è inciso lì e andiamo proprio agli impianti agli impianti sportivi perché anche lì e adesso trattiamo l'aspetto del piano triennale delle opere pubbliche che è misero come il vostro programma di mandato misero impianti sportivi dite che fate mettete il mutuo della piscina un milione e mezzo del 2024 ragazzi ma se veramente vi interessa la piscina e farla riaprire e mettere fine a un andazzo che dura da 30 anni in questo territorio ossia un rapporto tra le associazioni che utilizzano la piscina che è pessimo tra di loro è pessimo nei confronti del comune e Giorgio lo conosce bene quanto me non serviva il mutuo di un milione e mezzo serviva quello che avete scritto nel programma di mandato concessione della gestione di strutture sportive pubbliche dando priorità ad associazioni che intendono compartecipare all'ammodernamento delle stesse in grado di garantire il miglior potere gestione degli impianti ha scritto lei sindaco non l'ho scritto io e allora invece di prendere un milione e mezzo di mutuo che graverà sulle nostre casse e aspettare il 2024 perché non facciamo adesso un bando di gestione destinato alle associazioni sportive chiedendogli di contribuire per la ristrutturazione della piscina esterna chiedendolo di farlo come l'ha fatto Porto Sant'Elpidio come l'ha fatto Ascoli Piceno non Milano non Las Vegas Porto Sant'Elpidio Ascoli Piceno dando un contributo di 100 150 mila euro all'anno all'associazione che se la giudica e che lo gestisce in maniera pluriennale perché non facciamo questo immediatamente si può fare immediatamente sindaco si può fare un bel bando di gestione dicendogli la prendi e mi fai quel lavoro io ti do un contributo annuale noi ci rimettiamo quasi 300 400 mila euro all'anno quando la piscina è aperta per i costi che non sono coperti e quindi se continuiamo a fare così a spendere sempre noi sulla piscina sempre noi e a dare le associazioni che partono 30 anni fa ne erano una poi si figliano in due poi si figliano in tre in quattro sono sempre gli stessi che si dividono come l'atomo e alla fine due ore la mattina per il nuoto libero due ore la mattina per il nuoto libero siamo arrivati a questo punto e allora di questo dobbiamo essere consapevoli quando continuiamo a decidere di mettere i soldi nostri su una struttura di questo tipo facciamola gestire in maniera efficiente dall'associazione che dimostra di avere maggiore capacità con una convenzione con il comune ripeto come hanno fatto comuni vicini a noi e non certo migliori e non certo migliori di noi e torniamo dicevo al piano del triennale delle opere pubbliche che è misero misero nel 2022 è misero poi tutto nel 2023 sul PNR siamo tutti d'accordo magari ce lo auguriamo perché questo ci permetterà di fare quegli interventi che voi indicate ma il PNRR ci sta adesso ma come hanno fatto le amministrazioni precedenti non facevano niente facevano quello che è indicato nel 2022 voi questo dico io è misero misero e veniamo all'emendamento mi dovete questo è un chiarimento che chiedo da quello che ho capito presidente ascoltando il parere c'è un parere tecnico positivo e un parere contabile negativo ora o mi sfugge qualcosa o è stato scritto questa voce è stata scritta manutenzione strade piazze in realtà è stata scritta male voleva dire qualcos'altro e non è stata ben esplicitata oppure qual è il problema contabile di spostare una somma che è già stanziata per rimpinguare il capitolo di manutenzione strade e piazze si faranno più strade si faranno più piazze qual è il problema dov'è il rischio di non spendere 125 mila euro che mi sembra di aver capito nel parere della dottoressa Talamonti che rischio c'è che sembra che l'abbiano scritto quelli dell'ufficio lavori pubblici pur emettendo un parere positivo che rischio c'è non riesco a capire questo rischio se me lo sa spiegare l'assessore qual è questo rischio che non si riescono a spendere 125 mila euro e si perdono 125 mila euro quindi non c'è la copertura in caso di perdita di 125 mila euro e non c'è la regolarità contabile allora io dico sindaco ma per una questione di opportunità in un 2022 così misero sui le opere pubbliche ma rimandiamolo rimandiamolo come hanno detto tutti mi sembra Devecchis ha detto non c'è stato il tempo di fare il bilancio partecipato nel vero senso della parola anche se una riunione a nord una riunione al centro una riunione a sud se poteva fare insomma non era non era complicato ma diciamo che non è quello il bilancio partecipato vero e proprio ma alla luce di che viene scelto quell'intervento invece di un altro in un altro impianto è stato fatto un monitoraggio sull'individuazione delle priorità e allora dico anche per una questione di opportunità di fronte a un piano delle opere pubbliche così misero per il 2022 ma era necessario mettere con priorità quell'intervento lì e lasciare quella cifra brutta di 125 mila euro che voi avete chiamato manutenzione strade e piazze ma che forse adesso nella risposta mi direte che è qualcos'altro se c'è questo rischio di non di non riuscire a spendere se i nostri uffici lavori pubblici non sono in grado di spendere in 12 mesi 125 mila euro per manutenere strade e piazze auguri per il PNR auguri auguri mi auguro che ci sia una spiegazione mi auguro che ci sia una spiegazione diversa detto questo vado agli altri chiarimenti che spero l'assessore ci potrà dare piano delle dismissioni delibera nel piano delle alienazioni avete inserito due immobili la casa parcheggio di via Saffi e l'ex liceo di via Leopardi stimato 2022 0 stimato 2023 0 stimato 2024 0 gratis fammi capire assessore no voglio capire che non c'è non c'è una stima di quello che incassiamo non so non c'è una stima di quello che incassiamo però io faccio io faccio io faccio le domande poi avrete il tempo di avrete il tempo il modo di di spiegarmi poi aggiungo perché i beni sono sempre gli stessi aggiungo qui sono tra i piani delle alienazioni e da un'altra parte si prevedono 2 milioni e 560 mila euro per la rigenerazione urbana del liceo Leopardi scusate ma se avete messo nel 2022 che il Leopardi si vende e poi nel 2023 ci volete spendere 2 milioni e 560 mila euro per la rigenerazione allora delle due l'una o lo togliamo tra il piano delle alienazioni lo eliminiamo e rimane un bene nostro sulla quale ci spendiamo 2 milioni e 560 o se lo teniamo nel 2022 e cioè che lo teniamo a fare non farete non lo metterete in vendita perché poi nel 2023 se è capace qualcuno ve lo compra non ce l'avete da fare questi 2 milioni e 560 per la rigenerazione allora chiedevo anche questo chiarimento all'assessore per capire che può darsi che non comprendo altro chiarimento nel risultato di amministrazione presunto al 31-12-2021 risulta un avanzo di 466 mila euro e poi non si dice più niente è vincolato non è vincolato per far comprendere che ci si può fare con questi 466 mila euro se non c'è scritto niente è libero ce lo dice assessore così per sapere perché se è libero sappiamo che come consiglio comunale si può decidere di farci qualche cosa qua non c'è scritto niente non c'è scritto se è vincolato se è libero anche questo se me lo può se me lo può spiegare l'ultimo chiarimento perché evidentemente concludo perché evidentemente leggo male io i numeri che purtroppo non è il mio mestiere faccio il presidente della commissione bilancio vi ringrazio per avermi votato ma è un po' complicato per me mettermi a leggere i numeri io vedevo tra il bilancio di previsione annuale e gli stanziamenti lei assessore ha detto in tutte e due le commissioni che aveva aumentato gli stanziamenti a cultura e sport io sinceramente però ecco perché le chiedo un chiarimento la mia non è un'affermazione è una domanda le chiedo nel bilancio previsione si parlo un minuto un minuto sono due 20 minuti si scusa ma tu mi conosci dicevo nel 2021 sono previsti per la missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali un milione e 509 mila euro nel 2021 nel 2022 la previsione è un milione e 260 mila euro quindi se la matematica non è io ti parlo della previsione non parlo della competenza 1 milione e 509 1 milione e 260 ci sta più di 200 mila euro di meno sport e tempo libero 2021 1 milione e 588 mila 2022 1 milione e 443 mila mancano 140 mila euro quindi volevo capire in che modo lei diceva che c'era stato un aumento dello stanziamento ripeto parlo di previsione non parlo di competenza grazie consigliere Canducci altri interventi consigliere Gaetani prego buongiorno a tutti ovviamente a livello vista la mia inesperienza politica faccio fatica ad esprimermi su un bilancio di 68 milioni di euro che non so quanti dei presenti siano capaci a scriverlo a leggerlo molto facilmente ma la cifra parlo proprio del numero che 68 milioni di euro è tanta roba oggi forse nessuno dei presenti ci ha fatto caso è il centesimo giorno utile netto al netto dei sabbati e delle domeniche da Natale e Capodanno che noi siamo consiglieri comunali qualcuno si è fatto riferimento alla partecipazione già in quattro volte che ci vediamo qua dentro amministrazioni precedenti consigli comunali magari una vota ogni quattro mesi no molto più spesso allora allora vabbè allora siamo a passo con Ciccia preceduto è ovvio che l'opposizione deve fare il suo mestiere e su questo non ci piove non ci sarebbe neanche divertimento diciamo così no perché il bilancio ovviamente secondo me non è al 95% incestato al 95% è tecnico al 5% è politico sul quale poi magari ci confrontiamo e discutiamo nell'arco della giornata non sono più riuscito a capire se effettivamente qua dentro dobbiamo parlare di quello che facciamo di quello che leggiamo sulla stampa mi fa piacere ad esempio che la famiglia Canducci è molto attenta a quello che faccio io a quello che dichiaro anche tuo fratello parla di me stamattina per cui se si fa la festa della marina se si fa i spari si lamenterà sicuramente chi c'ha i cani e chi dice che dovremmo dare quei soldi alle povere famiglie se non facciamo i spari i fuochi si lamenterà quelli che diranno che da 70 anni a questa parte si fanno i fuochi se non facevamo le luminarie si lamentava chi dice guardano questi hanno fatto le luminarie facendo le luminarie si è detto però bisognava pensare alle famiglie più povere nessuno ha detto che noi abbiamo fatto le luminarie spendendo il 23% in meno dalla passata amministrazione coprendo il 40% in più di questa città a me si parla di me su quello che io ho detto su Piazza Montebello rispetto a quello che può aver detto Fabrizio la realtà è una è una e ve la assicuro questa amministrazione non si divide su Piazza Montebello questa amministrazione in maniera unanime ha detto che metterà mano a Piazza Montebello poi ovviamente si ragionerà del contenuto di quello che si dovrà fare in Piazza Montebello se poi le dichiarazioni di Stefano a quelle di Fabrizio qualcuno può pensare che possano mettere in difficoltà questa maggioranza sbaglia di grosso ho letto cioè scusate mi ho sentito parlare del benedetto aumento sulle menze chiariamo una volta per tutte che noi le menze le abbiamo trovate già attive che noi siamo entrati qui il 6 di novembre le menze sono partite il primo di ottobre le menze hanno avuto la retta delle menze ha avuto un aumento ok nessuno dice che facciamo 70.000 pasti omaggio all'anno 35.000 per obbligo perché vengono date alle famiglie meno ambienti per cui non pagano la retta altre 35.000 sono dati per scelta e su questo ci sarà da ragionare nessuno ha ricordato che nel biennio 19-20 le menze hanno portato un utile netto di 125.000 euro lo scorso anno hanno portato una perdita di 382.000 euro scambia 510.000 euro in tre anni è tanta roba ma tanta roba per cui molto probabilmente quello che è stato fatto come aumento forse era nato diciamo così dovuto ma quando qualcuno può far passare che questa è un'amministrazione che non pensa diciamo ai meno ambienti e sembra che Andrea è l'eroe Andrea non è l'eroe perché Andrea non è stata sola Andrea è un assessore che come qualifica gestisce i servizi sociali ma che a fianco ha una giunta e 15 consiglieri comunali compatti su questo questa è un'amministrazione comunale che con gli atti ha parlato di una delibera di 67.000 euro per portare per rimettere a posto 12 appartamenti che abbiamo trovato chiusi di proprietà ma chiusi per cui con 67.000 euro di investimenti verranno ridati a 12 famiglie che non possono questa è un'amministrazione che con 100 giorni netti ha già risposto e ha messo in piedi operazioni per 4 immobili di case popolari dove verrà fatto il 110 super bonus su 8 appartamenti che verranno buttati a terra e rifatti da nuovi e no scusami 8 e 816 se non erro perché sono in via Manara e in via amici sinceramente questo ve lo dico lo dico a qualche consigliere ma questo lo dico a livello personale non come consigliere non come politico che qualcuno possa pensare di fare scuola su quello che è la beneficenza se lo deve levare alla testa ma se lo deve levare alla testa io personalmente e tra l'altro insieme anche ad altri dei presenti in due mesi a fronte di quello che è successo con la pandemia abbiamo elargito 10.480 pasti oltretutto comprati e fatte con le nostre mani tra parentesi e la passata amministrazione ci aveva promesso che ci avrebbe aiutato purtroppo purtroppo ovviamente era una promessa tale è rimasta tale è rimasta ma adesso ricevere no una lezioncina su quella che è la beneficenza permettetemelo non a livello politico ma a livello a livello umano questo non esiste ma non esiste proprio per cui ripeto capisco bene che l'opposizione deve fare la parte sua deve dire che questo è un bilancio che non c'ha l'anima è un bilancio che non che non so come si fa a dire che non è stato condiviso ripeto probabilmente non è stato condiviso con quante persone magari uno più poteva immaginare ma dico 100 giorni sono 100 giorni 100 giorni è poca roba rispetto a quello che si è fatto che si è fatto sia come atti compiuti e sia come anche indirizzi che noi stiamo dando io dico che noi siamo stati eletti consiglieri comunali tutti maggioranza e opposizione e a questa a questa città dovremmo dare delle risposte sicuramente noi abbiamo diciamo questa parte qui dell'emiciclo la parte più più onerosa sia all'onere che onore di dare le risposte più importanti mi auguro che quella che è stata adesso vedo che che non c'è l'ex sindaco il consigliere Piunti quella che è stata un'offerta di collaborazione che io condivido nella gestione delle commissioni effettivamente sia un'offerta sincera e da parte nostra credo che sarà una risposta positiva più che sincera grazie grazie consigliere Gaetani altri interventi consigliere De Pecchis ho ascoltato tutti gli interventi con interesse però me li aspettavo forse un po' più brevi perché questo è un bilancio preventivo non è che questo non abbia la sua importanza il bilancio preventivo è una cosa e il bilancio consultivo è un'altra il bilancio preventivo aiuta la programmazione degli interventi ho ascoltato con molto interesse devo dire e con molta curiosità la valutazione sul bilancio fatta dalla consigliera Marcheggiani che rimane stupita di alcune situazioni mi ricordo un po' l'impatto iniziale tanti anni fa e successivamente con tanti bilanci questo perché lo dico perché i bilanci soprattutto quelli preventivi come qualcuno dice si potrebbe fare lì il libro dei sogni invece noi non abbiamo fatto il libro dei sogni su questo bilancio sul piano prorennale delle opere pubbliche rispetto al PNMR ci sono tutti i bandi per cui sono state presentate le domande è chiaro che questo è un work in progress perché i bilanci oltretutto soprattutto quelli preventivi vanno letti in maniera dinamica se gli vogliamo dare un significato vogliamo capire come sta andando avanti il comune se ci vogliamo fermare i luoghi comuni rimaniamo ai luoghi comuni che sono quelli ma andrebbero monitorati il 95% è ingessato ma perché è ingessato perché magari ci stanno contratti fatti per 15 anni che non possono essere cambiati perché la spesa di dipendenti è un luogo comune si dice da 25 anni in questa aula si sente sempre quello e non si va a un'analisi l'analisi dovrebbe essere un'analisi dinamica differenziale basata chiaramente sui consuntivi e non sui preventivi e io un'analisi dei 25 anni dei bilanci di questo comune la posso fare nella linea generale mi ricordo che sotto il perazzoli 2 ci fu il più grande indebitamento che questo comune abbia mai sopportato con grande realizzazione di opere pubbliche io mi ricordo che un'assemblea di quartiere gli disse dopo di te non ci sta più una lira si potrà fare solo manutenzione e lui disse ma io tanto ho fatto tutto bisognerà solo manutenere poi non è così perché i bisogni evolvono e le necessità anche quindi Martinelli si trovò in una situazione e devo dire che Martinelli se andiamo a vedere invece i 5 anni di Martinelli ci fu un contenimento della spesa corrente nel senso che dopo anni di aumenti sotto gaspari della spesa corrente perché i tempi lo consentivano con Martinelli si ebbe uno stop della spesa corrente e si andavano a finanziare molte opere pubbliche in realtà non molto di più di quelle che abbiamo messo noi nel piano triennale delle opere pubbliche al momento e successivamente poi col gaspari 1 e col gaspari 2 invece si è andata a peggiorare una situazione di cassa con l'aumento ulteriore della spesa corrente che ha portato quasi all'utilizzo quasi per non so non mi ricordo quanti giorni ma per buona parte dell'anno delle anticipazioni di cassa perché poi i bilanci hanno sempre due letture una economica e una finanziaria e veramente lì significa che devo dire per onestà intellettuale che Piunti ha trovato un bilancio con la cassa distrutta in un momento in cui giustamente quello che è stato sempre diciamo un viso di tutte le amministrazioni era stato captato dal governo che aveva messo degli strumenti di salvaguardia e aveva detto non potete andare avanti con i residui a piacimento e finanziate poi i libri dei sogni e quello che vi pare e tanto è vero che onestamente questo fu l'handicap di Piunti io infatti devo dire che il primo bilancio preventivo di Piunti penso di non aver detto nulla perché onestamente anzi forse gli dissi in che situazione si trovavano forse gli dissi in che situazione si trovavano perché poi nella realtà un bilancio come si fa un bilancio preventivo in tempi normali in tempi normali ci si basa soprattutto sul dato storico ma forse a tutti quanti ha sfuggito forse il richiamo che i revisori dei conti hanno fatto in questo bilancio a un attento monitoraggio perché stiamo in un momento particolare dove fare delle valutazioni sugli aumenti Istat dire che abbiamo aumentato più di quello che sarà l'inflazione reale nel momento in cui spenderemo quei soldi per le menze penso che quando andremo a fare i calcoli il prossimo anno vedremo che avremo aumentato se è andata bene come previsione come l'Istat come sarà effettivamente l'inflazione attesa perché un conto è l'inflazione passata un conto è l'inflazione attesa noi veniamo da anni di inflazione vicino allo zero adesso cambieranno le cose già si parla di 4% l'inflazione reale è più alta perché poi nel paniere come al solito ci stanno beni che non sono soggetti di effettiva commercializzazione di massa quindi ci stanno tanti discorsi da fare e quindi e si sposa quindi le previsioni in questo periodo inizialmente sono sugli incassi pessimistiche perché si è detto i cittadini soffrono quindi faranno più fatica a pagare le tasse sulle spese molto probabilmente pessimistiche perché sappiamo tutti che c'è un aumento dei prezzi dovuto alle conseguenze indirette dell'economia bellica quindi esprimere giudizi su questo bilancio a prescindere di andare a evidenziare un'analisi corretta della situazione bisogna vedere le dinamiche devo dare atto che in passato il discorso in termini di indici di bilancio ad oggi è migliorato e sta migliorando anche con gli ultimi esiti con quello che ci proponiamo in termini di ricorso alle anticipazioni di cassa che se non sbaglio è stato pressoché azzerato poi l'assessore penso che ecco a zero no e quindi è sintomo insomma che la cassa di questo comune nonostante il periodo delicato è diciamo a posto perché non necessita nemmeno di fare ricorso alle anticipazioni di cassa è un dato di fatto che diciamo eh vabbè mi è sfuggita c'era un'altra cosa importante comunque in questo di eh c'è una criticità sono anni che c'è questa criticità che è quella della riscossione no sicuramente lì no quello che è stato messo dall'attività di accertamento non è niente di particolare rispondo a granducci è quello che viene messo ogni anno perché ogni anno siccome vanno in prescrizione dell'annualità no gli uffici emettono gli avvisi di accertamento di tutti quelli che non hanno pagato o hanno pagato in maniera parziale il problema è la riscossione di quelli che vanno a costituire dei residui su quello è in animo dell'amministrazione agire chiaramente come dice qualcuno prima bisogna prendere coscienza della situazione no e capire anche modificando l'organizzazione del comune che non è una cosa che si modifica in un attimo perché non puoi fare questa cosa qua la sposti e la metti di là perché ognuno ha le sue competenze le sue specializzazioni quindi si sta andando sicuramente su quelli che sono i problemi storici no di fatto noi abbiamo trovato tante situazioni no che non si erano affrontate o per questioni endogene o per questioni esogene alcune le abbiamo affrontate magari per fortuna perché si è sbloccata la situazione tipo Piazza Colbe ma non ce la siamo lasciata sfuggire data la situazione ai tempi no poi cioè tutto questo concentrarsi allora io chiedo intanto correttezza no perché poi se vogliamo collaborare bisogna che siamo corretti non potete parlare di aumento della pressione fiscale cose pattichiari amicizia lunga la pressione fiscale no per chi l'ha detto per chi l'ha detto la pressione fiscale no è generale è su tutti i cittadini e noi non abbiamo aumentato questo tipo di pressione fiscale noi abbiamo aumentato si sentiva prima delle tariffe le tariffe sono intimamente connesse ai servizi a domanda individuale quindi non si può dire noi abbiamo abbiamo adeguato le tariffe a quelle che pensiamo sarà forse anche meno di quelle che sarà l'incremento istat avete sentito no prima dal consigliere dei dati che sicuramente non porteranno la copertura della spesa al 99% come l'ha detto il consigliere Canducci non è affatto così semplicemente per le modalità conseguenti al covid pensate a una cucina che sta lì no e magari ci stanno metà dei bambini le spese fisse no sono le stesse il numero di pasti prodotti è molto meno cioè quindi ci sono c'è stato un incremento dei servizi a domanda individuale riguardo al discorso del contenzioso è vero sotto più unti c'erano minacce di contenziosi più grossi ma in realtà lì bisognerebbe andare a cercare di evitarli soprattutto essere coinvolti non stimolarli perché qualche contenzioso ce l'avete lasciato anche voi penso la Powergrass penso i contenziosi con i dipendenti il sindaco qualche contenzioso l'ha risolto e l'animo è di risolverli e di evitare il più possibile i contenziosi che sappiamo che sono molto onerosi per gli oneri indiretti e per i tempi però è chiaro che se le situazioni poi ce le troviamo non possiamo che affrontarle sull'ambatia vado oltre su Piundi vabbè non ho detto nulla quindi quello delle tasse a Bagalini gliel'ho detto il consigliere Bagalini ecco volevo specificare al consigliere Bagalini che l'amministrazione precedente che peraltro era governata anche dal partito che qui fa parte lui ha fatto 600 mila euro di asfalti in 5 anni facendo un muto noi almeno ce li autofinanziamo insomma almeno siamo capaci e abbiamo ritenuto che sia più conveniente distogliere dalla spesa corrente una somma che vedete bene il bilancio preventivo è una base dal bilancio preventivo si fanno durante l'anno ma anche sul piano pluriennale degli investimenti centinaia di variazioni in base alla dinamica che incontreremo andando avanti presenteremo altri PNNR adegueremo magari relativi ad impianti sportivi magari toglieremo quel muto oppure magari metteremo altre realizzazioni se determinate spese dico al consigliere Canducci erano considerate dagli uffici necessarie tanti anni fa adesso non ricordo di preciso quando ma da mo' che vedo sta spesa pluriennale che ha citato Canducci in bilancio non penso che oggi si possa dire che quelle spese non siano più necessarie se erano dicessarie 5, 6, 7 anni fa penso che rimangano necessarie poi è chiaro che se avremo nuove risorse sicuramente sarà cura della giunta portare nuove proposte sicuramente forse conviene non fare un mutuo ogni 5 anni e mettere a bilancio 150.000 euro che in corso d'anno magari diventeranno di più magari diventeranno 200 perché il lavoro che questa amministrazione dopo che si è insediata dopo che ha preso conoscenza di determinate situazioni in realtà che sicuramente qualcuno conosceva in maniera poi non così approfondita perché un conto è governare un conto è stare all'opposizione anche a livello informativo è chiaro che il primo mandato che è stato dato l'aggiunta è proprio quello di agire giorno per giorno per verificare quelle spese che dal preventivo possono costituire economia di spesa e maggiore entrata al fine di autofinanziare altri servizi o magari riuscire a finanziare come tanti anni fa fino ad oggi poveri difficilmente autofinanziare anche con le entrate correnti degli investimenti negli ultimi anni oltre alla Bucalossi non c'è stata mai questa possibilità perché sicuramente le spese correnti hanno drenato questa cosa fu possibile l'ultima volta penso sotto Martinelli quindi questa è del resto questa è un'amministrazione è normale che la coperta è quella non è che le risorse non è che noi abbiamo la bacchetta magica non è che quelle opere che non stanno nel DUP magari non le trovate con una variazione del piano pluriennale fra qualche mese perché troviamo le risorse è chiaro che questo è un cammino in divenire stiamo qui da 100 giorni forse tutte queste critiche al primo bilancio di previsione sono futto perché la previsione viene prima di pregiudizi grazie grazie consigliere De Vecchis se non ci sono altri interventi la parola al sindaco allora quando è venuto da me l'assessore per lei a dirmi che dovevamo chiudere il bilancio la cosa più semplice che i tecnici mi hanno raccontato era quella di aumentare l'8% la Tari io ho detto assolutamente no non se ne parla un bilancio aziendale è diverso a un bilancio comunale assolutamente non se ne parla io non aumento tasse ho detto alle persone interessate quei soldi che mancano per chiudere il bilancio andateli a cercare o a tagliare lì dove ci sono le risorse io le tasse non le aumento questo è stato il passaggio categorico quindi dire che questa amministrazione che si è insediata da 5 mesi 6 mesi come diceva il carissimo Piunti ha aumentato le tasse come ha detto Bagalini ma anche come ha detto qualcun altro non è assolutamente vero poi dopo i chiarimenti le spiegazioni le ho lasciate e i tatticismi li ho lasciati a chi di bilanci comunali se ne intende io mi sono messo in testa di cominciare a studiare il bilancio comunale anche per cercare di poter intervenire là dove c'è la necessità è un impegno che mi prendo fra i tanti che mi sono presi mi dispiace sentire da parte della dottoressa Bottiglieri che mi rimette davanti le spese del mio ufficio del bagno della fascia delle cose cioè ragazzi o delle luminarie cioè questo è il comune di San Benedetto del Tronto la quarta città più grossa delle marche cioè stiamo parlando di un paese che casualmente fra un po' diventerà la terza più grossa delle marche cioè un paese che ha bisogno della sua dignità io parlo di dignità parlo quando io parlo di amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto vorrei che le persone che entrassero qui dentro avessero il piacere di entrare in un comune organizzato attrezzato che vi devo raccontare il primo giorno che sono entrato qui dentro vabbè ma lo so dimenticato se non il baciare lo stemma della città che io adoro amo così come dice Lorenzo Maninangeli ma sul secondo giorno mi sono quasi cominciato a vergognare di quello che trovavo cioè io ho trovato degli uffici dove i neon lampeggiavano una parte dei neon erano spenti ma io ho detto ma signori ma questa situazione è normale vabbè ci siamo abituati ma nel frattempo cominciava a ricevere gente cioè cominciava a ricevere personalità gente che veniva a trovare il nuovo sindaco e si trovava addirittura in una situazione dove il 40% dei luci erano spente perché fulminate il 20% lampeggiavano e si sentivano i ticchetti dei neon e il resto funzionava con l'aggravante tra l'altro che ci pioveva pure con l'aggravante che ci pioveva pure ma io dico scusa ma fatemi capire che è il comune di Scampia questo con tutto il rispetto di Scampia o è il comune o è il comune di San Benedetto del Tronto no perché devo cercare di capire dove sono entrato ho detto anche diamo un po' di decoro al giardino perché insomma mi sembra che il giardino sia all'ingresso di questa amministra ma sono andato anche oltre sono andato poi magari mi divertirò con i giornalisti a raccontare anche i miei primi cento giorni è come se io andassi a una cerimonia dove praticamente ci sono le autorità e il sindaco di San Benedetto del Tronto si presenta con la giacca dove è tutta macchiata i pantaloni strappati dice tu chi sei sul sindaco di San Benedetto del Tronto siccome non posso spendere vengo alla cerimonia conciato così ragazzi lasciamo perdere tutta sta cosa è demagogia pura è demagogia pura io penso che ognuno di voi deve essere orgoglioso di dire ma come si presenta bene questo comune penso che sia l'orgoglio ho fatto fare ho chiesto ai miei giardinieri agli giardinieri che lavorano in comune gli ho detto per cortesia potete dare un po' di decoro all'ingresso al giardino costa poco ma però facciamolo è un gesto anche di piacere cioè entri e trovi delle cose belle ti fa anche ti armonizza all'ingresso ti armonizza e questo è stato il primo passo quindi dottoressa parlare di uffici di cose cioè basta io non ne posso più cioè vorrei andare oltre vorrei andare perché è oltre che io sono abituato a vedere le cose non a un mese o a una settimana a sei mesi a un anno cioè quello che potrò vedere fra un anno non quello che vedo domani le luminarie natalize le abbiamo fatte sono piaciute alla città ma parliamo sempre della città di San Metto del Tronto non parliamo di un comune che deve spegnere le luminarie per far cosa per dire che comunque sì ci sono dei problemi sono famiglie che non arrivano a fine mese lo so lo so con l'assessore Sanguigni che solitario non è perché comunque viene da me e si confronta con me e comunque discutiamo su tutti i problemi che ci sono sulla città di San Metto ci mandiamo i messaggi alle due di notte cioè ragazzi allora le fesserie non le raccontiamo non le raccontiamo perché poi la gente di San Metto ci ascolta ci vede e descriviamo delle cose che sono fuori dalla realtà e allora abbiamo un po' di coraggio nel dire ok viviamo in un momento critico viviamo in una situazione critica l'opposizione aiuta la maggioranza a cercare di uscire da un impasse globale che comunque possa portare questo comune a migliorare a vedere l'unità l'unità io cerco unità invece che trovo trovo critiche che onestamente guarda la taglio delle vene cioè per chi è abituato a vedere le cose in prospettiva sentire queste critiche qua onestamente io faccio fatica a stare pure seduto mi alzo perché non riesco perché faccio fatica non riesco non ho non ho questa empatia non con la città con voi non ho l'empatia perché non siete empatici e questa è la realtà perché raccontate la distorsione della realtà e questa è la cosa peggiore distorcere la realtà perché siete all'opposizione è la cosa più sbagliata che potete fare sulla sicurezza allora visto che io non ho empatia con i cittadini no io non ho per i primi 100 giorni poi vi racconterò mi sono fatto tirar fuori tutti i dati dei miei incontri dei primi 100 giorni e poi non vi impaurite se usciranno cifre che umanamente sono impossibili perché qua dentro mi hanno dato anche del pazzo per gli incontri che ho avuto la signora che sta all'ingresso li vede vede la gente che entra e che esce dal mio ufficio che io volutamente ho tenuto aperto siamo passati da un ufficio chiuso che non riceveva nessuno a un ufficio che riceveva gente cittadini dipendenti io ho ricevuto di tutto e sono stato anche ben felice e contento di averli ricevuti ho parlato con i cittadini mi mettete sempre davanti la campagna elettorale hai promesso hai promesso hai promesso sì ho promesso ho promesso e sono sicuro di mantenerle sono certo di mantenerle perché la squadra che c'è è una squadra valida che ha caricato questa maggioranza di progetti fattibili non sogni o desiderate come dite voi progetti fattibili e la dimostrazione sta sugli occhi di tutti noi caro Traini se non hai visto le piante su via Pasubbio ma bene o male abbiamo iniziato perlomeno a sistemare il sottopasso parlando con con Lanfranco Cameli che io stresso giornalmente a cui dico bisogna fare questo mi ha detto sindaco per cambiare le piante in via Pasubbio bisogna aspettare il periodo giusto allora io dico vabbè facciamolo nel periodo giusto perché non vorrei che piantiamo le piante in via Pasubbio e poi ci si seccano per non parlare delle rotatorie che abbiamo che erano sono tutte quante abbandonate il sottoscritto ha cercato di contattare associazioni istituti di credito e quant'altro per cercare di avbellire le rotatorie cosa che non ha fatto mai nessuno perché il decoro della città passa anche per chi transita sulle strade e vede a me capita di fare così quando vado sulle strade guarda che bella città è capitato siamo sentiti ultimamente con l'assessore Gabrielli che è andato a Cesenatico e mi ha telefonato e mi ha detto quando è bella Cesenatico dico lo so la conosco ci sono stato so che è bella quindi il primo impatto è quello che a chi viene da fuori trova con la rotatoria con i giardini so tutte cose che stiamo facendo chi mi parla di trascuratezza di parchi cioè ragazzi anche qua è stata addita le fesserie perché nella mia app dove giornalmente mi arrivano le comunicazioni delle manutenzioni periodiche di tutti i parchi e giardini della città di San Benedetto mi arrivano anche le foto se volete ve le giro tutte se volete vi giro anche i commenti che mi arrivano dai cittadini con cui io non ho empatia cittadini che mi dicono era ora era ora che si cominciasse a vedere qualcosa quindi non andiamo a raccontare che i parchi sono distrutti o che non c'è manutenzione che c'è parecchi in curia sì c'era ma c'è un territorio ampio Traini è inutile che fai così se tu parli se tu parli allora se tu vuoi parlare di bilancio se tu vuoi parlare del tuo bilancio fammi capire fino a che bilancio parli perché nel momento nella giunta precedente te ci sei stato fino a un certo punto poi hai preso le valigie e te ne sei andato per il bilancio quindi raccontiamocene tutte le cose cioè hai fatto le tue valigie e te ne sei andato quindi non è non raccontare non raccontare il contrario di quello che è successo ma che sta dicendo è la realtà dei fatti è la realtà dei fatti è la realtà dei fatti io parlo del bilancio parlo di te parlo di quello che hai fatto parliamo di scuola ariopardi parliamo delle scuole ariopardi e del manufatto di via Saffi 0-0 sì siccome a noi servono delle strutture che possano essere ristrutturali cioè rimesse a posto non abbiamo fatto altro che toglierle dalla vendita cosa che invece gli altri hanno fatto perché negli ultimi 15-20 anni vi siete venduti una marea di beni vi siete venduti avete venduto una marea di beni noi abbiamo detto no ce li teniamo perché abbiamo bisogno di questi beni e li vogliamo ristrutturare perché perché Sanguini è venuto da me da solitario è venuto da me a chiedermi ho bisogno di strutture per poter mettere dentro qualche famiglia bisognosa o qualcuno o il dopo di noi ho parlato con delle mamme con dei figli problematici preoccupate gente anziana preoccupata perché ha paura che il figlio venga abbandonato e io sono stato a sentire una mattina intera quattro famiglie con dei problemi seri una mattina intera a sentire i problemi di quattro famiglie preoccupate per il dopo di noi e Andrea era con me quindi noi queste cose le vogliamo le vogliamo fare perché il problema di Andrea il problema mio è il problema di tutta la giunta è il problema 14 milioni del personale qui c'è la dottoressa Talamonti la prima cosa che ho detto alla dottoressa Talamonti è stata quando io mi sono insediato blocchiamo tutte tutte le assunzioni la signora è lì è testimone ho detto blocchiamo tutte le assunzioni perché mi devo rendere conto qua dentro di quante persone abbiamo e gli incarichi che ogni persona ha per cercare di capire se dobbiamo andare a spostare delle persone da un settore all'altro per creare delle esigenze per soddisfare delle esigenze quante volte ci siamo incontrati quante volte abbiamo discusso quante volte abbiamo detto questa persona da qui la mettiamo di là per cercare di risparmiare sui 14 milioni di euro per non parlare di contenziosi io penso che di essere non lo so chiedo penso di essere l'unico sindaco che si siede con l'avvocato a discutere il contenzioso del dipendente per cercare di trovare una soluzione dove l'amministrazione comunale sicura di dover pagare 150 170 mila euro discute si siede cerca di trovare una mediazione trova la soluzione e ne risparmia 140 voi avvocati lo sapete no qui ci sono degli avvocati non sono del lavoro però ci sono degli avvocati che più o meno sanno come funzionano le cose associazione di categoria io in 5 mesi ho incontrato tutti ho fatto 4 incontri con i comitati di quartiere 4 mi sembra più o meno chi è che era con me Stefano Elena ne erano 4 in 5 mesi penso una volta al mese addirittura mi sono offerto di andare a nelle loro riunioni preelettorali perché comunque ci sono delle chiusure che i comitati devono fare io mi sono offerto anche di andare a quelle riunioni non ho problemi non mi devo vergognare di essere il sindaco sono il sindaco vado a a quelle riunioni voglio partecipare a quelle riunioni così come ho partecipato senza vergogna e senza paura alle 4 riunioni con i comitati di quartiere che erano qui l'ultima volta erano qui dove ho trovato una partecipazione unica unica di tutti i comitati sono andati via tutti quanti felici e contenti Elena mi diceva sindaco una cosa di questa non l'ho mai vista dico basta essere sinceri con le persone basta basta dirgli questa cosa te la posso fare e quest'altra non te la posso fare finisce lì nel momento in cui sei sincero e quello che puoi fare accontenta accontenta il comitato o l'associazione io sto tranquillo posso ripresentarmi anche la volta dopo senza nessun problema senza sentirmi il fiato sull'orecchio di chi mi dice mi avevi detto che mi davi e poi non me l'hai dato da me non arriva questa cosa vogliamo parlare di sicurezza visto che la famiglia Ganducci sulla sicurezza ci sta puntando ultimamente parecchio perché leggo qualche critica che ho promesso mega sale di controllo ho promesso sì ho promesso che ci sarà una sede ci sarà una una centrale operativa collegata con la pubblica sicurezza ho promesso che ci saranno dei controlli ho promesso ho promesso che comunque sarei andato incontro alle esigenze dei cittadini che abitano in centro dove anche qualche familiare di Ganducci si era anche speso e siamo arrivati a una soluzione che ha cercato di soddisfare sia sia la parte la parte imprenditoriale sia la parte privata abbiamo cercato di soddisfare tutti cioè sia chi lavora sia chi fa impresa ma soprattutto il cittadino del centro che è sfinito è sfinito cercare di mediare anche con la prefettura che comunque giustamente vuole sapere quello che succede su San Benedetto ricordiamoci che il sabato sera su San Benedetto arriva il mondo arriva poi ci sono persone che si divertono persone che vogliono fare le serate belle tranquille ci sono anche quelli che purtroppo con la complicità di qualche di qualche ristoratore magari esagera nella somministrare alcol a minori e con le conseguenze che poi troviamo perché mi arrivano anche queste informazioni qui figli minorenni stesi sulla strada che comunque carichi di alcol allora io sto cercando sto cercando non non divessare non divessare gli esercenti e l'incontro che ho fatto con la conf commercio la conf la conf esercenti con tutte le associazioni di categoria dove c'era Fabrizio dove c'erano anche altri operatori si sono alzati non è che hanno detto che schifezza cioè si sono qualcuno si è anche complimentato ma perché perché siamo stati chiari abbiamo detto quello dove vorremmo arrivare poi ci riusciamo non ci riusciamo sarà il tempo a dirlo così come sarà il tempo a dirci se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene oppure lo stiamo facendo male ma ci mettiamo la faccia ci mettiamo i soldi alle associazioni sportive Paolo io mi meraviglio di te che mi fai questa domanda guarda cioè io allora se c'è una persona se c'è una persona che può parlare delle associazioni sportive quello sono io e qui non c'è qui non c'è guarda qui sfido chiunque qua dentro a poter parlare perché posso essere posso essere considerata la case history la case history di come si gestisce una società sportiva qui dentro manca Alessandro Amaddio che è la persona che è solitamente il referente con le società sportive e lui sa lui sa tutte le volte che gli dico che le società sportive si devono autogestire lui lo sa io l'ho fatto presente perché se una società sportiva c'è riuscita se una società sportiva c'è riuscita naturalmente anche le altre società ci possono riuscire allora nel momento in cui io dico nel momento sì te io lo so però siccome vieni da una storia dove le società sportive venivano foraggiate tipo la piscina mi dici abbiamo speso ogni anno spendavamo 400 mila euro ricordati che nella nostra campagna elettorale uno dei punti di forza era appunto quello di dire le società sportive dovranno partecipare dovranno partecipare alle spese della gestione della propria attività è quello che vorremmo fare è quello che vorremmo fare ma lo abbiamo deciso lo abbiamo deciso nel momento in cui abbiamo ristrutturato la piscina dove chiaramente non possiamo dire a delle società che sono che se sono vive ancora per poco perché veramente le società che fanno questa disciplina sono morenti e ci sono delle famiglie che sono senza lavoro già da parecchio tempo allora che gli vado a dire andate a prendere un mutuo secondo voi dopo due anni di pandemia dove ci sono stati zero introiti quale banca dà i soldi a una società sportiva ditemelo voi se trovate una banca io vi metto la firma e gliela faccio fare un finanziamento perché dobbiamo guardare anche in faccia la realtà dobbiamo guardare la realtà ci dice che delle società sportive che non hanno avuto contributi non hanno portato a casa dei soldi e sul bilancio sui bilanci che le società fanno ci hanno zero la banca che cosa gli dà gli può dare una stretta di mano una solidarietà e li manda fuori ragazzi bisogna ricostruire questo tessuto cioè non bisogna abbandonarle è chiaro che se tutto questo passa per una ristrutturazione bisogna farla poi viva Dio ristrutturiamo la vasca interna ristrutturiamo la vasca esterna ci mettiamo una menaglia e magari possiamo pensare pure al secondo mandato perché negli ultimi vent'anni mi pare che qualcuno le piscine le ha chiuse più che aperte allora se saremo bravi a fare questo diremo congratuliamoci tutti nel frattempo dobbiamo portare avanti anche le attività che ci sono collaterali di questa di questa amministrazione sullo sport sulla cultura su tutto quindi sono quelle cose che voi le volete raccontare a noi ma noi già le abbiamo raccontate in campagna elettorale perché è questo che dicevamo quindi venirci a dire venirci a dire che le promesse che ho fatto in campagna elettorale non le sto mantenendo è la fesseria più pura è la fesseria più grande che io possa ascoltare poi se nel frattempo arriva Piazza Colpe arriva Sisto Quinto arriva qualcos'altro come giustamente ha detto Stefano o come ha detto qualcun altro siamo stati fortunati sì però la fortuna la fortuna va accompagnata perché poi sì sei fortunato arriva però se non sai non sai trovare la soluzione molto probabilmente forse sei lo sprovveduto forse siamo stati bravi qui do faccio i complimenti a Bruno e anche agli altri assessori che si sono adoperati insieme ai tecnici del comune che si sono adoperati quindi abbiamo fatto il lavoro di squadra vi rammento che nei miei cinque mesi nei miei cinque mesi io sono stato per tre mesi senza segreteria generale ho lavorato senza segretario è vero che il povero Tonino ogni tanto veniva contattato però formalmente io sono stato senza segreteria generale è uno strumento il segretario generale che oggi che c'è è uno strumento di vitale importanza però sono andato avanti cercando di di portare avanti quello che che volevamo realizzare che volevamo fare dell'Erap l'aveva accennato prima prima Stefano lo dico io poi lo sai anche te meglio meglio di me Paolo perché comunque Giulietta mi aveva chiamato più volte per dirmi ho difficoltà ho avuto in passato difficoltà a parlare con l'Erap con l'amministrazione comunale io gli ho detto a Giulietta che comunque era una delle responsabili per i lavori dell'Erap gli ho detto accomodati in ufficio dimmi di cosa hai bisogno e l'ho messo a disposizione tutto quello che gli serviva per poter arrivare a una collaborazione fattiva con l'Erap per cercare di portare a casa quelle cose che al solitario al solitario Andrea servivano oddio tanto solitario alla fine non è perché a forza di elencare le cose alla fine forse sta in buona compagnia allora ragazzi o raccontiamo a sta città le cose come stanno altrimenti se vogliamo fare i consigli comunali che durano ore 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 io posso sta fino a stasera qua dentro senza nessun problema ma se facciamo i consigli comunali che durano ore 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 solamente per evidenziare il neo o il punto o la virgola ragazzi bisogna essere più pratici cioè cominciamo a essere pratici io capisco che è bello parlare è bello confrontarsi mi fa piacere ma se ci dobbiamo confrontare su quello che su quella che è la collaborazione come oggi mi ha meravigliato l'ex sindaco io sono sono rimasto sono rimasto meravigliato la disponibilità che l'ex sindaco ha dato a questa amministrazione e a me ha fatto piacere ha fatto piacere perché l'esperienza di Pasqualino Piunti per questa amministrazione potrebbe tornare utilissima potrebbe tornare perché è comunque un uomo che ha parecchi anni di attività politica alle spalle ma questa cosa dovrebbe essere giusta anche per te Paolo che sei un esperto della politica ad Aurora non posso chiedere l'esperienza con Aurora ci confrontiamo c'è una stima che ci portiamo insomma poi dopo io ti credo che ti suggeriamo che non veni a causa tutti i consigli comunali suggeriamo che a posto per un altro po' ma che cosa sei arrivato a posto tu però se oddio se non sei arrivato a posto io non è colpa mia però tutti sti consigli che ci dai io non lo so oggi sta bene la prossima Paolo 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 scusa perdonami magari fra 5 anni senza nessun problema no ma io vi Paolo io onestamente onestamente se oggi ti dovessi dire che mi hai aiutato non mi hai aiutato eh che te devo dire ma no che ti si no tu ho finito eh sindaco qualche minuto in più no vabbè io erano questi i punti che avevo trovato eh gli appunti che mi ero fatto e che sulle cose che ho che ho ascoltato quindi io dico solamente che se i nostri cinque mesi che sono cinque mesi cinque mesi comunque molto molto eh attivi li racconterò visto che comunque avevo promesso di raccontarli li racconterò magari inviterò la stampa a venire così metterò giù anche tutto quello che i dati che ho acquisito e che ho già da due settimane tre settimane quindi cercavo solamente il momento giusto per poterli per poterli relazionare per potermi relazionare con loro quindi lo farò eh spero la prossima settimana giusto per dimostrare che questa questa amministrazione non è stata ferma questa amministrazione ha lavorato tantissimo e comunque devo dire grazie anche all'assessore per lei perché non è facile non è facile barcamenarsi in una situazione come questa poi giustamente come ha detto Giorgio oh magari vi sorprenderemo con effetti speciali da qui a fine anno che ne sapete magari dal cilindro usciranno fuori delle belle cose usciranno fuori io ho finito grazie sindaco allora io faccio una proposta la faccio io adesso un po' di distensione eh se il consiglio approva facciamo una pausa poi l'assessore per lei fa la replica facciamo la dichiarazione di voto e mettiamo ai voti il bilancio previsionale razzata di mano se tutti siamo d'accordo allora fra corre corre adesso le 14.02 14.25 rientriamo in consiglio può proprendere proprendere l'appello segretario prego allora grazie presidente faccio l'appello dopo la sospensione del consiglio per verificare le presenze Bagalini Nicolò Barlocci Luciana Bottigliere Aurora ah presente scusate Canducci Paolo Capriotti Fabrizio Carbone Manuela ok De Ascanis Barbara De Renzi Martina De Vecchis Giorgio De Vecchis Simone Fanini Eldo Gaetani Stefano Laghi Silvia Mancaniello Giselda Marchegiani Anna Lisa Marinangeli Lorenzo Merli Sabrina Micozzi Gino Muzzi Stefano Novelli Domenico Pasquale Umberto Piunti Elena Piunti Pasqualino Assente Spazzafuma Antonio Traini Andrea Bene Grazie Segretario Allora Prima Di passare All'assessore Per lei Voglio invitare Qui la dirigente Dottoressa Talamondi Per Esaudire Una richiesta Del consigliere Ganducci Una questione Tecnica Quindi non è che Può rispondere Domenico Per lei Quindi chiamiamo La dottoressa Talamondi Vabbè uguale Allora Sulla proposta Di emendamento Presentata Dai consiglieri Ganducci E Marcheggiani Sono stati Espressi I pareri Di due dirigenti Dirigente Del settore Lavori pubblici Manutenzione E gestione Del patrimonio E da parte mia Come Per quello Che riguarda La regolarità Contabile Il dirigente Del settore Lavori pubblici Manutenzione E gestione Del patrimonio Ha espresso Un parere Favorevole Condizionato Cioè Con un'osservazione Che riguarda Il punto B Della proposta Di emendamento Laddove Appunto I due consiglieri Propongono Di accorpare I due interventi Cioè Manutenzione Straordinaria Strade Piazze E Realizzazione Spogliatoi Campo Sportivo Torrione Gli stanziamenti Previsti Per questi Due Interventi La proposta Era di Accorparli Nell'unico Intervento Manutenzione Straordinaria Strade Piazze In maniera Tale Da far Diventare Lo stanziamento Definitivo 325.087 Il dirigente Del settore Lavori pubblici Nel suo parere Dice Scrive Si precisa Che l'importo Di euro 125.000 Già destinati Alla manutenzione Delle strade Proviene Da un finanziamento Ministeriale Unatantum Disposto Con l'articolo 1 Combi 407 414 Della legge Di bilancio 2022 Numero 234 2021 E assegnato Definitivamente Con il decreto Ministero Dell'Interno I comuni Beneficiari Di questi Contributi Sono tenuti Ad iniziare L'esecuzione Dei lavori Entro il 30 Luglio 2022 L'accorpamento Di tali somme Per la realizzazione Di un progetto Di più ampio valore Comporterebbe Tempi maggiori Per la progettazione E un diverso Iter Per l'affidamento Dei lavori Con una tempistica Tale Da non consentire Il rispetto Del suddetto termine Con conseguente Perdita Del finanziamento Allora Ai sensi Dell'articolo 13 Ai sensi Dell'articolo 13 Del regolamento Di contabilità Laddove Obbliga Il consiglio Comunale Ad approvare Un bilancio Dove non ci siano Elementi Di squilibrio Essendo Essendo questa Entrata Prevista Alla risorsa Di bilancio Che il consiglio Comunale È chiamato Ad approvare La perdita Di questo Finanziamento Comporterebbe Uno squilibrio Di bilancio Tale per cui Non sono stata Messa nelle condizioni Di esprimere Un parere Favorevole Ok Paolo Io aggiungo pure Che anche i revisori Dei conti Hanno espresso Un parere Negativo Adesso No Una replica Della replica Adesso quando c'è La dichiarazione Di voto Bochetto Dallarghi Che te devo dire La parola All'assessore Per lei Grazie Presidente Allora Innanzitutto Innanzitutto Ringrazio Tutti i consiglieri Il consiglio Comunale Tutto Per come Ha partecipato E Per come Ha contribuito Alla riflessione Sul bilancio Sulla presentazione Del bilancio Io ho preso Appunti Molti Proprio perché Ritengo che Come ho detto All'inizio Ritengo che I contributi Sempre E comunque Sono utili E necessari Per un maggiore Approfondimento Per una maggiore Riflessione Su temi Che insomma Francamente Sappiamo tutti Comprendiamo tutti Che sono Un po' complessi Brevemente Molte cose Il sindaco Nel suo intervento Ha già Chiarito Ampiamente Prima fra tutte La ripeto Siamo d'accordo Ma questo Per una questione Non Non formale Ma proprio Di Di correttezza Di dato Di realtà Che questo bilancio Non aumenta I tributi Su questa affermazione Siamo d'accordo È un'affermazione Di tecnica Cioè Non ci sono aumenti Di contributi Dirlo Significa Dire una cosa Non corretta Ed è Fuorviante Per i cittadini Per la stampa Per chi La può riportare Punto Secondo Ci sono aumenti Delle tariffe Questo sì L'abbiamo detto Pensavo fosse Un po' acquisito Come questione Però insomma Ci ritorno Perché se ne è parlato Tanto anche oggi L'aumento Delle tariffe Riguarda L'aumento Delle tariffe Dei parcheggi Si è detto Che non era sufficiente Semplicemente Come ragione Il confronto Con altri comuni Questo è vero Ma non è stato detto Solamente questo Per giustificare L'aumento Delle tariffe L'aumento Delle tariffe Dei parcheggi Parlo Viene iscritta In bilancio Per un importo Di 130 mila euro Che non copre Totalmente L'aumento Delle spese Per il nuovo mutuo Entrato in vigore Nell'anno 2022 Per completare Il lungomare Quindi A chi chiedeva Sarebbe opportuno Avere un aumento Della tariffa Riferito a un intervento Io dico Magari non l'abbiamo detto Ma questo Ci aiuta subito A chiarire Aumenta una spesa La tariffa Penso Quella dell'aumento Dei parcheggi È quantomeno Diciamo Immediato Riferirla A un costo Come un aumento Del mutuo Particolarmente Per il completamento Del lungomare E quindi Questo giustifica Perché altrimenti Noi Gli ulteriori 150 mila euro Di aumento Cioè di iscrizione Di inizio Dell'ammortamento Del mutuo Per lungomare Avremmo dovuto Cercarli da qualche Altra parte Fermo restando Che resta La considerazione Che paesi Simili al nostro Hanno una tariffa Minima A 1 euro E 20 Aumento Delle tariffe Delle menze Scolastiche Su questo Io vorrei Fare Ringrazio Il consigliere Gaetani Che ha dato Un contributo Di approfondimento Su questa cosa Devo dire Che insieme a lui Come su tanti Altri temi Del bilancio È chiaro Che Per fare Un'analisi Dettagliata E differenziale Analitica Come diceva giustamente Giorgio De Vecchis Occorre andare Dentro Le Diciamo Dentro le poste Di bilancio E a fare Un controllo Di gestione Stiamo iniziando A farlo Sul settore Menze Non dico Che siamo stati Costretti a farlo Per capirci qualcosa Forse Prima di dire Avete aumentato I costi Della menza Sarebbe Io farei la domanda Ma abbiamo O chi ha governato Prima di noi Ha consapevolezza Di quant'è il costo Di un pasto Per un bambino Ha contezza Di quant'è L'aumento Dal 2020 Dal 2019 Anno Diciamo Standard Al 2019 E 2020 Al 2021 2022 Qual è L'aumento È un aumento Del 70% L'aumento Dei costi Della menza È un aumento Del 70% Noi Abbiamo agito Sulle tariffe Laddove abbiamo Aumentato di più Massimo Al 20% Della tariffa Quindi Bisogna poi Entrare un po' Dentro i problemi E mi permetto Di fare questa osservazione Che magari Chi vuole Può capire Quando si dice Che Si parla Di indice Di copertura Sul fatto Della mensa Io dico Che Non è detto Non è detto Adesso poi Se qua ci vogliamo Ricamare Fate come volete Però non è detto Che Che il comune Debba sempre Andare in perdita Su tutti i servizi Questa è una logica È una logica Che può avere Chi ha una visione Assistenzialista Statalista O non lo so Di Come si dice Di debito pubblico Di incremento Del debito pubblico Io su Credo che Su un costo Come quelli Delle menze scolastiche E attraverso L'introduzione Di una fascia Ulteriore Di mitigazione Dei costi Della mensa Significhi proprio Dare un contributo Di equità Di equità Ecco Questa è un'affermazione Io l'unica cosa Che ho scritto In stampatello Equità Detta dalla dottoressa Dalla dottoressa Bottiglieri Una questione di equità Una questione quindi Al di là Che ci si possa Un po' Ricamare O fare un po' Di campagna elettorale Posto che la campagna elettorale È un po' finita Bisogna ricordarselo Però dire che Se qualcuno ha Di più Dispone di più Può contribuire Un po' di più Rispetto a chi ha di meno Non è proprio Una cosa peregrina Soprattutto quando Ci si richiama Sulla questione Dell'attenzione Al sociale A chi ha di meno Eccetera Quindi questo Sulla questione Dell'aumento delle tariffe Un'altra considerazione Perché tante Sono state le vostre Considerazioni Tutte molto Interessanti Rispondo Alle domande Dettagliate Dell'assessore Canducci Sull'indice di copertura Ho fatto questa Considerazione Dobbiamo tenere conto Che L'indice di copertura Sulle spese Legate agli impianti Sportivi Risente Del periodo Covid Per cui Noi non abbiamo potuto Iscrivere costi Quando abbiamo detto Che le entrate Erano iscritte In maniera prudenziale Sapendo che Gli impianti Sono stati chiusi Le associazioni sportive Come ha detto Chiaramente Il sindaco Hanno sofferto Non potevamo iscrivere Maggiori entrate O maggiori Addebitare Maggiori costi Alle società sportive Fino a quando Non si arrivi A un Diciamo Uno stato Di normalità Ammesso che Mai ci si arrivi Detto questo Facciamo nostro L'indicazione Del sindaco Rispetto Alla gestione Dei servizi Degli impianti Sportivi Questo per quanto Riguarda L'indice di copertura Sul piano Delle alienazioni È chiaro Qualcuno Qualcuno Mi ricordo Io ero giovane Consigliere comunale Ci faceva Il piano Delle opere pubbliche Con le alienazioni No Si alienava tutto Per fare Per poi avere Risorse da scrivere Per realizzare delle opere Di fatto Alla fine dell'anno Non si alienava nulla E non si faceva nessuna opera Noi Non facciamo le alienazioni Quindi l'iscrizione a zero Non è che vendiamo O svendiamo È semplicemente Che resta Nel piano Delle alienazioni Ma non prevediamo Nessuna entrata Semplicemente Perché non le vendiamo Anzi Piuttosto Invece che vendere Le ex scuole Ci facciamo Progetti Di rigenerazione urbana E quindi Questo Mi sembra Un aspetto interessante Altra domanda Che faceva L'assessore Canducci L'avanzo di amministrazioni Di 466 mila euro È vincolato Siccome è un bilancio Di previsione Non è necessario Dare Uno stanziamento Preciso Nell'assestato Si stabilisce Qual è il vincolato Qual è il libero E qual è quello Che poi va destinato Eventualmente A delle spese Stabilite L'ultima cosa Il tasso Di copia Ah no L'ultima cosa Era l'aumento Di previsione Di spesa Su sport e cultura Allora noi Quando io ho parlato Di questa cosa L'ho fatta Riferita a dei capitoli Ben precisi Come Facendo un confronto Tra il bilancio Di previsione 2021 E il bilancio Di previsione 2022 Ha un'analisi Ha una considerazione Di quello Quindi relativa Ai capitoli di spesa Qualcuno Faceva osservare In commissione Mi sembra Che Diceva Ma noi dopo Abbiamo finanziato Lo stesso Queste Queste iniziative Ma Come sappiamo È un buon principio Del bilancio Quello che si può Programmare Metterlo subito Nella programmazione Perché già Quando si può Ci si organizza Per dare Mandato agli uffici Di pianificare Gli interventi Quindi questo Noi l'abbiamo fatto Avremmo potuto pensare Di mettere 60 mila euro Su un'altra cosa E dire Ma tanto poi La festa della marina Troviamo la variazione Di bilancio Lo facciamo Quindi ecco Rispetto a queste voci Posso assicurare Che sono Diciamo Aumentano In effetti Lo stanziamento Di capitolo E mi veniva Fatto notare Forse che La valutazione Che aveva fatto Consigliere Era relativamente A una previsione Rispetto a una competenza E quindi Forse Tra l'assestato Del 2021 E la previsione Del 2022 Vado velocemente E vado velocemente Su un altro concetto Che è stato ripreso Da tutti Da tanti La questione Del mutuo Della piscina Così mi colgo L'occasione E poi mi lego Alla questione PNRR E chiudo Allora Chiariamo La questione Della piscina La questione Della piscina Ha Questa amministrazione Ha un'idea Ben precisa Sulla piscina Questa amministrazione Vuole Riaprire La vasca Esterna Della piscina Comunale Sono in uscita Dei bandi Anzi E' uscito Il 22 marzo Qualche giorno fa Il bando PNRR Relativo a Sport E inclusione Sociale Noi Non possiamo Rientrare In questo bando Per i criteri Di ammissione Perché E' fatto Da tre cluster I primi due Sono per I comuni Capologhi Di provincia Per le città Metropolitane E per i comuni Sopra 50 mila Abitanti Per cui noi Non ci possiamo Rientrare Ho avuto Personalmente Assicurazione Da parte Del Dipartimento Sport Del Consiglio Di Ministri Che emette Questi bandi Che uscirà A breve Il bando Sport E periferie Che è pensato Proprio per Quei comuni Che non possono Far Diciamo Progettare Sul PNRR E quindi Noi Aderiremo Al bando Sport E periferie Con il progetto Della vasca All'esterno Qualora Per qualsiasi motivo Ci sarà La situazione Per cui Non rientriamo Nel bando Non potrà Essere finanziata Con questi fondi È chiaro Che l'impegno Quindi È chiaro Prima di espletare Tutte Le formalità Di risposta Al bando Attesa Della pubblicazione Eccetera L'impegno È che comunque Nel 2024 Noi Ci scriviamo Questa quota Di bilancio A mutuo E Vado avanti Alcune considerazioni Quindi sulla piscina Ho detto La questione PNRR Allora La questione PNRR Guardate Voglio dire Io l'ho detto In commissione Lo ridico Davanti a tutto Il consiglio comunale Davanti all'aggiunta È Una Occasione Straordinaria Ed è Una responsabilità Straordinaria E quindi Non è che Si può dire Ah ma È un'ipotesi Forse si fa Forse non si fa Il primo Di fronte a questa situazione La prima responsabilità Di un'amministrazione È farsi carico Di questa occasione Di questa possibilità E rispondere ai bandi E noi questo Lo stiamo facendo Fermo restando Che come qualcuno Ha ricordato Il PNRR È uscito Come norma quadro Nel 2021 A primavera 2021 Noi quando ci siamo insediati Del PNRR Non si aveva traccia Cioè non c'era Una staff Un ufficio Un coordinamento Eccetera Stiamo rispondendo ai bandi Quindi credo che La cosa più normale Sia rispondere E poi Sono bandi competitivi Alcuni sono bandi competitivi Quelli del sociale Per esempio Non sono bandi competitivi Ma sono bandi per assegnazione Per cui Rispondiamo Progetti chiari E vedremo come va avanti Riprendo Così termino Da chi è intervenuto Per primo Dall'avvocato Marcheggiani Che diceva Mi aspettavo Di trovare concretezza Il PNRR Risorsa Appuntavo Mi perdoni Se non sono stato puntuale Risorsa Ma occorre procedere Con uculatezza Giustissimo E infatti Questa è Anche la funzione Del coordinamento Interno Infrasettoriale È per questa ragione Proprio per dare I tempi Saranno scadenzati In maniera rigorosa Dico Rispetto alla concretezza Abbiamo un sindaco Che qualche volta Non ci dà manco La soddisfazione Di fare un comunicato stampa E dire Guarda abbiamo risposto Al bando Ma non lo diciamo Fino a quando Non siamo sicuri Che l'abbiamo vinto Però già il rispondere È un'azione Ecco Lo dico perché Nessuno Vuole enfatizzare Questa cosa Primo fra tutti Il sindaco Che non ci ha fatto fare La conferenza stampa Sul parco Rambelli Lo dico Perché Per quanto sia Concreto Perché qua Per quanto Voglia essere misurato Lui e tutta L'amministrazione Sui risultati L'ultima cosa Mi consentirete Forse chiedo Chiedo scusa Se magari non ho risposto A tutto L'ultima cosa Una cosa Più Diciamo Di Goliardica Che altro Il consigliere Canducci Diceva che dovevo dare Suggerimenti al sindaco Durante la campagna elettorale Penso che i suggerimenti Glielo ho dati Glielo ho dati bene Tanto che abbiamo vinto Per cui Adesso per il resto Camminiamo insieme E lavoriamo insieme Grazie Allora Grazie Assessore per lei Adesso Le dichiarazioni di voto No Penso la dicesse Per le dichiarazioni Di voto Uno per ogni gruppo Prego Consigliere Canducci Provo a stare dentro Ai tre minuti Inizio dall'emendamento Beh Mi stupisce Sinceramente Ho capito poco Mi sembra di capire Che nel 2022 Le manutenzioni Si faranno Grazie a un vecchio Finanziamento Quindi Non è stato messo Nemmeno Un centesimo Di somme nuove Per le manutenzioni E va bene Questo finanziamento Se ci aggiungiamo 200 mila euro Si rischia Di perdere Quindi Il nostro ufficio Lavori pubblici Con un bilancio Di 68 milioni Non riesce a fare Bandi Per 300 mila euro Per la manutenzione Di strade e piazze Auguri Assessore per lei Per il PNR Auguri Auguri Perché è incredibile Oltre al fatto Che nessuno Impediva All'ufficio Di fare due gare Distinte Una veloce Per i 125 Per non perdere Poi c'hai altri 200 E fai le gare Per la manutenzione Delle altre 200 Evidentemente Gli spogliatoi Del Torrione Superano anche Le difficoltà Per i bandi Andiamo poi Alle repliche Sindaco Lei non se la deve Prendere Perché qui non è una questione Di orgoglio personale Di Mi dici questo Io non ho fatto questo Mi dispiace Non è così Sindaco Ci vuole Innanzitutto Rispetto Per il Consiglio Comunale Non è che noi Perdiamo tempo Qui che lei non ce la fa Ad ascoltarci Deve alzarsi E andare via Non è che noi Diciamo le fesserie Come ha scritto lei Ha detto lei Non le diciamo Le fesserie Può darsi Che diciamo una cosa Che lei non condivide Ci mancherebbe Però lei ha detto Che si sta impegnando Per studiare il bilancio Benissimo Può darsi che dal prossimo Si accorgerà Che tutto quello Che lei dice Di voler fare L'assessore Pellè Non gliel'ha messo Dentro al bilancio Quindi può darsi Che quando Ha imparato meglio A leggerlo Si accorge Che non c'è Tutto quello Che lei ci dice E quindi Dalle chiacchiere Che sono tante E che vanno bene tutte Perché l'ha raccontata Benissimo Dalle chiacchiere Che sono tante Poi però Attraverso il bilancio Di previsione Che caro Giorgio Mi dispiace Il bilancio di previsione È importante Perché autorizza la spesa Quindi poi dopo Ci mancherebbe Consuntivo Tutto quello che vuoi Ma il bilancio di previsione Permette di far funzionare E far partire La macchina Quindi Sindaco Può darsi che dal prossimo Dal prossimo Mi auguro dal prossimo Riuscirà A far mettere bene Quello che vuole fare Dentro al bilancio L'altro aspetto L'Atari Impegno ottimo Quello di non aumentarle Perché negli ultimi anni Ci sono stati aumenti continui Va benissimo Ma non ne sarei così sicuro E proprio dell'altro giorno La notizia Che nel comitato Ristretto dei sindaci È emersa la volontà Dei gestori Il bisogno Dei gestori Di aumentare La tariffa Del trattamento Meccanico Biologico Quello rischia di essere Tantissimi Le transazioni Le transazioni sul personale Sindaco Ma sai quanto è giunto L'assessore Fanini L'ex assessore Fanini Gli lo può dire Io non è che voglio deluderla Ma non è lei che fa Le transazioni del personale Il comune Ne ha fatte Ne ha fatte Tante negli anni Il problema Ci dobbiamo porre Perché ci sono le cause Del personale Questa è la domanda Che ci dobbiamo porre Perché le transazioni Le transazioni Le abbiamo fatte Le abbiamo fatte tutti Impianti sportivi Impianti sportivi Io sindaco Lei mi dà ragione Io quasi Mi sorprendo Lei mi vuole dare torta E mi dà ragione Mi dice Eh lo dice a me Che ho fatto equilibrare Tutto quanto Tranne gli spogliatoi Ho fatto riequilibrare Tutto quanto Della gestione Del torrione Lo dobbiamo fare Io dicevo questo Non può essere Il 25% di copertura L'assessore mi dice Ma è per motivo Covid Eh va 2023 è il 50 2024 è il 50 La mensa è il 99 Il mercato ittico Non ne parla nessuno È il 72 Allora io dico È vero Bisogna far spendere di più A chi può I commercianti lo riversano Sul prezzo di chi compra Su chi compra Qual è il problema Le associazioni sportive Fanno pagare sempre i ragazzi Quando si iscrivono Dov'è il problema La mensa 99% Revisione di spesa Ottimo C'è una copertura del 99% Qual è il progetto di revisione di spesa Lo venga a sapere adesso Che state facendo Perché non l'avete detto In commissione bilancio Perché lì si può incidere tanto Si può incidere tanto Se è vero quello che dice Gaetani Che ci sono state delle situazioni Un po' particolari Che hanno portato a 300 mila euro Si può incidere e quindi andare a ridurre Ma lei non mi può dire Che con la mensa ha fatto l'equità E con gli impianti sportivi E con il mercato ittico L'equità Non è che è una cosa Che la sposti nella casella Dove le piace Assessore L'equità L'equità la amplichiamo dappertutto Ultima cosa Che mi piacerebbe Avvenga in futuro Visto che come dice De Vecchis In fieri Come avete detto voi Nel corso dell'anno Possono succedere cose Io mi auguro Visto che il Consiglio Comunale Ha pochissimi poteri E uno di questi è il bilancio Legato al bilancio Io mi auguro Che le varianti Al bilancio Passino in Consiglio Comunale Prima in Commissione E poi in Consiglio Comunale E non in Giunta Visto che è un bilancio In fieri Che può avere delle modifiche Grazie Quindi la dichiarazione di voto È positiva Paolo Non l'ho sentita? No Ha ragione Quindi La parola La parola La parola Lei sa che io le voglio Troppo bene No E se ne approvita No Ha ragione La dichiarazione di voto Negativa Ah negativa Negativa Bene Grazie Consigliere Canducci Qualc'altro consigliere Di dichiarazione di voto Delecchis Giorgio Paolo Le variazioni di bilancio Passano comunque In Consiglio Comunale Di solito Per ratifica Perché di solito Si riferiscono A situazioni Che si prospettano Dopo il bilancio Preventivo E che di solito Vengono discusse Fatto Come non sono stati messi No Ipotesi Di finanziare Con PNNR Che ancora Non sono uscite Non sono usciti Così Per cui Magari ci si augura Che escano Insomma No Quello sarà oggetto Di variazione È questa La dinamica E la logica Di un bilancio Preventivo Poi come dici tu I fatti Si misureranno Da un'altra cosa Dal consuntivo Che è ben diverso Insomma No E dai fatti Che i cittadini Hanno sempre giudicato No Quindi Riguardo All'emendamento Anche io Onestamente Ero stato Diciamo Un po' Sbalordito Dalla prima lettura Diciamo Dell'interpretazione Da quello che ho capito Ho semplicemente scelto Un capitolo Diciamo Sbagliato Come Da rimpinguare Perché è un capitolo Che è finalizzato A un Investimento Ben preciso Legato A un finanziamento No Che sicuramente Necessita Di rendicontare Tutti il resto Quindi Poi come dici tu Molto probabilmente Si poteva Magari Segnalare Poi è stato Magari presentato Un po' In ritardo Se ti fosse Segnalato Stato Segnalato Prima Concettualmente Si poteva chiedere L'istituzione Di un altro Capitolo Non legato A questa Specifica Tipologia Per Diciamo Sostenere Altri Interventi Nell'intervento Specifico Ripeto Mi pare Che un intervento Che nel piano Provennaio Gli investimenti Quello che Andava a finanziare Che tu avresti Potuto Mendare Esiste Non so Da quanti anni Io me lo ricordo Da tempo E non penso Che sia stato messo Lì a caso Cioè Penso che Quando è stato messo Lì in bilancio È perché L'ufficio Lavori pubblici Ha Diciamo Considerato Che c'era bisogno Necessità Di intervenire Perché non è che Sennò Ci si alza La mattina Siccome Sono diversi anni Che sta lì Non posso pensare Che oggi La necessità Di quell'intervento Sia venuta meno Anzi Molto probabilmente È ancora più urgente Perché se era Disastrato prima Se sono trascorsi Diversi anni Non starà meglio Quindi È un intervento Che Da fatto Se Le esigenze Di intervento C'erano Da dieci anni Io onestamente Da consigliere comunale Farei molta fatica A dire Degli spogliatoi Che mi hanno segnalato Che insomma Non sono il massimo Che non c'è bisogno Di più intervento Perché quello Andiamo a dire Cioè Di fronte a una programmazione Che noi abbiamo trovato Noi dovremmo andare a dire Che lì non c'è bisogno Dell'intervento Io onestamente Questo Non me la sento Non sono andate a vedere Le situazioni Non ci saranno Problemi di staticità No? Ma sicuramente Da come mi sono stati Descritti Da genitori Che hanno i figli Che li frequentano Non sono il massimo Quindi presumo Che l'intervento Messo in bilancio Tanti anni fa Fosse necessario E passato il tempo Sia ancora più necessario Quindi No? Se poi la tua Voleva essere Una provocazione politica Non la possiamo raccogliere Se l'intento era questo Poi è chiaro Che ci auguriamo Che ci arrivino Più risorse E che magari possiamo E che magari possiamo Ampliare quei capitoli Di manutenzione Delle strade O piuttosto Di nuove asfaltature Questo Fa parte di quel lavoro Che E gli assessori Da oggi in avanti Mettendo veramente Mano Nei vari capitoli Perché è normale Che ci vuole anche Il raffronto Tra il preventivo E il consuntivo In essere Si potrà Poi Come sempre È stato fatto Variare E personalizzare Gli interventi E magari Speriamo Aumentarli Soprattutto Sul piano Provennare Gli investimenti Con Nuovi PNNR Che poi Fino a che I PNNR Parlano Di investimenti Manutentivi Dell'esistente Va bene Se dovessimo Valutare PNNR Che Invece Sono destinati A investimenti Per nuovi servizi Dovremmo creare Quelle risorse Sulla spesa corrente Per poterceli mantenere Quindi non è una cosa Facile È un impegno Grande Importante Come dice L'assessore Strategico E penso Che nonostante Il poco tempo Questa amministrazione Lo sta Seguendo Con la dovuta Attenzione Compatibilmente Con la struttura Che ha a disposizione Chiaramente Non abbiamo Un ufficio Lavori pubblici Con 150 tecnici Quindi Questo è quanto Ci auguriamo tutti Di riuscirne A presentare Il più possibile Di bandi Che possano Essere finanziati Quindi Il voto Del gruppo È chiaramente Favorevole Grazie Grazie Consigliere Devex Giorgio Sì Prego Consigliere Traini Grazie Presidente Giusto Per Per Riplicare Un attimo A quanto È stato Detto In quest'aula Dopo Gli interventi Allora Il sindaco Che sostanzialmente Ha evidenziato Quello che Lui Riterrebbe Il consiglio comunale Perfetto Ma questa È una sua Una sua visione Io quello che Premo A tutti Di Considerare È che Questa è una Sede istituzionale E come tale Non è giusto Nei confronti Di nessuno E me per primo Considerare Le argomentazioni Che abbiamo utilizzato Che io ho utilizzato Come argomentazioni Da taglio di vene Io francamente Questo non glielo concedo Perché non ritengo Questo Né un linguaggio Congro Per la sede Dove ci troviamo Né tantomeno Non ritengo Di meritare Una tale Affermazione Io ho fatto Il mio intervento Ritengo anche Di essere stato Anche intellettualmente Onesto Su riconoscere Le oggettive Difficoltà Che ci sono Ma che c'erano Anche prima Non è che Le difficoltà Sono arrivate Soltanto Adesso E però Allo stesso tempo Non si scende Sul personale Sindaco I motivi Per il quale Ci sono state Le questioni Passate Sono questioni Che non riguardano Né lei Negli altri qui dentro E comunque Non sono i motivi Che lei ha rappresentato Detto questo Tenevo a precisare A precisare A precisare Le vecchie Allora Anche questo Presidente Però Presidente Scusi Presidente Consigliere La pessima abitudine Della maggioranza Di definire O Giorgio Questo già Considerate un fatto Personale Sono un fatto Esplicitamente Giorgio Cosa Giorgio Presidente Giorgio Lo faccio Allontanare Lo faccio allontanare Perché il brutto vizio Di intervenire Lo faceva Prima di l'opposizione Lo fare Adesso Quindi è una questione Caratteriale Quindi di educazione Questo sconosciuto Educazione Visto che siamo alla E Tutti parlano di empatia Educazione sta anche La lettera E sul dizionario Quindi se sta in quella fase lì Anche l'educazione è importante Vabbè dai Continua L'intervento Perché questa maggioranza Chiede empatia Chiede partecipazione Ma non rispetta gli altri Perché quando ha parlato La consigliera I fatti personali I fatti politici Non avrei Mi sono regolato Giorgio 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 Per cortesia Noi possiamo Allontanare Alla maggioranza Dai Lo faccio andare Dai No dai Condire C'è un momento Occhè un ordine Non mi andava via Cerca di continuare Dai 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 Continua Con calma E attieni All'argomento Ma l'altro dice cose non corrette Vabbè questo Mi dà un'altra cosa Perché Ha detto prima Nel suo intervento Che in 5 anni Abbiamo fatto Sostante i 600.000 euro Degli asfalti Non è vero Quello è il piano asfalti Sono stati fatti Ben altri interventi E lo sa perfettamente Non fosse altro Non fosse altro Per i piani Vabbè Presidente Però se lei Non è in grado Di tenere il consiglio Non è colpa mia Ma è colpa mia Ah Presidente Sì personale Però prima Personale sull'intervento Che ha fatto Pocazzi Prima si è intervenuto Su un intervento Che stava facendo Per cortesia Dai Smettiamo Continua A teniti All'argomento Che è quello Della dichiarazione Di voto Per cortesia No 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 non ti sta dicendo Allora mi scrive a lei Un bigliettino E io poi magari Faccio questo Non ti ho detto Che devi dire Quello che dico io Perché mi stava A quanto Lo stavo replicando In un consigliere Di maggioranza Che ha detto Una cosa non reale Non fosse altro Per i piani di ripristino Che quando vengono Asfaltati Con obblighi Ho capito Invece le autorizzazioni Già fosse quello Già il triplo Di quello che ha detto Adesso andiamo avanti Serenamente Dai A posto Dai Basta Chia Basta Va avanti Traini Dai Avanti Dai 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 Sta calmo E vai avanti Quello che devi dire Dai Non aumento Dei latari L'assessore Continua a ribadire Lo ha detto anche il sindaco Che comunque Gli hanno detto Che per far riportare Il bilancio Doveva aumentare Dell'8% L'atari Ma se il piano economico Finanziario ancora Non è stato elaborato Non è stato portato Come potevano i funzionari Per questa data odierna Portare un bilancio Aumentando l'atari Se il piano ancora Non è oggetto Di approvazione Di valutazione Quindi Vedremo per il futuro Se sarà così Ma io dubito Perché da quello Che è uscito Già sulla stampa Sui comunicati Eiffel Sarà difficile Io vi auguro Che sia così Perché non è che mi dispiace Laddove Non dovesse aumentare Ma ad oggi Non è così Sindaco Non è possibile Che gli abbiano detto Che per portare Il bilancio Oggi Bisogna aumentare L'atari Perché il piano economico Bisogna ancora farlo Questo è un dato Per quanto riguarda Le aree verdi Le aree verdi La chat che lei ha C'era già prima E gli interventi Le assicuro Che venivano fatti E guardi Mi attestiamo L'assessore Capriotti Che ha ereditato Quello che comunque Era stato fatto Dagli stessi uffici Con Lamprango Cameli Marco Collini Faccio anche i nomi Di coloro Che seguono queste opere E se vogliamo Li possiamo anche Tranquillamente sentire Gli interventi Sulle aree verdi Sono stati tanti Tanti È chiaro Che non bastano mai Allora Questo è un altro discorso Però Però dire che non è stato fatto nullo Che era una situazione pessima Non è corretto Perché se lei chiede È onesta intellettuale Lei deve chiedere sempre Non è soltanto Quando è protomo sua Allora le dico Sono stati fatti interventi In Parco Laggiare Al Parco dei Colori Al Parco Ristori Quel parco Su cui sta intervenendo adesso L'assessore Capriotti Una parte interventi E non sono stati fatti Perché il caso ottiene Il legno per i messaggi attrezzi Quello è stato fatto Grazie all'aiuto Della precedente amministrazione E anche grazie All'associazione presente Per carità Poi sono stati fatti Interventi in Parco Vetila Parco di via Monteconero Piazza Colbe Che già la precedente amministrazione Aveva fatto l'intervento Per quanto riguarda Il campo da basket E la tensostruttura Quindi dire che Sulle aree verdi Non è stato fatto nulla Non è corretto Che bisogna fare dell'altro Quello chiaramente sì Perché comunque Le aree a San Betto Sono 72 E chiaramente Ognuna di queste Tra le più piccole Le più grandi Necessino di derivare interventi Io quindi Devo dire soltanto questo Se la collaborazione Ci deve essere Però deve essere reciproca E comunque Non mi sembra Perché anche quando C'è stato l'intervento Della consigliera Carboni Qualcuno La maggioranza L'ha comunque interrotta E questo penso Che non sia Un punto di partenza corretto Ad ogni modo Il voto di Fratelli Italia Sarà contrario Grazie consigliere Traini Ci sta qualche Altra dichiarazione Di voto Consigliere Catani Prego Inizio dicendo Che ovviamente La nostra La lista libera È favorevole Per cui la dichiarazione È positiva Mi permetto solo Di fare Un piccolo appunto Sul discorso Del campo sportivo Del Torrione Il Torrione Calcio È ereditato Quello spazio Nel 2000 Quando molto a memoria Dalla Dall'amministrazione Piunti E dall'amministrazione Perazzoli Scusatemi Ci siamo inventati 24 ore Per la luce Che era una manifestazione Dove ognuno di noi Ha pagato 30.000 lire E poteva fare L'allaccio della luce Perché non c'è stato C'è stato dato Un pseudo campo sportivo Che non giocava Nelle porte Nelle panchine Nelle bianderine Nell'attacco Dall'acqua Nell'attacco Dalla luce Per cui Chi meglio di me Tra i presenti Non esiste uno Che conosce meglio di me Quell'impianto lì Io a quell'impianto lì Ho denicato Tempo Soldi E sudore Tanto Con l'amministrazione Gaspari 1 Gaspari 2 E Paolo Questo tu lo sai L'impianto del Torrione Rappresenta L'unico intervento Fatto a livello Di impiantistica sportiva Della città Nella zona centro-nord Se ne è fatto carico Poi Antonio Quando come sponsor Ha E' subentrato Che non è Il presidente del Torrione Che sono due cose Un po' differenti E ha fatto il manterboso Unico a farlo Interamente A carico Della sua azienda Mentre gli altri Due impianti Tipo il Ciarrocchi E l'ex Campo Europa Sono stati fatti 50 e 50 Quello del Torrione E' stato fatto 100% A carico Dell'azienda Al quale poi Con un contratto Di 12 anni E' stato riversato Il 50% E L'amministrazione Gaspari Mi sembra Anche lì vado a memoria Correggimi se sbaglio Ha legato La multa presa Per danno erariale A seguito Dell'assunzione Della dottoressa Zazio Ha legato Quella multa Al rifacimento Degli spoiatoi L'amministrazione Piunti A seguire Ha legato Ha ritenuto Che quegli spoiatoi Andavano fatti Ed è stato messo Sistematicamente Nel piano triennale Tant'è Che ce lo siamo ritrovati Oggi Paolo Sinceramente Mettere di mezzo Gli spoiatoi Del Torrione Per Mettere in imbarazzo La figura Del sindaco In quanto Ex sponsor Del Torrione Calcio Sinceramente Dispiace Se non è questo Per carità di Dio Per carità di Dio Gli spoiatoi Del Torrione Calcio Sono Importantissimi Ma no Oggi Ieri Ieri Perché Perché L'avete detto Voi Ieri Perché L'ha detto L'amministrazione Piunti E oggi Perché Lo dice L'amministrazione Spazzafumo Perché C'ha 140 Bambini Come quelli Che sono stati I miei figli Che hanno mangiato E respirato Terra rossa La dottoressa Sta qua Ha mangiato E respirato Terra rossa Per 15 anni Per cui Io Qui Come genitore Prima ancora Che come consigliere Comunale Difenderò Gli spoiatoi Del Torrione Calcio Grazie Grazie Consigliere Catani Ci sono altri Interventi Sulla dichiarazione Di voto Sì Consigliere Capriotti Fabrizio Sì no Brevemente Solo per dire Che Chiaramente Il nome del gruppo Che rappresento Centro Civico Popolare Dichiarazione Di voto È positiva Grazie Consigliere Capriotti Se non ci sono Altri Interventi Per dichiarazione Di voto Passiamo Al voto Luciana Ah Luciana Non ti vedo Allora volevo fare Delle precisazioni In base a qualche Dichiarazione Rilasciata Prima da Qualche membro Della Minoranza Una In merito Al progetto Pilota A cui La nostra Amministrazione Ha partecipato Progetto Pilota Della provincia Di Ascoli Emanato Dalla provincia Di Ascoli Allora I criteri Per partecipare E avere E avere un Punteggio Diciamo Importante Per quel Progetto Sono tre Non uno Come citato I comuni Facenti parte Del cratere Sismico Quelli che fanno Parte dell'unione Dei comuni Avevano un Punteggio Affidato Più alto Rispetto A quello che ha Avuto Per esempio San Benedetto Poi c'era Un'altra cosa Importante Il comune Di Grotta A Mare Ha avuto Un punteggio Maggiore Del nostro Perché Il progetto Che è stato Presentato Era un progetto Già in fase Avanzata Perché Noi Non abbiamo Potuto Produrlo Dico Noi Perché Del progetto Ci siamo Occupati Con Gli uffici Tecnici Del comune Io E Il consigliere Micozzi Architetto Micozzi E lo abbiamo Preparato in pochissimi Giorni Perché Purtroppo Per un ritardo Non nostro Più a livello Diciamo Di organizzazione Della provincia Che veniva Dalle elezioni Ci sono stati Solo dieci giorni Noi Non avevamo Progetti Pronti Nel cassetto Perché La precedente Amministrazione Non ce li ha Lasciati Per cui In Qualche giorno Proprio Tirando fuori Poi il tempo Molto velocemente I tecnici Lo abbiamo Presentato Ma perché Questo Perché Abbiamo Voluto Rientrare In gradatoria Perché Come qualcuno Competente Per queste cose Saprà Probabilmente Rientreremo Come beneficiari Qualora I fondi Destinati Non vadano Ad esaurimento Come già Sembra Perché Le province Del sud Italia Purtroppo Per loro Non partecipano Attivamente Bandi Questo è uno Questo è il motivo Per cui abbiamo Partecipato Poi volevo dire Un'altra cosa Ho sentito Delle affermazioni Dall'ex Assessore Al sociale Che mi permetto Di puntualizzare Innanzitutto È stato È aumentato Il fondo Al sostegno Linguistico Scolastico Sono stati aumentati Di 50.000 euro I contributi Per gli affitti C'è in corso Proprio In questi In queste settimane L'assunzione Di un assistente Sociale Abbiamo aumentato Proprio All'aggiunta Di ieri 20 posti Anidi comunali Siccome è scoppiata Una polemica Feroce Veramente Secondo me Senza senso Per gli aiuti All'Ucraina Come se Ho letto Una dichiarazione Imbarazzante Addirittura Il comune Di San Benedetto Nella figura Del sindaco Dell'assessore Avrebbero dovuto Coordinare Addirittura Il lavoro Della prefettura Cioè Qui da noi Arriviamo A rivoltare Anche il diritto Amministrativo Per cui Il lavoro Della prefettura Lo organizza Il comune Ma io Non lo so Mi sembra Fuori dal mondo Comunque L'assessore E tutta L'amministrazione Si sono mossi Velocemente E si farà Tutto Quello Che si può Chiaramente Perché Quello che non si può Non si può fare Un'altra cosa Vi volevo dire Io vi sento Parlare di piscina Voi siete Siete oggi L'opposizione Ma siete stati In maggioranza Mi sembra In tutte e due Da tutte e due Le parti Io vi volevo Ricordare una cosa Perché ci tengo Particolarmente In prima fila C'è chi Stava in amministrazione Che la piscina esterna L'ha chiusa Nel 2013 E così è rimasta Quelli dietro Invece hanno promesso Alle elezioni Di riaprire la piscina Non l'hanno fatto Hanno perso I bandi E oggi Vi chiedete Come mai Quest'amministrazione Sia tanto interessata A riaprire una piscina Per vent'anni Gliel'avete tolta Non un giorno Per cui Abbiate pazienza Grazie A Indirizzo di voto Siamo favorevoli Rivoluzione civica Voterà a favore Grazie Consigliere Barlocci Ci sono altri interventi Per dichiarazione di voto No Allora Approvazione Nota di aggiornamento Al documento unico Di programmazione 2022-2024 Schema di bilancio Di previsione Finanziare 2022-2024 Relativi allegati Mettiamo al voto Allora 16 favorevoli 8 contrari Il Consiglio approva Votiamo l'immediata Eseguibilità 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 Chi manca? Muzzi? C'è cacciato Dei funzionali C'è cacciato Traini Traini Forse manchi tu Traini Vota il primo a sinistra Traini 16 favorevoli 16 favorevoli 8 contrari Il Consiglio approva Allora 12esimo punto Convenzione Per la gestione In forma associata Del servizio Del servizio Del servizio Del segretario Comunale Tra i comuni Di San Metto del Tondo E Copra Marittica Ce la spiega Il segretario Generale In maniera Tecna E' chiaro Che la delibera La porta All'amministrazione Comunale Prego Grazie Presidente Si tratta Solo Di fatto La delibera Ha un contenuto Tecnico Nel senso Che E' un Atto Che spesso I comuni Fanno Per Utilizzare Il segretario Comunale In convenzione Nel mio Caso Sono già Segretario Comunale Del comune Di Copra Marittima Il sindaco Di Copra Marittima Ha chiesto La disponibilità Al sindaco Spazzafumo Di Di approvare Una convenzione Tra i due comuni E' una convenzione Naturalmente Prevede Un utilizzo Insomma Congiunto Del segretario Naturalmente Con una percentuale 75 A favore Del comune San Benedetto Essendo Comune più impegnativo E 25 Per cento Comune di Cupra Marittima Dove sarò Presente Il lunedì Mattina E poi Giovedì Pomeriggio Tenendo presente Naturalmente Che Gli orari Del segretario Comunale Sono Somma Flessibili Ecco Quindi Questo è Questo è Quanto Insomma Sì Grazie Segretario Apriamo la discussione Ci sono degli interventi In merito Sì Consigliere Canducci Brevemente Non è sicuramente La prima volta Che si fa Una convenzione Ma Le volte Che c'è stata Era per questioni Temporanee Ricorda bene Anche L'ex Assessore Vice Sindaco Fanini C'erano delle situazioni Temporanee Urgenti Da Verificare Quindi Era una questione Molto limitata Nel tempo Perché dico Questo Perché un comune Come San Metto Del Tronto Deve avere Il segretario A tempo pieno Deve avere Il segretario A tempo pieno Tanto più Se c'è la volontà Dell'amministrazione Come sembra Di assegnargli Anche il personale Motivo in più Se mai fosse Questa La La reale Intenzione Motivo in più Per avere Il segretario A tempo pieno Quindi io La cosa che Chiedo Che penso È che questa Convenzione Debba avere Un tempo Limitato Non so Segretario Se dipende Da lei O dipende Dal sindaco Di Cupra O dal sindaco Spazzafumo Non lo so Ma sicuramente Noi non possiamo Avere A mio avviso Un segretario Al 75% Perché la città Di San Metto Ha sempre avuto Un segretario A tempo pieno E nonostante questo Non sempre Era sufficiente Insomma Quindi io Faccio Questa Questa Preghiera Di rendere Questa Convenzione Temporanea Per evitare Che possa durare Più a lungo Del necessario Grazie Allora Ci sono altri Interventi Sì Consigliere Muzzi Prego Grazie Presidente Ecco Venendo Allo Spirito Collaborativo Che tanti Tutti Soprattutto Il sindaco Evocava Questa Delibera Noi come Centrodestra Non possiamo Che votarla Semplicemente Perché Siamo Coerenti Con quello Che siamo Andati a Votare Nella deliberazione Del consiglio Comunale Del 23 Dicembre Del 2017 La numero 89 In questo Caso Era una Deliberazione Similare Ma vorrei dire Speculare Cambiano I soggetti Perché Al posto Del segretario Attuare C'era il Dottor Antuono Stimatissimo Professionista Che ci ha onorato Per vari anni Della sua presenza Qui in Comune E cambiano I soggetti In essere Perché Oltre il Comune Di San Benedetto Che ritroviamo In entrambe Gli atti Adesso c'è il Comune Di Cupra Prima c'era il Comune Di Rotella Quindi Leggendo anche La delibera Mi pare di aver capito Che è una presenza 26 ore Presso il Comune Di San Benedetto E le 9 ore Restanti A Cupra Maritti Ma non possiamo Essere che Coerenti Con quello Che abbiamo Votato Qualche anno Fa Ora io Per curiosità Mi riallaccio Perché Perché Se Per un certo Senso Capisco Le buone Intenzioni Del sindaco Spazzafumo Che ha iniziato Adesso Un anno fa L'attività Politica E quella Amministrativa Tra Cinque Due mesi e mezzo Purtroppo Noi ci portiamo Però Un trascorso Anche di Frizioni Dovute All'agone politico Con dei Personaggi Degli esponenti Politici Che lei Si ritrova Nella sua Amministrazione Ma che Erano Avversari Avversi A noi Quando Governavamo Noi Quindi Io Per curiosità Mi è sorta Che qualche Sorriso Rileggendo Le dichiarazioni Che all'epoca Facevano Attuali membri Della Della Maggioranza Su questo Provvedimento Che purtroppo Passò Ma non All'unanimità Invece Noi Appunto Diciamo Approviamo E voteremo Come tutto il centro-destra Come gesto Comunque Di responsabilità E soprattutto Di coerenza E di spirito collaborativo Un provvedimento Che secondo noi È positivo Perché Mette anche Sicuramente Avremmo potuto Retoricamente Dire Come qualcuno Ha fatto E sono andato A rileggerlo San Benedetto Ha 50.000 abitanti Il segretario Deve essere Onnipresente Se io busso Sulla porta Del segretario Mi deve rispondere Invece In questo caso Abbiamo un altro Tipo di approccio Quindi giusto Questa forma associativa Anche come Razionalizzazione Delle funzioni Amministrative Tra enti locali Quindi voteremo Favorevolmente E mi auguro Che ci sia A questo punto Un voto Unanime Da parte Di tutto Il consiglio Perché noi Come opposizione Seria Dove le cose Sono giuste Le approviamo Votiamo Favorevolmente Poi Dove avremo Invece Delle criticità O delle perplessità Lo manifesteremo Democraticamente E anche Con delle visioni Che non possono Sempre essere Armoniche Rispetto A quelle A quelle sue Sindaco Noi viviamo In una realtà Ci sono i punti Di vista Se scriviamo Lì Sullo stemma Di San Benedetto Un numero Un 6 Per me È un 6 Per lei Sarà un 9 Ma la realtà Qual è? Nessuno Ha la verità Per me Sarà un 6 Per lei Continua a rimanere Un 9 Chi vedrà Nell'emiciclo Si farà Si farà L'idea Del numero Che abbiamo Visto Grazie Grazie Consigliere Muzzi Consigliere Marcheggiani Prego Grazie Presidente Mi scusino Io invece Siccome Non ho Né esperienza Politica Né memoria Volevo chiedere Una Volevo porre Una domanda Perché mi chiedevo Se a seguito Di questa convenzione Per la gestione In forma associata Del servizio Del segretario Comunale Fermo Restando Le considerazioni Già fatte Da Paolo Canducci Che sicuramente Sono Anche giuste Ma Così Anche per capire Questa convenzione Che comunque Ci priverà Del Del lavoro Del supporto Del segretario Comunale Per Mi sembra di capire Un giorno alla settimana Adesso Non avendo letto La delibera Non posso essere precisa Ha un costo Cioè Comporterà Un risparmio Per Il comune Di San Benedetto Visto che Si condivide Solitamente Quando si condivide Si Condividono Anche le spese Era giusto Per capire Se Magari Cortesemente Forse Mi scuso Perché Magari la domanda Non è carina Però Era veramente Una precisazione Che vorrei avere Grazie Allora Altri interventi In merito No Nessuno Segretario Se vuole La parola Per rispondere Ad alcune richieste Sì Grazie Presidente Consiglio La domanda È giusta È legittima La risposta È Questa Le spese Sono divise Tra il comune Di San Benedetto Del Tronto E Cupra Marittima Nella percentuale Che abbiamo detto Però Nei fatti Non c'è un risparmio Effettivo Se non In misura Insomma Marginale Credo Perché poi Perché Comunque C'è un incremento Della retribuzione Del segretario Generale In questi casi Quindi C'è un incremento Complessivo Che poi Viene Suddiviso 75-25 Nei fatti È in invarianza Di spesa Per il comune Di San Benedetto Del Tronto Volevo ringraziare Brevemente Ringrazio Il segretario Per la risposta Per cui Io Penso Di votarla Favorevolmente Perché Non ho Personalmente Nulla Da eccepire Perché il lavoro Va pagato Mi auguro Spero Per tutti Soprattutto Per la nostra città Che questa Collaborazione Definiamola così Non faccia Comunque Non comporti Ecco Delle Limitazioni Per il comune Perché San Benedetto Effettivamente Ha bisogno Poi sul suo stipendio Reale Grazie Consigliere Marchigiani Ha fatto la dichiarazione Di voto Il gruppo Verdi Rinascito San Benedetto Quindi Ci sono altre Dichiarazioni Di voto Scusa Ma La mia domanda A Silvia Se è Temorana Se sarà L'uomo Sono In attenzione C'è il Silvia C'è una scadenza Però può essere Sciolta Allora Guarda Se posso rispondere Se no Può essere Sciolta In qualsiasi momento C'è sempre Lo scioglimento L'intenzione del Sindaco L'intenzione del Sindaco È quella comunque Di venire incontro Alle esigenze momentanee Del segretario Perché comunque Si stava già lavorando Al comune di Copramarittima E di Loreto Quindi Nell'incontro E nell'accordo Che abbiamo fatto Mi ha fatto questa richiesta Io ho detto Va bene Quindi Nel momento in cui Questa cosa Verrà meno Verrà sciolta Quindi non è un problema Quindi Hai bisogno Del segretario E' chiaro Che Principalmente Diciamo L'attività Viene svolta Per l'amministrazione Un esametto Poi Il Comune Il Sindaco di Cupra Mi ha chiesto Questa opportunità E giustamente Io gliel'ho Concessa Quindi non Aggiungo una cosa Non perché Il segretario Comunque il segretario È sempre disponibile C'ha degli orari Anche che vanno Oltre al normale Orario di un dirigente Per cui è molto presente Poi Come diceva il Sindaco Ma strada facendo Si vedrà Se non ci sono Altre dichiarazioni Di voto Passiamo Diciamo Al voto Proprio della Convenzione Per la gestione In forma associata Del servizio Del segretario Comunale Tra i Comuni San Metto del Trondo E Cupra Marittima Mettiamo Allora 23 favorevoli Un astenuto Il Consiglio Approva Adesso Vediamo L'immediata Eseguibilità Dottore Adesso deve votare Allora 23 voti favorevoli Un astenuto Il Consiglio Approva Alla delibera Di Consiglio Comunale Numero 90 2021 Riserva Naturale Regionale Sentina Adozione Di variante Al piano Di gestione Con indicazione Della localizzazione Dell'attraversamento Ciclopedonale Del fiume Trondo Approvazione Definita Prego Il Vice Sindaco Capriotti Sì Torniamo La sentina Vi ricordate Il 18 Dicembre Approviamo L'adozione Di variante Al piano Di gestione Per indicare Il posto Dove dove Essere attraversato Con la ciclopedonale Il trondo Nella procedura Burocratica Era prevista La pubblicazione Per 45 giorni Di quella Delibera Non sono giunte Osservazioni Pertanto Mi auguro Che come Abbiamo fatto L'altra volta L'approviamo Tutti All'unanimità Così Diamo Continuità Per Per l'inizio Dei lavori Del Ponte Sul Trondo Grazie Grazie Assessore Ci sono Interventi Non ci sono Interventi Mettiamo Al voto Allora Capriotti La chisiglia Dove Ha rimosto La scheda A posto Se la tolgo A posto Allora 23 voti favorevoli Il consiglio Approva Votiamo L'immediata Eseguibilità La chisiglia La chisiglia La chisiglia La chisiglia La chisiglia Rimane Sì stiamo Tanto Per l'immediata Allora 23 voti favorevoli Il consiglio Approva Quattordicesimo Punto All'ordine Il giorno Mozione A firma Della consigliere Aurora Bottiglieri Relativa Alla difesa Della sanità pubblica Del Piceno E di san Prego Consigliere Bottiglieri Prego Ah sì Prego Allora Io volevo chiedere Alla dottoressa Che è la presentatrice Della mozione Ed è anche la presidente Della commissione Sanità e sociale Di valutare La possibilità Di rimandare La discussione Della mozione Al prossimo consiglio comunale Per consentire Insomma La discussione Della stessa E L'approfondimento Proprio in sede di commissione Che poi La stessa Presiede Questa È la richiesta Che faccio Grazie Allora Sì Anche Siamo Anche abbastanza Stanchi tutti Direi Che è il caso Possiamo rinviare La mozione D'altronde Vedo che non è stata Neanche fornita La fotocopia Per farla leggere I consiglieri Che forse Non l'avevano letta Per mail C'è stato anche Questa piccola Interferenza Sì La rinviamo Soltanto Per dare la possibilità A tutti Di approfondire L'argomento E di portarla In commissione Come mi è stato chiesto Più volte Da più consiglieri Non è stata portata In commissione Perché sinceramente Non c'erano i tempi Tecnici E io Sono anche mancata Qualche giorno Per motivi personali Perché noi Siamo disposti Io parlo anche Al nome della coalizione Che rappresento A eventuali Limature Emendamenti Per cui Credo che sia corretto Rinviarla In questo momento E mi riprometto Invece Di indirre La commissione sanità Al più presto possibile Grazie Ok Allora scusa Una domanda Faccio Adesso che votiamo Il rinvio O il ritiro Io direi di votare Il ritiro Rinvio E ripresentata subito Immediatamente Ma scusa Allora Rinviamo Io chiedo Il rinvio Ad altronde anche Il dottor Simone Sono due cose separate Giorgio Il ritiro È che ritira La mozione E probabilmente Se ne farà un'altra Dove Magari Tutti i consiglieri Dannono un suo Contributo Il rinvio È che lei Rinvia questa mozione E la prossima Consiglio Comunale Porta la stessa No È sono due cose separate No La rinviamo La rinviamo La rinviamo E basta No no Era solo per sapere Non È giusto È giusto Dobbiamo votare Il rinvio Prego Consigliere Gaetani Per capirci Il rinvio Significa Che il prossimo Consiglio Comunale Ridiscutiamo Paro paro Quella Questa No Allora Io sinceramente Non sono d'accordo Nessun ritiro Nessun rinvio Non sono d'accordo Proprio Sulla forma Cioè Io Vorrei ricordare Che noi In Due consigli Precedenti È stata Ritirata Una mozione Presentata Dal Consigliere Gino Micozzi Perché c'eravamo là Di un appuntamento Con la Regione A garanzia Del Sindaco Ovviamente Che facevamo Un consiglio Comunale Aperto Proprio Per discutere Discorso La Sanità Questo consiglio Che al 30 marzo Ancora non è possibile Ovviamente Fare Per normative Covid Che non ce lo consentono Probabilmente Potremmo farlo A partire dal 1 aprile Dico probabilmente Perché sembra Che le linee guida Sul Covid Entreranno in vigore Il 10 aprile Per cui Laddove Dal 10 aprile Sarà possibile Fare un consiglio Comunale Aperto E da lì Invitare Nuovamente La Regione A questo consiglio Comunale Aperto Credo che sia Poi opportuno Fare una mozione Successivamente A quello che ci diremo In consiglio Comunale Con gli enti Preposti Della Regione Grazie Consigliere Abbottili Prego Allora Questa mozione Già parla Io Già parla Di quello Che a livello Regionale È stato deciso Per cui Noi Vogliamo Chiedere Chiediamo Che Questa Amministrazione Intervenca A questo livello Se ci si possono Fare delle correzioni Cioè Non è che Noi parliamo Adesso Facciamo il consiglio Comunale Aperto Noi dobbiamo Andare con una mozione Del genere Al consiglio Comunale Aperto E dire Perché ci date Questi soldi E non Quest'altri Perché il PNR Che prevede La medicina Territoriale Non è Non ha abbastanza Garanzie Per Piceno E per San Benedetto Il Tronto Non è soltanto Il nostro Comune In questo momento Ad essere in causa Ma è tutta La costa Per me Va reinviata Va discussa Sono perfettamente D'accordo La petizione Inoltre sta andando avanti Stiamo continuando A raccogliere Le firme Abbiamo intenzione Di incontrare I comitati Di quartiere Per cui Io sono Per reinviarla Poi sta la maggioranza A decidere Quello che vuole fare Naturalmente Ma la ripresento Uguale Lei è la detendrice Della mozione Quindi decide Se rinviarla O ritirarla Lei decide Di rinviarla Dobbiamo mettere Ai voti Il segretario Che invio Sì No Ecco Quindi Tecnicamente Se La consigliera E mi pare Non è il caso Che ha presentato La mozione Intende Ritirarla E non è il caso Mi pare Di aver capito Allora Viene ritirata E poi può essere Ripresentata E uguale Modificata Diversa O può anche Non essere ripresentata Se invece Questa mozione Viene rinviata È necessario Il consiglio comunale Si esprima Si vota Il rinvio E poi viene iscritta Al prossimo ordine Del giorno Tale e quale Ecco Queste sono due scelte Se il consiglio comunale Rispinge il rinvio Si discute oggi Cioè deve essere votata Oggi Ovviamente Sì consigliere Vici prego Grazie presidente Dunque no Se da un certo punto di vista Apprezzo poi la disponibilità Della consigliera A riaffrontare La tematica delicata Anche in sedi Di commissioni Cercando di Essere anche Attenta A forme di Modifico E emendamenti Dall'altra Non capisco Poiché Voglia ripresentare La stessa identica mozione Cioè è un po' contraddittoria La cosa Secondo me E quindi Diciamo anche Inaspettatamente Concordo con quello che Ha detto il consigliere Gaetani Cioè sono contro Anch'io il rinvio Di questa mozione Perché secondo me Dobbiamo partire Dalla mozione Che questo consiglio comunale All'unanimità Votò Per poi A fare Attualizzarla Ma non Ma eppurandola Da gli elementi Comunque Politici Che erano stati messi Nella mozione Che ci avrebbero visti Contro Perciò La posizione Del centro-destra È quella Di esprimersi Contro Un rinvio Per A favore Di un ipotetico Ritiro Per una Riconsultazione Generale Però Azzerando La mozione Non Non siamo contro Il rinvio Cioè a sto punto È meglio Quindi mi faccia capire Se Noi votiamo Contro il rinvio Si discuta adesso Se non la ritira Qualora La ritirasse Però No se votiamo Contro il rinvio Poi potrebbe ritirarla Come se In seconda battuta No No ormai Cioè dopo Ne può portare un'altra Perfetto Quindi io già posso dire Che Mi perdoni No aggiungo Aggiungo Addizione Già posso dire Che qualora Il rinvio Non passasse E qualora La dottoressa Bottieri Non ritirasse La mozione Il centro-destra Proprio come C'è segno di protesta Uscirà Dall'aula Perché È una forzatura Sbagliata Soprattutto su un tema Delicato Come Come la sanità Vede Cioè Partendo dal presupposto Che rappresenta Ha cambiato anche Nome del gruppo Un partito Che sta sanità Nella regione Marche Era governata 35 anni Negli ultimi 36 Grazie Facciamo un po' d'ordine Intanto ci sono altri interventi Prima di arrivare A una conclusione Consigliere De Vecchi Prego Io capisco Le preoccupazioni Che si pone Il consigliere Nuzzi Perché diciamocelo Chiaramente No La mozione Per come è stata presentata Parte da Giudizi Espressi Su forte politiche E via di seguito Quindi Parte Noi col sindaco Hiamo chiesto Alla consigliera Bottiglieri Di Di ritirare Questa mozione Per portarla In discussione Come tema Sanità In consiglio comunale Nel mentre Come è stato detto Sarebbe Secondo me Doveroso Perché è giusto Che ognuno Si assuma pubblicamente La propria responsabilità Vista la disponibilità Della Regione A farlo Sarebbe doveroso Ascoltare Nei passaggi istituzionali Dico Io non dico Che bisogna Prendere per oro Corato Quello che ci verrà A dire La Regione Però La Regione Sicuramente È competente In materia Ha invertito Una rotta Per quanto riguarda Le dichiarazioni Che ha fatto E poi è chiaro Che Ha delle dichiarazioni Magari Per Quei cose Non ancora Finanziate Per tanti altri Discorsi Si può anche Non credere Però non è una Situazione Molto dissimile Da quando si Ragionava di ospedale Unico Anche lì Non c'era nessun Finanziamento No Perché dire Che si fa Col finanziamento Di terzi E col project Significa Non aver stanziato Nessuna somma Eppure Voglio dire C'erano ospedali Nelle marche Che stavano Nella condizione Di uno stanziamento Io penso Che I passaggi Istituzionali E la correttezza Istituzionale Sia un atto Doveroso Quindi Sentire Dall'organo Competente Quello che vuole fare Sulla sanità No Secondo me È importante Un'altra cosa Che è molto importante Considerato Insomma La posizione Che ha sempre preso Questo Consiglio Comunale Ma non Negli ultimi Cinque anni Io parlo Negli ultimi Venticinque Negli ultimi Venticinque Ci sono state In questo Consiglio Comunale Almeno Tre mozioni Sulla sanità E in particolare Sull'ospedale Che sono state Tutte Votate All'unanimità Io capisco Che qualcuno Può pensare Che poi Le mozioni Del Consiglio Comunale Non servono a niente E questo In realtà È così Perché noi Non siamo L'organo Direttamente Competente No Ne possiamo Pensare Che con la nostra Deliberazione Possiamo obbligare Altri a fare Quello Che è Nelle loro Competenze Quindi qui Purtroppo Ognuno Ha il suo Il suo ruolo Io penso Che L'aver Preso Una posizione Unitaria Rispetto a Certe Questioni In questa Materia Che è patrimonio Sicuramente Non ideologico Oltretutto Insomma Noi Siamo un governo Di liste civile E quindi Riteniamo Questo patrimonio Sui fatti amministrativi Non ideologico Con una ricchezza Pensiamo che sia Doveroso Approcciare In un modo Diverso Sia per completezza Perché Sicuramente La mozione Tratta Degli aspetti Ma sicuramente Questa comunità Ha degli argomenti Diciamo In termini Di dati In termini Di Dati Demografici E in termini Di Diciamo Diritti Che gli derivano Dalla legge Che sono Molto forti Mi sembra Insomma Partire da un approccio Che comunque È parziale Seppur si riferisce No Brevemente A aspetti importanti Tipo la medicina Territoriale Oppure l'assistenza Ospedaliera No Io penso Che questo discorso Debba essere Approfondito Secondo me Non partendo Dalla mozione Perché ripeto La mozione Ci porta Ci porterebbe Inevitabilmente Siccome Secondo me Parte anche lì Da un pregiudizio Perché Voglio dire Ci abbiamo avuto Situazioni In cui Nell'ultimo Consiglio Comunale Nell'ultima Maggioranza C'è stata Una maggioranza Di centrodestra Che ha Chiaramente Ospitato Il governatore Regionale Anche Anche quando Voleva fare Cose Che non Pacevano A questa Comunità L'ha lasciato Esprimere Poi molto probabilmente No Abbiamo retto Su determinate linee Perché avevamo Argomenti Avevamo il diritto Dalla nostra parte E quindi Quello che era L'intenzione Della precedente Amministrazione Regionale Oggi è cosa Superata Fortunatamente Anche concettualmente Poi dobbiamo Essere Sinceri Nel valutare Le cose Nel senso Che se noi Pensiamo Che la regione Oggi Stante così La situazione A livello nazionale In un attimo Risolva I problemi Attuali Dell'ospedale Di San Benedetto Facciamo Pura demagogia Bisogna prestare Attenzione Io penso In maniera Ripeto Ancora Da scevra Da ideologie A quello Che viene detto Da parte Di Saltamartine Ad esempio Che sta Più volte Lanciando Al governo Nazionale Degli allarmi Che secondo me Sono fondamentali E che noi A prescindere Dovremmo appoggiare Perché non possiamo Chiedere alla regione Di riportare L'ospedale Di San Benedetto A livello Come merita Se il governo No Non sblocca Le assunzioni In sanità Perché se pensiamo Che noi Riportiamo Sull'ospedale Di San Benedetto Rubando Due dipendenti Da Ascoli Due da Fermo Due da Macerata Non funziona così Se noi pensiamo Di risolvere I problemi Di pronto soccorso Se a livello Di governo nazionale Non si cambiano Le retribuzioni Dei medici Di pronto soccorso Noi non risolviamo Il problema Allora Secondo me Questa materia Che ripeto Non ha ideologie Deve essere affondata Con una profondità Diversa Sentendo L'organo competente Dandogli Il giusto Riconoscimento Istituzionale Perché ci abbiamo Un dovere Di collaborazione Da un punto di vista Istituzionale Non possiamo Su questi argomenti Far vincere Le contrapposizioni Neologiche Qui dentro Noi abbiamo Un dovere Di collaborazione Con gli altri Enti pubblici Territoriali O non territoriali Che sia Per raggiungere Quello che è Un nostro Sacrosanto diritto Però Insomma Questo è un argomento Dove la demologia Secondo me Dovrebbe essere Tirata fuori Allora Io chiedo Come avevamo chiesto Insieme al sindaco Subito Di portare Come avevamo chiesto Agino Quando ha portato Quella delibera Forse anche lì Con troppa fretta Di riportare Il discorso In commissione Senza scadenze Perché è un argomento Secondo me Che va affrontato In questo momento Noi forse Ci siamo limitati Troppo All'assistenza ospedaliera Bisogna parlare Dell'assistenza territoriale Bisogna parlare Di altre cose Ci vuole tempo Perché è una materia Complessa Onestamente Partire da quel discorso Che va A vedere Quante risorse Sono state attribuite Rispetto agli argomenti Che noi abbiamo Dalla forza Che ci abbiamo Da un punto di vista Argomentativo Mi pare Insomma Riduttivo Per questo Io chiederei Un ritiro Per far sì Intanto Che vengano Diciamo Precluse Qualsiasi tipo Di pregiudiziale Da parte del centro-destra Perché posso immaginare Che è una lettura Iniziale Insomma Visto che viene Espresso Un giudizio politico Il centro-destra Sia naturalmente Non d'accordo E allora Penso che Partire con queste Preclusioni In una discussione Che non ci ha mai diviso E che è fondamentale Per tutti i cittadini San Benedettesi Penso che il ritiro Sia la cosa più opportuna Io avevo preso Questa reiterazione Della mozione Perché Quella Io capisco Che si sarebbe voluta Presentare la mozione Prima che presentassero Tutto Ma lì non c'è stata Occasione C'è stata una semplice Comunicazione Non ci hanno permesso Di Di Diciamo Proporlo E interloquire Capisco Che peraltro La reiterazione È stato un giusto Segnale Di sollecitazione Perché noi Ci vediamo In una situazione Che stenta Quanto meno Sull'esistente A riguadagnare Faticosamente Non stiamo Riguadagnando nulla Quindi Però È necessario Anche Che la regione Si è espressa Io penso Che lo debba fare Anche più chiaramente Di fronte Alla città Si debba prendere I suoi impegni politici Poi Voglio dire Per essere chiari Io penso Che qualcuno Le regionali Sulla sanità Le ha perse Sarà un problema Dell'attuale giunta Non perdere Le regionali Per la sanità Questa è la Forza che abbiamo Insieme alla forza Degli argomenti Perché Questa Noi Dobbiamo ricordare Che stiamo In una situazione Dove siamo Purtroppo L'unica zona Delle marche Che sta sotto Gli standard Dei servizi Che dovrebbero essere Offerti dalle leggi Non il Piceno San Benedetto Sull'assistente Dove siamo Prendere atto Che la regione Non lo tempera Quando detto A quale Diciamo Saremo i primi Chiaramente Come abbiamo fatto In passato A contestare Perché ripeto Qua partiamo Di lesioni Di diritti Oltretutto Insomma Di diritti Costituzionalmente Dei garanti Chiedo scusa Perché No Se non stiamo entrando Proprio nel merito Della mozione A quel punto Siamo costretti A votarla Quindi Io dico questo Alla consigliera Bottiglieri Deve decidere Se rinviare Considerato Ecco Mi do un giudizio Da super partes Perché sono il presidente Del consiglio comunale Quindi Non entro In merito Però Se Una mozione Un Un indirizzo Della sanità Fosse Un indirizzo Coeso Di tutta la maggioranza Sarebbe Una buona cosa Per la città Di san benedetto Però adesso Questa è una decisione Che deve prendere Non posso dare la parola Agli altri No 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 A nessuno Perché Se noi entriamo Nella mozione E poi dobbiamo votare Non è che possiamo Alla fine dobbiamo votare La mozione Va bene Cioè Mi sembra No ma se Puoi parlare Allora Stiamo Stiamo Nella mozione E poi andiamo a votare E che ve lo devo dire No Ah Andando Considera bottiglieri Puoi intervenire Prima tu Vieni Dai Intervieni Istituzionalmente Come se Adesso stessimo Diciamo Discutendo Sulla mozione Però va bene Allora Volevo intervenire Un attimo Rispondendo Al consigliere Muzzi La regione Marche La regione Marche E vengo Dal partito Socialista Perciò sono Di sinistra Allora La regione Marche In 35 anni Che ha governato Negli ultimi anni Che mi risulta Non so se risulta Pure a lei Pesaro Ospedale nuovo Angona Due ospedali nuovi Che sono regionali Macerata Un ospedale nuovo Fermo Due ospedali nuovi Probabilmente Qualche deficienza Ce l'abbiamo noi Nella provincia di Ascoli Perché la regione Ha funzionato Nella sanità Perché ha dato ospedali nuovi Ha dato servizi nuovi Allora la deficienza Probabilmente Sta nella provincia Di Ascoli Piceno Non sta nella regione Che ha governato Fino a qualche anno fa Poi Volevo rispondere All'altra cosa Cioè Quando si parla Di mozione Ha un'unanimità Le abbiamo viste tante Mi sembra Che non hanno funzionato Hanno partecipato A fare queste mozioni I consiglieri Le associazioni I consigli di quartiere L'unico risultato Certo qual è Assessore alla sanità Santa Martini Che ha detto Il 19 di gennaio Ospedale Unico Ospedale di primo livello Su due plessi Nella provincia di Ascoli Sono 15 anni Che è così Sono 15 anni Che questa Ha rivasta 5 Sono 15 anni Che questa Ha rivasta 5 Il comitato Fino a Prima delle elezioni Voleva ospedale Di primo livello Ha sempre detto Adesso ha cambiato idea Io non l'ho cambiata Io non l'ho cambiata L'idea E allora O facciamo un vento locale Se vogliamo salvare La sanità In questa provincia Se invece Vogliamo continuare A fare demagogia Ne possiamo fare Quando ne vogliamo Perciò Consigliere Musi E anche Giorgio Devex Anche Le mozioni Non devono essere Votate all'animità Se non c'è L'animità L'importante È portare avanti Il problema Per poterlo risolvere Grazie Grazie Consigliere Pasquali Dottoressa Dica Posso un suggerimento Vuole prendere dieci minuti Di sospensione No 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 Va bene No no Magari si consulta Con chi In qualche modo Va bene Cinque minuti Di sospensione Grazie 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 per portarsi un po' di silenzio, diamo la parola a Consigliere Contiglieri che nel frattempo ha deciso di caparsi. Ho riflettuto, poco tempo, ma ho un po' di riflettuto. Insomma, vi dirò per ripresentarla, per portarla in commissione, per avere, anche perché parlare di una cosa così importante, probabilmente a quest'ora non comporterebbe soltanto che non saremo tutti convinti. Dato che io sono convinta che è una mozione molto importante per la città di San Ferretto e per tutta la costa, per il viceno, attualmente per vi discuterla e portarla in commissione e discuterla in commissione e la ripiro. La ripresenterò immediatamente. Grazie. Grazie, Consigliere, per il buon senso. Passiamo al quindicesimo punto dell'ordine del giorno. Ordine del giorno, inizia prima di consigliere del gruppo consigliare Europa Verde e nascita Neletto, Paolo Danucci, Anneta Marchigiani, finirendo l'articolo 6, lega in materia di servizi pubblici locali, informe e richiede concorrenza. Prego, Consigliere Danucci. Grazie, Presidente. Questo è un ordine del giorno che ha avvocato un disegno di legge sulla concorrenza che è in discussione al Senato e che presenta alcune criticità. In questo ordine del giorno ne è evidenziata una che, a nostro avviso e anche sul suggerimento dei comitati che negli anni si sono formati a partire da prendere sull'acqua, sui beni comuni, sta portando avanti poi in tutti i comuni. E quindi vi leggo l'ordine del giorno. Il Consiglio comunale di San Ennio del Contro è premesso che per servizi pubblici locali si intende l'insieme di attività posti in essere dall'amministrazione pubblica per garantire la soddisfazione in modo continuativo dei bisogni della collettività di riferimento finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della stessa, che tal insieme di attività costituisce il governo dell'amministrazione pubblica e ne disigna la funzione di garanzia dei diritti degli abitanti del territorio di riferimento, ai quali vanno assicurati i servizi che siano rispettosi dei principi di qualità, sicurezza, accessibilità, preguaglianza e università. Considerato che la crisi prodotta dall'epidemia da Covid-19 evidenziata in tutti i limiti di una società unicamente regolata dal mercato, è a posto la necessità di ripensare un modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori come luoghi primari di protezione dei beni comuni e di realizzazione di politiche orientate alla giustizia sociale e alla transizione ecologica e dai comuni come garanti dei diritti dei beni comuni e della democrazia di prossimità. Visto l'articolo 6 della delega in materia di servizi pubblici locali del disegno di legge di concorrenza predisposto dal governo all'esame del Parlamento, rilevato a che l'articolo 6 sopravicato interviene direttamente sul ruolo dei comuni su gestione dei servizi pubblici locali ed in particolare ponendo la materia dei servizi pubblici nell'ambito della competenza esclusiva statale dell'articolo 117 secondo comma lettera P della Costituzione, definendo nell'ambito delle forme di gestione dei servizi pubblici locali la modalità della propria produzione da parte di tutti come pesantemente condizionata per una serie di adempimenti stringenti nel metodo e nel merito, rendendola di fatto risiduabile rispetto all'affidamento pubblicato, incentrando attraverso premialità il modello di pubblicità di gestione aggregata dei servizi pubblici locali, considerato che sulla materia della gestione dei servizi pubblici locali, 12-11 giugno 2011, si è svolto un referendum attraverso il quale la maggioranza assoluta del popolo italiano si è pronunciata contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi a partire dall'acqua di Napoli del Comune considerando che l'articolo 6, oltre a negare la volontà popolare sovracitata, metterebbe in discussione alla base la funzione pubblica e sociale dei comuni, costringendo di fatto a ruolo di ente unicamente diputato e a mettere sul mercato i servizi pubblici di propria titolarità con grave pregiudizio dei propri doveri e di carattere dei diritti tra volontà di riferimento, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'Aggiunta Comunale a richiedere formalmente lo straccio dell'articolo 6 dal disegno di legge sulla concorrenza, a promuovere anche in concorso con altri enti locali l'avvio di una discussione pubblica sul ruolo dei comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità, dentro di un contesto di ripensamento del modello sociale dettato dalla società di affrontare la diseguaglianza sociale e la crisi climatica evidenziate dalla pandemia. A inoltrare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione, alla Presidenza della Provincia e alla Presidenza di Ance e Umbita in adeguata applicazione. Praticamente in parole semplici il principio della concorrenza da regola diventa il principio unico, questa è la gravità di questo disegno di legge, e costringe addirittura i comuni a motivare in anticipo perché vogliono continuare a autogestire i servizi pubblici, cioè non il contrario, non il comune che motiva il perché lo voglia mettere a gara, ma il comune costretto a motivare perché lo vuole tenere. Siamo al rovesciamento dei principi costituzionali e nemmeno lo stesso diritto europeo impone questo, il contrario, non impone assolutamente questo tipo di prevalenza della concorrenza. Poi è un mercato che conosciamo tutti di storto perché ovviamente è in mano a quelle 4 o 5 punti utili molto grandi, dalla ERA alla 2A eccetera, quindi è un'accento concorrenza in realtà. Quindi fortunatamente al Senato sono stati presentati mille emendamenti, molti dei quali riguardano proprio questo articolo 6 perché c'è proprio questa forte preoccupazione della direzione che può prendere la gestione dei beni comuni anche in contrasto con l'esito referendario con l'approvazione di questo articolo 6, è importante anche sostenere questo movimento trasversale parlamentare attraverso come potrebbe fare il Comune di San Vento, ma stanno facendo anche anche i comuni su iniziativa di comitati dell'acqua dei beni e i comuni, sostenere questa iniziativa attraverso l'invio di questi ordini del giorno. Grazie. Volevo dire che questo assistito è stato fatto un bel comune, un'altra parte di pedaggine, di cui anche la sanità è un bel comune molto importante. Io ho partecipato a qualche incontro che è stato fatto da queste associazioni, che si sta dando veramente tanto da fare, perché veramente stiamo rischiando di perdere dei servizi essenziali come possono essere l'acqua. Noi sappiamo l'epoca che è successo e perché stiamo pagando tanto di più attualmente sulle progette, tutti noi, di perdere l'acqua, il problema dei rifiuti e così tante altre cose. Per cui io sono assolutamente colorevole a questa mozione. grazie consigliera Ottilevi. Consigliera Luciana D'Aveloci, prego. Anch'io sono assolutamente d'accordo e effettivamente l'articolo 6 a zero è in qualche modo la storia della funzione pubblica e sociale dei comuni. Il disegno di legge è già stato portato avanti come disegno di legge sull'autonomia regionale differenziata e in questo modo, lasciando così l'articolo 6, si aumentano le disegno di legge sull'autonomia regionale. Qui si ve lo sono assolutamente d'accordo. Grazie. Bene. Grazie consigliera Ottilevi, non sono altri interventi. Consigliere Giorgio L'Aveloci. E ti chiede solo uno del gruppo, non sarà poco più. Grazie. Grazie consiglieri, se non ci sono altri interventi, passiamo a lui. Allora, l'iniziativa di consigliere il gruppo la questione del gruppo Marelli, un rischio del gruppo Marelli che si viene in compro... ... ... Grazie a tutti. Ah, sta parlando a pensare di cessare a me. Chiudiamo il 26 marzo 2022. Ovviamente a tutti un buon weekend. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.